Radio 2 presenta Il castello di Enri di Valerio Evangelisti Regia di Paolo Modugno Prima puntata Castiglia, castello di Montiel 1369 L'inquisitore Eimerich sta salendo a fatica la collina che conduce al maniero accompagnato dall'anziano collega Gallus di Neuhaus Si ode similare un vento impetuoso che copre lo scrittiolio dei passi dei due inquisitori che si muovono su un terreno impervio Padre Gallus tenta di superare l'urlo del vento Fate come me, padre Eimerich Tenete sollevata la tonaca altrimenti continuerete a inciampare sulle rocce Continuando a inerpicarsi gli risponde sdegnoso padre Eimerich No, padre Gallus rischio inciampare che muovermi in maniera poco dignitosa Per il resto il castello di Montiel è già in vista Si, lo vedo sulle nostre teste tra il buio e le nubi Tra breve ci imbatteremo in qualche sentinella di Pietro il Crudele Mi raccomando, lasciate parlare me Le guardie di Enrico di Trastamaran non ci hanno nemmeno visto Non si direbbe che Enrico tenga Montiel sotto assedio Non fatevi illusioni, padre Gallus I soldati di Enrico danno per scontata la vittoria Per questo la loro sorveglianza è così poco rigorosa Ma vedrete che gli uomini di Pietro il Crudele saranno molto più guardini Fermi, dove siete? Portatevi al centro della strada e fatevi riconoscere Come vedete siamo due frati dell'ordine di San Domenico Io sono Nicola Seimerich da Gerona mentre il mio confratello è padre Gallus di Neuhaus dei Domenicani di Bohemia Da queste parti preti e frati non sono graditi Il clero di Montiel lo sa benissimo Prima che quella nube copra la luna dovete darmi un buon motivo della vostra presenza qui o sarete trattati come spie Sappi, soldato che hai di fronte due esponenti della Santa Inquisizione Sappi anche che se ci troviamo qua è perché il tuo re Pietro di Castiglia ci ha supplicati di venire Se ostacolerai la nostra missione farai i conti con la sua collera Non ho avuto ordini in merito Comunque venite avanti Al castello sapranno se state dicendo la verità Magister, ma questi sono soldati saraceni Guardate le vesti lunghe i torpanti le picche Siamo scordati da infedeli Sì padre Gallus sono saraceni l'emiro di Granada ha mandato in soccorso di Pietro il Crudele 7000 cavalieri e non so quanti fanno Sembra che non sia servito a molti Enrico ha truppe molto migliori Penso che Pietro stia scontando questa dimostrazione di impietà essersi alleato dei maomettani Guardate che castello sinistro Non ne ho mai visti di così grandi Sembra grande perché le sue mura racchiudono un intero villaggio Osservate oltre i merli i camminamenti Si vedono le pale di un mulino e anche il campanile di una chiesa Quelli attorno a noi sono gli orti coltivati dagli abitanti Sono tutti devastati Sì Ricordate che qui si è combattuto per mesi Il torrione più alto ha un aspetto impietante Il suo profilo ricorda un disumano Aprite Porto dei visitatori Dicono di essere attesi dal re Un atrio davvero enorme è gelido come una cantina Se non verranno uccisi dagli uomini di Enrico tutti questi soldati moriranno di freddo L'aria di questo posto è impregnata di bomba Mi sfida la collera di Dio non può aspettarsi nulla di meglio Re Pietro lo ha fatto e ora ne paga le conseguenze Guardate quel vecchio barbuto che ci sta venendo incontro Tutto mi aspettavo salvo che di vederlo qui Padre Nicolaus vi ricordate di me? Certo che mi ricordo di voi Pedro Samuel Halevi il rabbino divenuto ministro delle finanze di Pietro di Castiglia ci siamo conosciuti nel 1361 a Granada Sì sono passati otto anni dal nostro primo incontro eravamo entrambi ospiti dell'emiro Mohammed V il solo alleato su cui possa ancora contare il mio re Alleanze del genere conducono la perdizione prima dell'anima e poi del corpo Questo è padre Gallus di Neuhaus inquisitore di Bohemia Si trovava con me a Saragozza quando mi è pervenuto il messaggio di Pietro di Castiglia Stavamo per partire per Roma La nuova sede del pontefice urbano V A nome del mio sovrano Vi ringrazio di aver rinunciato ai vostri progetti per accorrere qui Ma immagino che sarete stanchi No, lo sa il signore Vi ho fatto allestire una stanza nello stesso mastio che ospita gli appartamenti reali Appena vi sarete sistemati il mio signore vi aspetta a cena Accetteremo con piacere Oltre che stanchi siamo anche affamati Grazie Allora seguitemi Un servo vi condurrà al vostro alloggio E' un musulmano ma non ce ne restano altri a parte pochi ebrei Accolti da un giudeo scortati da un musulmano Padre Eimerich in questo castello dimora l'empietà più sfacciata Avete ragione Padre Gallus Ma ora cacete Dalle feritoie di questo camminamento potete vedere il villaggio di Montiel poche case e pochi abitanti caldo torrido durante il giorno vento gelido durante la notte e sospetto che sia stato il vento a modellare il castello e le case in forme tanto strane Dove siamo diretti? La vostra stanza è in cima a quella scala chiocciola Ecco il servo che vi accompagnerà Amit Mio signore Condugi i signori al piano di sopra Signore salvaci Non appena sarete sistemati abbiate la compiacenza di scendere Il mio signore anche se l'ora è tarda avrebbe piacere di cenare in vostra compagnia Sarà un onore Ah Un'ultima cosa Se udite dei rumori insoliti non fateci caso Sospetto che la roccia su cui sorge il castello si stia assestando Tonfi e scricchioli sono normali In tutti i vecchi edifici si odono dei suoni di origine ignota Già ma questi Basta è tempo che raggiungiate il vostro alloggio Il servo resterà a disposizione Vi scorterà fino al luogo della cena quando sarete pronti A più tardi Questa è la stanza che è stata riservata allo signore Dove si trova illicite? Di solito gli ospiti fanno i loro bisogni fuori dell'uscio come avviene in tutti i castelli Vi attendo in fondo alle scale Mio Dio che leta Mario Quei due paglierici devono essere pieni di pulci Re Pietro ci ha sistemati in un alloggio del corpo di guardia Padre Gallus non potevamo sperare che un castello sotto assedio avesse una stanza per gli ospiti Ah, sono esausto Che ore saranno Magister? Con pieta deve essere trascorsa da parecchio Credo che manchi poco al mattutino Vi va bene il pagliericcio vicino alla finestra? Non preoccupatevi per me Io dormirò sul pavimento Sul pavimento? Ma qui si gela Preferisco il freddo a pulci e parassiti Il freddo è amico della purezza e il caldo del peccato Una dose ragionevole di freddo Che il cielo ci protegga Cos'è stato? Ci avevano avvertiti padre Gallus La roccia subisce degli assestamenti Ma quello era un grido Il grido di una creatura Nelle cantine del castello deve nascondersi un mostro spaventoso Era l'urlo di un mostro vi dico un demore infernale Finchè è possibile mi attengo alla soluzione più razionale padre Gallus quello che abbiamo sentito non era un urlo non era un urlo A Levi ci aveva preannunciato rumori strani bene ne abbiamo sentito uno Padre Eimerick vi ripeto che quello era un grido nessuna roccia metterebbe un suono così acuto veniva dai sotterranei ciò significa che per giungere a noi quella specie di urlo ha dovuto superare chissà quanti anfratti e corridoi distorcendosi ogni volta sì sembrava un grido ma poteva essere qualsiasi cosa per me è la voce di Satana questo castello andrebbe bruciato dalle fondamenta Satana non ha bisogno di urlare per affermare la sua presenza venite è tempo che scendiamo a tavola scopriremo la verità sì c'è una verità da scoprire com'è che ti chiami servo? Hamid signore bene Hamid accompagnaci alla sala da pranzo mio dovere signore padre Gallus tra breve dovremo dare prova di tutte le qualità che si richiedono di un inquisitore astuzia intelligenza capacità di dissimulare perché il nostro interlocutore non è un uomo qualsiasi e fate attenzione prego signori sapete bene per quanti anni ho servito l'inquisizione magister non è facile ingannarmi ma voi non avete mai conosciuto da vicino Pietro il crudele a proposito sapete perché viene chiamato il crudele per i suoi delitti tra cui l'uccisione dei fratelli Fadrique e Juan vi prego non ci volare quanto a delitti ne ha commessi non più di qualsiasi altro sovrano incluso il suo rivale Enrico di Trastamara non è quello il punto no la colpa principale di Pietro di Castiglia è quella di aver cercato di ridurre il potere della nobiltà si contano a decine le casate illustri che è estinto nel sangue su 36 ceppi nobiliari che esistevano quando ha cinto la corona ne restano poco più di una dozzina e le casate superstiti le ha fatte torchiare dagli amministratori ebrei messi a capo delle città castigliane sotto la guida del ministro delle finanze il nostro Alevi se non avesse commesso altri crimini questo solo sarebbe sufficiente la compiacenza verso i giudei assassini di Cristo attenzione signori e anche verso i saraceni da quando ha fatto strangolare il suo ex alleato Abu Saeed Pietro il Crudele è in rapporti quasi fraterni con Mohamed V e nessuno parla più della riconquista di Granada ma questo per ora non ci deve interessare tenete sempre presente il mandato che ci ha affidato Papa Urbano quando gli ho comunicato che Pietro mi voleva presso di lui siamo arrivati signori in cialla dieci liberi accettare l'invito studiare la situazione e individuare la soluzione del conflitto più conveniente per gli interessi di Santa Madre Chiesa la sala da pranzo è oltre quella tenda entrate pure e scendete la scalinata non vi annuncio perché il re Pietro attende il vostro arrivo ma è una specie di orge guardate le dame non sono vesti quasi trasparenti alcune sono addirittura a seno oh Dio ci liberi purtroppo è una scena frequente nella vita delle corti farci venire qui è una vera provocazione e quale sapete non ditemi che è quel personaggio dai tratti brutali che affonda la mano nella scuola cercherò di farmi udire da questa masnata di ubriachi padre Gallus vedo che questo non è luogo per noi è bene che lasciamo subito questo castello e ritorniamo da dove siamo venuti padre Imerich restatevi prego ci liberiamo subito di questa squadrina va te ne streglie andate via tutte quante ora va meglio Sire molto meglio scusate padre Imerich non era nostra intenzione mancarvi di rispetto molto spesso i religiosi che abbiamo ospiti desiderano condividere i nostri passatempi libero non so Sire esistono preti indegni che soccombono al demone più pericoloso quello della lussura non è il mio caso resterò e vi ringrazio dell'invito sono molti anni che non ho occasione di vedervi e purtroppo le circostanze di questo incontro non sono delle migliori ma lasciate che vi presentiamo ai nostri cavalieri questi è padre Nicolas Imerich da Gerona inquisitore generale del regno d'Aragona e con lui c'è padre Gallus di Neuhaus non solo è un autorevole membro della santa inquisitore ma anche un esorcista come mi avevate chiesto già ce ne sarà bisogno sedetevi dove cosa aspetti idiota di un servo apparecchia per i nostri ospiti e subito Sire padre Imerich vorremmo presentarvi Man Rodriguez de Sanabria uno dei pochi nobili che ancora coltivano il dovere della fedeltà al proprio re la lealtà è degli uomini Sire la fedeltà è dei cani spero che più che fedele il vostro amico sia leale verso la corona ma come osate crediamo di avervelo detto la prima volta che ci siamo incontrati padre Imerich voi somigliate a noi peccato che non abbiamo avuto occasione di frequentarvi più spesso ora bando agli scherzi assaggiate questa carne di cinghiale condita con zenzero cinnamomo e semi di anice se quel bastardo di Enrico si è preso i nostri nobili non ha potuto però rubarci i nostri cuochi sì la carne sarà davvero eccellente il vino di calatrava di qualità ma io e padre Gallus non siamo venuti a Montiel per banchettare diteci Sire i motivi del vostro invito padre Imerich è noto che voi siete una persona intelligente avrete già capito che se vi abbiamo fatto venire è perché abbiamo bisogno del vostro aiuto un bisogno di speranza so che l'andamento della guerra non mi è favorevole vedo come potrei soccorrere non si tratta di questo abbiamo di fronte lo stesso nemico che avete sempre combattuto Pietro IV d'Aragona? no Sata ora vi spieghiamo Sire Alessi che ci fai devi davvero avere un buon motivo per disturbare la nostra cena signore vieni qua e giustificati ma vada di essere convincente Sire è apparsa di nuovo era lei l'hanno vista anche altri e non la faceva pensare che fosse morta da tanti anni mi stai prendendo in giro piccolo giudeo lo sai che Aristotoli mi assicuro Sire l'abbiamo vista in tanti era proprio lei come l'altra volta sembrava che la regina avesse delle specie di ani e poi aveva miserabile come osi chiamarla regina hai finito di arricchirvi a spese nostre maledetta aiuto aiuto Sire ricordatevi chi siete battiglia non potete uccidere quest'uomo state dimostrando paura non è degno di voi ne va della vostra dignità Sire già avete ragione ci siamo lasciati trasportare Pedro spero che non ti abbiamo stretto troppo il collo respira respira a fondo sei cianotico va tutto bene Sire ormai dovresti essere abituato ai nostri sfoghi di collera non farci troppo caso non abbiamo dimenticato l'amico che fuggì con noi dalla prigione di Toro l'unico amico che ci sia rimasto al contrario di questa gente che approfitta della mia tavola che fate voi altri siete qua per godervi lo spettacolo sparite immediatamente o il nostro voglia vi dimostrerà cosa attende chi manca di rispetto al proprio re finalmente siamo soli padre Emmerich e voi padre Gallus di non so dove scusate il nostro nervosismo viviamo in una situazione insostenibile e siamo circondati da ruffiano siete sicuro di avere ancora bisogno di noi Sire oh sì un bisogno vitale però non possiamo rimanere qui è pieno di spie seguiteci nei nostri appartamenti reverendi padri vieni anche tu Pedro la tua presenza è indispensabile comandante non vogliamo scorta ci basta un servo con una torcia che ci faccia strada fino al mastio ho la scorta di due inquisitori l'ideale quando si è perseguitati dal diavolo padre Emmerich padre Gallus di non so dove seguitemi a passo rapido prego magister quell'uomo Pietro il crudele non è solo Empio è completamente pazzo avete colto il riferimento di Pietro alle ricchezze di Alevi sì dicono che Alevi abbia finanziato di tasca sua la costruzione della sinagoga di Toledo allora padri muovetemi dieci anni fa nel 1359 anno domini il re ha fatto torturare il suo amico con feroce inaudita il signore ci liberi voleva conoscere il nascondiglio delle sue ricchezze Alevi lo ha rivelato pare di sì il tesoro era nelle cantine di una miserabile bicocca Pietro il crudele se ne è impadronito e poi ha restituito cariche e onori al suo ministro come se niente non lo fosse stato e se adesso spera di ricavare da lui altri soldi e di usarli per sfuggire all'assedio ma si illude attento magister re Pietro ci sta ascoltando eccoci arrivati guardatevi intorno reverendipale qualche tendaggio di velluto di fiandra poche cassa punk non c'è rimasto altro veramente dormite qui sire non vedo nessun letto il mio giaciglio è oltre quella volta ad arco per stanotte avete bisogno di me sire no svaldrine che cosa ci facevi nel nostro letto vi aspettavo sire beh per questa volta l'assaggio che abbiamo avuto delle tue carni durante il banchetto non avrà seguito questo castello smorzerebbe la virilità di un toro toglivi dai piedi vai veniamo a te Pedro che cosa hai visto esattamente la stessa scena delle altre volte sire un'ombra altissima in parte confusa ma con il busto ben delineato grandi ali bianche e con un viso identico a quello della cosa di bianca di borbone e ha detto qualcosa no no non ha detto nulla la la visione si è mossa lungo la stanza con lo sguardo fisso nel vuoto senza far rumore è sembrata il sparire nel muro capite ora inquisitore Eimerick lo capite che cosa stiamo vivendo sire non basta l'assedio non bastano i tradimenti non basta l'odio del nostro sedicente fratello Enrico no dobbiamo anche sopportare le apparizioni ricorrenti del fantasma della nostra prima moglie sire quella baldracca sverginata da Padriche mentre era in viaggio di nozze per le nozze con noi calmatevi sire a calmarmi ricordiamo al diavolo il plurale maestatis ricordo ancora le lacrime ipocrite di Bianca mentre sgozzavo mio fratello Padriche con le mie mani quando finalmente potei catturarla non cercava nemmeno di fingere la sgualdrina maestà la presi per i capelli e le immersi il faccino nel sangue c'era sangue dappertutto il mio amato fratello si era trasformato in una fontana che colava vino peccato che non abbia sofferto di più libero il nostro dunque ciò che si racconta è vero fu quello il motivo per cui seppelliste vostra moglie in una prigione fino al momento della sua morte il castello di Siduegna non era affatto una prigione certo lei non poteva uscire né vedere nessuno ma è falso che noi l'abbiamo fatta pelenare come sostengono i nostri nemici è morta di crepacuore e non meritava altro e ora la sua ombra mi perseguita dunque sire il fantasma di vostra moglie si aggira per questo castello un fantasma alato per di più signor Alevi quante volte è stata vista oh parecchie volte signor Eimerich padre Eimerich eravate sempre presente beh si si ma con me c'erano dei testimoni poco fa il mio servo in altre occasioni il signore di Sanabria che credo abbiate conosciuto e anche donna Leonor Lopez le Cordoba che dimora nel castello Pedro vi abbiamo già avvertito quel nome non deve essere pronunciato in nostra presenza avete ragione sire avete ragione sire non credo ai fantasmi né alle fanfaluche dei negromanti so però che satana libera per insidiare il regno di dio può servirsi di qualsiasi strumento inclusi gli spettri ma l'inquisizione non dà la caccia alle ombre bensì a uomini in carne e ossa che si sono votati al maligno penso quindi di non fare al caso vostro un qualsiasi prete può darvi conforto se è questo che cercate non so cosa far ma è del conforto il motivo per cui vi abbiamo chiesto di venire a Montiel è tutt'altro sapete padre Eimerick che al seguito di Enrico e dei nostri assedianti c'è un vostro conterraneo un catalano un aragonese si chiama Ramon de Tarrega sedicente teologo e autore di trattati sull'invocazione dei demoni signore salvaci crediamo che lo conosciate lo conosco lo conosco e come più volte l'ho fatto arrestare ma quel negromante è molto popolare a Saragozza la plebaglia ha sempre ottenuto dal re la sua liberazione ci sono stati persino tumulti di piazza e per di più né Pietro d'Aragona né il vescovo l'op de luna hanno mai consentito che sottoponessi Ramon de Tarrega a tortura il re per complicità il vescovo per effeminatezza se permettete magister dite padre Carlos credo di conoscere Ramon de Tarrega meglio di chiunque altro come sapete ha appartenuto anche lui all'ordine di San Domenico benché sia di famiglia giudea sì abbiamo studiato teologia assieme presso lo studio di Tolosa a quei tempi era un giovane intelligente sì straordinariamente erudito e poi è preso a interessarsi un po' troppo di negromanzia e di magia padre lasciate perdere i ricordi quel Ramon coltiva la magia nera adora Satana e va bruciato non può essere un caso se siamo perseguitati dagli spettri e da altre stregonerie e se Enrico ha voluto con sé quel personaggio è perché conta di servirsene ai nostri danni ne convenite padre Eimerick convengo sul fatto che Ramon de Tarrega debba essere bruciato vivo parecchi esponenti del clero sono tolleranti verso la negromanzia e la praticano addirittura ora io penso che che succede è come se negli scantinati una bestia inaudita cercasse di uscire dal sepolcro urlando la propria disperazione è l'urlo di un demonio Sire è pur la roccia no non ripeteteci che si tratta di assestamenti della roccia non siamo stupidi è pur la roccia Sire non sono assestamenti Sire ora credo di capire perché avete fatto venire me e padre Gallus ho deciso di restare ma devo avvertirvi di una cosa cercherò di sventare le insidie sataniche che si addensano su Montiel ma questo non significa che io parteggi per voi vi serve nulla due cose una sala ampia che possa ospitare il tribunale che intendo istituire e la disponibilità dei vostri carnifici avete qui delle segrete è una sala di tortura oh sì ben attrezzata chi ha provato i miei supplizi sa che è impossibile resistervi non è vero Pedro è vero accompagno io i padri nella loro stanza non giudicate troppo male il mio re è un po' impetuoso ma non è così cattivo come si dice è crudele adesso poi sente che la sconfitta è vicina e ciò lo rende nervoso nervoso poco fa stava per ammazzarvi come mai sopportate tutto questo non è stato sempre così una volta eravamo amici e poi al castello c'è mia figlia Miriam e io devo pensare anche a lei ma se volete ne parleremo in un altro momento ora dovete essere stanchi buonanotte buonanotte signora Levi domine buonanotte padre Gallus magister dobbiamo andare a trovare Enrico di tre stamane domani stesso o domani l'altro comunque presto state scherzando c'è un assedio in corso e noi siamo ospiti del nemico mortale di Enrico ospiti appunto non alleati un'altra cosa che faremo è visitare i sotterranei di questa locca ma che dite magister non è compito nostro andare poi dovremo saperne di più su donna Leonor Lopez de Cordova è chiaro che si tratta di un elemento chiave nella partita che si gioca qui che cos'è che vi induce a pensarlo padre Enrico io avevo a malapena afferrato il suo nome uno sguardo di troppo tra Pietro e a Levi del resto il re ha detto esplicitamente che non desidera che il nome della dama venga pronunciato non può essere per il fatto che si sollazza con la sua ancella la condotta peccanonesa di Pietro è risaputa ma non ha mai cercato di nasconderla eh no padre Gallus ci deve essere dell'altro lo stesso fatto che una donna di rango dimori in un castello assediato lontana dal marito dai figli fa pensare senza considerare che questa stessa Leonor sarebbe stata tra i pochi testimoni delle apparizioni della regina defunta di ciò che dice da Levi non mi fiderei troppo la menzogna per i giudei è una seconda natura padre Gallus credete davvero che io mi fidi di lui l'unica parte che approvo del manuale per gli inquisitori di Bernardo Gui è quella che tratta della perfidia degli ebrei è evidente che Pietro sta subendo non uno ma tre assedi a parte quello di suo fratello Enrico c'è l'altro l'impronta diabolica che fa probabilmente capo a Ramon de Targa e poi c'è quello più sottile che gli tende a Levi alimentando le sue paure e lesinandogli i finanziamenti ma voi padre Enrico cosa ne sapete? insomma magister siamo capitati in un nido di libere di serpenti padre Gallus di serpenti perché è il serpente la bestia di Lucifer ah libero non sdomine padre guardate dalla finestra è quasi l'alba e la vista è migliore malgrado le nubi vi pare che ci troviamo in un castello come gli altri? beh questo è molto più grande grande? ma dite pure immenso ho contato nove torri dieci col mastio centrale disposte a forma di esagono irregolare allungato in verticale visto dall'ingresso otto torri ai lati di cui sei tre e tre esattamente parallele dunque i lati più lunghi il mastio al centro a sud del villaggio e un torrione isolato in mezzo al triangolo in basso in basso beh tanta regolarità e pressione in effetti si tratta di un disegno architettonico complicato ma perfetto chi l'ha concepito non ha agito a caso d'altra parte le architetture non sono mai il prodotto del caso pensate alle cattedrali alle loro proporzioni al loro orientamento le cupole i campanili a un architetto cristiano circa con la regolarità la massima semplicità l'architetto di questo castello invece ha cercato la complicazione volete dire che voglio dire che le cattedrali sono consacrate a dio e questa rocca sembra consacrata a qualcun altro in nomine patris e figli fate bene assegnarvi avete appena evocato chi sapete in nomine patris ed ecco che vi segnate di nuovo padre gallus con la vostra esperienza dovreste ormai sapere che un inquisitore ha una sorta di familiarità col signore delle mosche il suo mestiere è affrontarlo a viso aperto senza mai abbassare gli occhi e non ha alcun bisogno di segnarsi perché dio è sempre con lui a differenza dei demoni dio non ha parole o gesti particolari che possano evocarlo è al fianco di chi lo serve è lontano da chi gli disobbedisce avete ragione magister è che sono molto stanco anch'io via sistemiamoci in questo porcile che ci hanno dato come stanza avete ancora intenzione di dormire sul pavimento padre Eimerick adesso si gela proprio prenderete freddo il freddo mi accompagno dalla nascita padre ma perché proprio vicino alla finestra sistematevi almeno dalla parte dell'uscio come sto facendo io no no padre Gallus sarò sincero voi siete vecchio e come in molti vecchi il vostro odore non è gradevole mia colpa mia colpa io odio dormire in compagnia d'altri ma soprattutto di gente anziana la finestra aperta mi farà dimenticare la frore della vostra carne anche se c'è il rischio che la torcia finché resta accesa richiami qualche insetto ma 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 vi rendete conto di ciò che dite siete in peccato dov'è la vostra carità cristiana su via non prendetevela presto forse puzzerò come voi è inutile infiorettare la realtà dei fatti quanto alla carità cristiana si esercita verso i portatori di menomazioni fisiche o spirituali lasciate che mi distenda sul mio mantello e poi puzzate tranquillamente forse scaccerete i parassiti che infestano le vostre coperte non parlo meglio così spegnete la torcia grazie e se volete pregare fatelo al buio come farò io ma guarda fuori c'è tanta luce che sembra giorno è già giorno l'alba deve essere già trascorsa no non è questo la luce è troppa venite venite a vedere padre Gallus correte vengo vengo sempre che il mio odore non vi disturbi adesso ho altro a cui pensare guardate là in fondo al cortile voi vedete la stessa cosa che vedo io si la macchia di luce è molto intensa ma mi sembra di di scorgere il profilo di una donna che corre si una donna nata proprio così padre e la luce è emanata da lei voi riuscite a vedere che cosa legge tra le braccia si magister direi che è un piccolo corpo umano forse il corpo di un bambino si dirige verso il torrione del cortile meridionale sta sparendo alla nostra vista ecco non si vede più forse è entrata nella torre infatti tutte le feritoie brillano come se qualcuno avesse acceso migliaia di torce adesso però il fulgore si attenua anche la luce dietro le finestre si spegne padre Gallus ora abbiamo la prova che in questo castello è satana a farla da padrone libera nos domine amen avrei la tentazione di visitare adesso quella torre però comincio ad essere davvero stanco ci penseremo domattina ma come fate ad essere così tranquillo la parte per cui combatto è invincibile per definizione padre richiede solo volontà determinate ad affrettare il suo trionfo e capaci di essere più astute e feruci delle forze del male è questa la nostra missione padre Gallus ora coricatevi vi prego ma lontano da me ho capito grazie padre e domattina spulciatevi bene non possiamo affrontare il diavolo coperti di parassiti ho capito ho capito buonanotte padre buongiorno magister vedo che siete riusciti a dormire malgrado la durezza del vostro cecilio che ore saranno padre Gallus i campanili hanno battuto da poco l'ora prima padre Reimerick nel castello di un signore timonato di Dio si celebrerebbe la messa ma dubito che qui la regola sia rispettata venite cerchiamo un servo chi cindichi le cucine abbiamo bisogno di una colazione abbondante di un signore all'entrada del tesclar eia per giocare e cominciare eia e per gilio si vittare eia con la regina mostrare che sia musa alla via alla via angelo ecco voi signori una brocca d'acqua zuccherata tinta di vinello del formaggio stagionato e dei pezzetti di pesce di fiume oltre al pane naturalmente signore benedici questo cibo amen non chiamarci signori chiamaci padri o frati non vedi la vesta che indossiamo sono ebreo signori tutti noi domestici siamo saraceni o ebrei ebreo e non te ne vergogni neanche un poco giovane impudente ma dire il vero no sono comunque fedele al mio re la tua qualità di giudeo non ti esime dal conformarti alle norme cristiane che impongono che un religioso sia chiamato padre ricordati che gli ebrei sono tollerati tra noi solo quale testimonianza di ciò che esisteva prima di Cristo Pietro il crudele risponderà a Dio della sua eccessiva liberalità padre Gallus lasciate perdere notate piuttosto che ci viene servita una colazione di tutto il riguardo pure in un castello assediato da dove vengono i viveri non lo so signore in verità non sono mai mancati questo deve essere il refettorio del corpo di guardia è così signore i soldati hanno già mangiato si signore ma hanno dovuto interrompere la colazione e correre ai propri doveri doveri si prepara un attacco non credo penso che siano impegnati a scavare nuove gallerie strumenti di difesa immagino qualche mese fa vi avrei risposto di sì ma adesso non si capisce più tutta la collina su cui poggia il castello è traforata dagli scavi che si immergono fin nelle viscere della terra a quanto mi ha detto un ufficiale le gallerie principali sono 22 senza contare le diramazioni minori 22 e perché 22? non chiedetelo a me signore se permettete torno ai miei obblighi la razza giudea ha sempre portato al tradimento col giovane ha appena rivelato a due sconosciuti un probabile segreto militare se lo dicessimo al re Pietro sarebbe sicuramente fustigato a morte se davvero è un segreto il colpevole vero non è lui ma l'ufficiale che ne ha parlato con un uomo di basso rango di basso rango è giudeo capisco la vostra espressione di disgusto il mio disgusto è dovuto soprattutto al fatto che il vino è dolciastro e che questo pesce è pieno di spine padre Gallus io desidero più che mai spezionare i sotterranei di questo castello non avete notato un fenomeno curioso no quale? siamo in piedi da un'ora buona e non abbiamo udito alcuna scossa di assestamento e nemmeno i cigolini e gli stridori che ci hanno tormentato per tutta la notte è come se questo edificio intuisse la differenza tra giorno e notte e al mattino smettesse di di assestarsi forse perché il vento si è calmato ma gesto guardate quanto il cielo è terso stamattina si certo è una risposta plausibile ma non vi sconcerta che ho una fortezza tanto poderosa possa essere sensibile ai colpi di vento avete ragione certo è preoccupante ma ma perché vi alzate? perché non ne posso più state facendo con le mandibole un rumore disgustoso non bastavano le lische di pesce e il vino che sembra melassa annacquata ci voleva anche il fracasso dei vostri denti ma che ne ho pochi ma e allora oggi si vive troppo a lungo un tempo la gente moriva quando le sue funzioni fisiche cominciavano a declinare adesso si vedono in giro vere carcasse ambulanti ma tant'è se la provvidenza vuole ciò avrà i suoi motivi su lasciate lì quella roba e seguitemi dove è finito il nostro servo? dove devo accompagnare i signori? immagino che il re stia ancora dormendo portaci negli appartamenti del ministro Alevi vogliate venirmi dietro e fate attenzione all'entrada per gioiare come un sacco e per gioiare come un sacco e per genosi ritardi e con la regina mostrata padre Eime credevo che fossimo diretti al maschio che ospita gli appartamenti del re questo castello è un labirinto non capisco più dove ci troviamo servo come ti chiami? Isaac signore padre dove ci troviamo Isaac? il signore Alevi ha appartamenti propri lontani da quelli del re stiamo percorrendo uno dei tanti camminamenti interni senza aperture sul villaggio né sui cortili noterete che è in discesa si stiamo scendendo sbaglio passiamo da un torrione a un altro è così il signore Alevi dimora nel primo torrione sul lato occidentale della cinta di mura vi stiamo entrando proprio ora però il signor ministro non abita nella torre ma negli scantinati e perché mai? ama forse la compagnia dei ratti? da un infedele bestemmiatore di Cristo c'è da aspettarsi questo e altro signori ci sono domande a cui non so rispondere vedete quelle finestre a sesto acuto? tenetevene lontani il davanzale è basso c'è il rischio di cadere cadere dove? qui siamo nel sottosuolo quest'aria fredda da dove viene? stiamo costeggiando un abisso sotterraneo una cavità smisurata di cui nessuno ha mai potuto scorgere in fondo qualche sbadato vi è accaduto ma il suo urlo si è perso nel nulla in effetti le finestre si aprono sul buio ma è facile capire che si tratta di una voragine da qui si accede agli appartamenti del signor ministro e di sua figlia di solito non vuole visitatori ma questa volta forse farà un'eccezione padre Eimerick e padre Gallus signori non dovevate scendere fin qui sarei salito io a prendervi nelle vostre stanze c'è un motivo per cui non avremmo dovuto venire qua giù no 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 è solo che non dovevate disturbarvi venite andiamo di sopra alla luce resteremo qui possibile che un uomo del vostro rango sia costretto ad abitare questa specie di sotterraneo re Pietro avrebbe potuto certamente trovarvi una sistemazione migliore vi assicuro che le mie stanze sono più che confortevoli venite vi dico mi piacerebbe visitare i vostri appartamenti se non sono degni della vostra carica manifesterò a re Pietro la mia indignazione vi assicuro signore che vi sbagliate è tutta colpa di questo serbo incapace perché li hai condotti qua giovane idiota esci e chiudi la porta ma io fattele sei troppo stupido per appartenere al nostro popolo su via non prendetevela con questo povero domestico ha avuto solo il torto di obbedirmi una curiosa collezione di bambole di Pietro perché non me la mostrate signor ministro sembrano modellate con rara perizia delle vere opere d'arte si tratta solo di una mia piccola mania una passione che coltivo fin da ragazzo cosa ha quel ragazzo è fuggito bene un nuovo assestamento della roccia padre Gallus lo scricchio di io veniva dal corridoio che abbiamo appena lasciato ora vediamo non gli badate è un pazzo venite vi mostro le mie bambole no signor ministro voglio vedere cos'è accaduto nel corridoio vi prego potrebbe essere pericoloso toglietevi di mezzo signora Levi tanto non riuscirete a fermare padre Gallus diteglielo voi libera non stobide cos'è quella cosa sul muro quel verso il rilievo prima che c'era è un viso è un viso umano è il volto di satana c'è senz'altro il volto di satana si ma un satana femmina libera la nostra mano i mattoni sono usciti dal muro a formare quella maschera orrenda è il viso di una donna avete ragione ha occhi ciechi e la bocca spalancata sembra che stia urlando signora Levi no venite subito qui no voi dovete spiegarmi i mattoni si gonfiano dalla bocca esce qualcosa mio dio è una lingua una lingua di pietra miserere mei domine le pietre stanno tornando lentamente al loro posto lentamente una alla volta incredibile ecco che la lingua scompare e anche le labbra e ora gli occhi la pietra è di nuovo liscia succede sempre così il fenomeno dura poco e non lascia traccia maledetto parla miserabile che cosa sono queste stregone parla o ti uccido cosa fate lasciatelo lasciatelo lui non ha nessuna cosa Miriam ritorna immediatamente nel nostro appartamento io non corro nessun pericolo Miriam Miriam si ci conosciamo padre Nicholas non fate del male a quell'uomo vi prego ciò che accade non è colpa sua Miriam ritirati subito è un ordine obbedisco ma voi padre Eimerick vogliate credermi non è lui lo stregone che cercate non è lui padre Miriam che vi succede magister si direbbe che abbiate visto uno spettro non sono affari vostri rabbino Alevi mi aspetto da voi parecchie spiegazioni e badate che siano esaurienti altrimenti me le griderete dal rogo non occorre che mi minacciate del rogo inquisitore Eimerick sono pronto a dirvi tutta la verità e a narrarvi ciò che accade qui a Montiel un viso umano femminile che si disegna sul muro e poi scompare in questo castello incantesimi di questo tipo pare che siano frequenti è così? oh sì sì le pareti del castello in certi momenti sembrano vivere di vita propria si gonfiano scricchiolano cambiano colore oppure si deformano nel modo che avete visto foggiando visi e membra umane ah per la mia religione non c'è bestemmia peggiore dell'imitazione dell'effigie di un uomo come dice il profeta Enoch chi oltraggia il volto dell'uomo oltraggia il volto del signore questo mi dà la certezza che contro di noi sia l'opera il signore delle mosche padre nostro qui esincere padre Gallo salzatevi perché vi siete inginocchiati menzionate il demonio e per di più ne parlate con un giudeo solo la preghiera può dissipare quest'area malsana santificetur nomen tu alzatevi non date prova di vigliaccheria l'inquisizione il demonio lo guarda in faccia libera non sa malo signora Alemi perché il re non mi ha parlato di tutto ciò non vede anche lui visi sui muri no i prodigi più orribili hanno luogo in questa torre che ospita non solo me e mia figlia Miriam ma anche gli altri ebrei del castello dai serbi ai dignitari non so se sapete inquisitore Emmerich che la guerra che Enrico di Trastamara conduce contro Pietro di Castiglia è anche una guerra contro il mio popolo Enrico rappresenta la nobiltà che si crede colpita nei propri averi da noi ebrei ecco perché si accanisce contro di noi punire gli assassini di Cristo non sarebbe in sé peccato ma non capisco che cosa c'entri Enrico con gli incantesimi di cui mi parlate re Pietro vi ha già spiegato che suo fratellastro ha portato con sé Ramon de Tarrega il famoso negromante Enrico combatte la sua guerra convenzionale Ramon mobilita contro di noi tutti i demoni dell'inferno capisco adesso che mi avete informato di come stanno le cose non avrete certo più remore a farmi visitare i vostri appartamenti ma no 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 nessuna remora accomodatevi accomodatevi anche voi Gallus di Noiaus padre Gallus più che un appartamento sembra una biblioteca hanno scritti un po' dappertutto scritti nella lingua dei giudei quel candeliere ha sette bracci ha qualche rapporto con le statuette di Creta o di Pietra che vedo addossate al muro no 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 vi ho detto che le colleziono in parte è vero però non è che le vada a cercare le ho ereditate da un grande saggio ebreo Kosef Ghigatiglia da Medinaceli è lui che le fece scolpire nel secolo scorso io le ho avute da mio padre che le ricevette da Ghigatiglia in persona raffigurano tutte le stesse effigie un uomo barbuto con il corpo tozzo e la bocca spalancata si direbbe che siano prove per arrivare a forgiare la statuetta definitiva infatti sono tutte più o meno imperfette eccetto questa alta quanto un bambino chi dovrebbe rappresentare non chiedetelo a me ve l'ho detto ho avuto questi simulacri in eredità solo Ghigatiglia sapeva di cosa si trattava ma non l'ha lasciato detto volete farci credere che vi riempite la casa di statuette tutte uguali e non sapete nemmeno che cosa raffigurano badate mi è già penoso rivolgere la parola a un giudeo miscredente non azzardatevi a cercare di prenderci in giro so che può parere strano è strano ma le cose stanno come vi ho detto no signor Hallevi padre Gallus ha ragione grazie si state prendendo in giro voi stesso ci avete spiegato poco fa che la vostra religione proibisce di riprodurre la figura umana se ciò è vero voi non avete una collezione di statuette avete una collezione di bestemmie come lo giustificate chi ha costruito quei simulacri era un uomo pio voi direste un santo non ci può essere peccato nella sua opera conservo i suoi manufatti in omaggio alla sua memoria un santo dite pio voi forse ignorate che io sono di Gerona e la mia città reca una macchia indelebile avere ospitato tra le sue mura Azriel Ezra ben Salomon e altri cabalisti conosco bene il nome di Gigatiglia era un cultore della cabala la magia nera di voi giudei e conosco anche il vostro alfabeto i manoscritti che avete qui non sono per niente innocenti il segreto dei segreti la maggiore santa assemblea sefer riesirà il libro del mistero nascosto testi demoniaci il peggio della stregoneria ebraica libera nostra mano ame la cabala non è magia nera inquisitore Heimerick vi prego voi siete una persona intelligente non date non date retta le dicerie i cabalisti non sono negromanti non ho mai detto questo e che cosa sarebbe dunque questa cabala se non magia a Praga ho fatto bruciare alcuni cabalisti ma non ho dato peso alle loro dottrine erano giudei e adoravano il diavolo libera nostra amaro e tanto mi bastava difficile è difficile farlo capire a un cristiano padre Gallus ci sono insegnamenti della Bibbia che Mosè ha trasmesso a voce sono scritti nel testamento ma sono nascosti tra le righe la cabala è lo studio degli insegnamenti nascosti non vi capisco ma non ha importanza se voi non foste un ministro di re Pietro vi avrei già fatto arrestare ho un riguardo per il vostro padrone e per la vostra carica ora vorremmo vedere il resto dei vostri appartamenti dovremo scendere padre Aymeric si passa da una stanza all'altra attraverso rampe di scale ma che alloggia mai questo neanche un animale vivrebbe in una tana simile mi sono dovuto adattare del resto l'aria c'è grazie alle gallerie interne ora vedrete l'aria c'è si come dicevate ma è umidiccia malsana e tutte queste finestrelle che si affacciano su pozzi profondi ho l'impressione che stiamo scendendo all'inferno dio mi salvi l'impressione è anche mia quanto dovremo scendere ancora signor ministro siamo arrivati al mio studio oltre quella porta c'è la mia camera da letto l'altra porta dà accesso alle stanze di mia figlia spero che non vogliate vedere anche quelle no no sembra di essere in un sepolcro signora Levi i vostri libri finiranno con l'essere corrosi dall'umidità che cos'è quella cavità dove il muro è sostituito dalla roccia viva altre stanze ancora no è un condotto che porta a un altro torrione le dieci torri del castello di Montiel sono unite da cunicoli simili a questo quando non sono impegnati a combattere i soldati lavorano a consolidarne le volte e ad ampliarne il diametro a scopi di difesa sì 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 il re Pietro sa bene che non potrà resistere in eterno a questo assedio se le truppe di Enrico riusciranno a penetrare la cinta è deciso a dare battaglia nei sotterranei per questo Pietro li ha fatti trasformare in un vero labirinto e ha voluto che io abitassi qui sotto a permettermi al sicuro basta qui si soffoca riaccompagnateci in superficie no no che succede ancora non avete visto magister era la ragazza di poco fa io non vedo nulla si è limitata a sporgere la testa e l'ha ritirata subito e dunque aveva le labbra macchiate di rosso come se avesse bevuto del sangue ma cosa dite Miriam mia non avrà mangiato della frutta o si sarà ferita oppure avrete avuto un abbaglio signor Gallus padre Gallus è probabile padre Gallus soffre spesso di allucinazione su ministro Alevi accompagnateci fuori padre ma che vi prende non vi riconosco più entrare nella stanza di quella giudea e interrogarla è nostro dovere era salve vi dico la sua bocca ne era tutta imbrattata non sta a voi ricordarci i nostri doveri padre Gallus io sono l'inquisitore generale e il rappresentante del pontefice non osate mai più contraddirmi signor Alevi guidateci venite venite vi faccio strada attenti a dove mettete i piedi molti gradini sono umidi tutto il ventre della collina è percorso da torrenti sotterranei ecco e questo è l'atrio in cui il volto urlante si è disegnato sui mattoni è incredibile non c'è più traccia del basso rilievo è una conferma una conferma dell'abilità di Satana nascondere le proprie impronte c'è chi Satana lo combatte sul serio e chi ne è connivente che cosa vorreste dire vi riferite forse a me oh no Magister la mia era una riflessione di ordine generale buon per voi eccoci finalmente all'aperto dove ci troviamo non eravamo entrati di qui come potete vedere inquisitore Eimerick siamo sul camminamento che conduce alle altre ali del castello laggiù ci sono i tetti e il campanile del villaggio di Montiel signora Levy dove alloggia donna Leonor Lopez de Cordova perché me lo chiedete spero che non abbiate intenzione di farle visita non può ricevere nessuno ah sì e perché mai spero che che nessuno possa sentirmi donna Leonor è sfigurata orribilmente sfigurata supponevo che ne fosse al corrente come mai una malattia un incidente no no è una storia di dominio comune ma vedo che non ne sapete nulla affatto donna Leonor era bellissima straordinariamente bella finché 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 re Pietro non le fece strappare tutta la pelle del viso adesso adesso è una specie di teschio scarnificato il carnefice lavorò su di lei per due giorni consecutivi tagliando quel tanto che bastava per mantenerla in vita e per renderla un mostro perché feci questo ci sarà stato un motivo guerra non so ho sentito dire qualcosa ma se Pietro di Castiglia è davvero tanto crudele come fate ad essergli amico mi crediate o no Pietro non è cattivo nel profondo piuttosto è infantile avete mai visto un bambino che ha catturato una rana una lucertola un grillo ciò che fa l'animaletto è abominevole ma lo fa senza cattiveria tanto per studiare la sua reazione alle mutilazioni e voi che mutilazioni avete subito guardate padre Emerek quella laggiù deve essere gente del villaggio tra la folla ci sono parecchi notabili ce l'hanno con i giudei tanto per cambiare tacete voi vedo che portano un piccolo fagotto si direbbe un bambino riverso ed è pallido e sangue ci hanno visto vengono proprio verso questo camminamento ma perché nessuno li ferma forse faremo meglio a ritirarci no voglio sentire che cosa voglio e voglio sapere di quel corpicino ritiratevi voi ministro Alevi la masnada in basso pare avercela con gli ebrei andate tornate nella vostra danza in fretta vi ringrazio inquisitor Emerek la vostra amicizia amicizia voi state parlando con colui che vi brucerà vivo sul rogo ma sarò io che sceglierò il momento non la canaglia ora sparite rabbino o vi consegnerò a quei popolari padre Gallus l'uomo dal vestito pretenzioso che procede in testa al corteo deve essere l'alcalde di Montiel sembra che ci abbia visti e che si diriga verso di noi scendo a vedere il motivo di questa gazzata venite con me padre Gallus forse sarebbe meglio che ci riti rossi guardate stanno arrivando le guardie di re Pietro tra loro i paesani potrebbe esserci uno scotto tanto più che si tratta di soldati musulmani voglio sapere con esattezza che cosa sta accadendo e perché la folla esibisce quel piccolo corpo se avete paura e volete rimanere qui fate pure non ho paura e allora muovetevi padre Gallus cercavo proprio voi padre siete davvero Nicolas Eimerick il famoso inquisitore sono io quello che è con me padre Gallus di Neuhaus anche lui del santo ufficio e voi chi siete di grazia e che cos'è questo comune vi assicuro padre che sono un uomo d'ordine e non un facinoroso sono l'alcalde del villaggio di Montiel e quelli che vedete sono tutti buoni cristiani gente onesta lavoratrice devota a santa madre chiesa gente temorata di dio non fa assembramenti e chiassate e non entra nei cortili del proprio sovrano mi aspetto da voi una spiegazione esauriente ufficiale che cosa volete perché siete qui per ordine di re Pietro di Castiglia devo sciogliere questa adunata e rimandare i vilani alle loro case non preoccupatevi provvederò io il vostro intervento è inutile e sia vado a informarmi sul da fare bravo informati signor alcalde torniamo a noi perché avete portato fin qui quel cuore padre Eimerick voi non avete idea di cosa accade qui a Montiel da quando è iniziato l'assedio ma questo è il terzo dei nostri bambini che troviamo assassinato osservatelo non notate in lui nulla di strada è troppo pallido persino per un cadavere la pelle è quasi trasparente è come se nel corpo non fosse rimasta nemmeno una goccia di sangue eppure non presenta ferite a parte una piccola lacerazione alla gola i genitori del piccolo sono presenti? c'è qui sua madre avvicinati Maria non avere paura Maria capisco la vostra angoscia ma ho bisogno di rivolgervi qualche domanda sapete con certezza come sia morto vostro figlio ora lo so lo so anche troppo bene sono stati giudei comprendo ma ho bisogno di informazioni più precise dove avete trovato il corpo del bambino per strada in qualche casa da quanto tempo era scomparso non era scomparso l'ho trovato stamattina nel suo lettino era bianco come il marmo signora alcalde perché voi e questa donna accusate i giudei il piccolo a quanto capisco è morto in casa propria sanno tutti che i giudei si dedicano all'omicidio rituale dei bambini cristiani per succhiarne il sangue queste sono sciocchezze è una credenza che circola tra il popolino ed è priva di ogni fondamento però prima che arrivassero qui tutti quegli ebrei nessun bambino era mai morto di sanguato adesso sono tre i nostri figli vittime di quelle iene tre in pochi mesi tutti dissanguati e tutti con piccole ferite alla gola magister vi permettete certo padre gallus avevo notato il vostro silenzio dunque che cosa avete da dire è un'abitudine ben nota dei giudei conoscete anche voi magister la vicenda della morte di san simonino da trento il rituale ebraico ha parecchie varianti talvolta il bambino cristiano viene ferito in varie parti del corpo e se ne raccoglie il sangue in apposite catinelle altre volte i rabbini desucchiano il sangue con lunghe cannucce mentre è ancora vivo in questo caso dato che la ferita è una sola direi che si è usato il sistema della cannuccia sono volcari i vicini padre gallus non datemi tanto siamo nel quattordicesimo secolo non possiamo dar retta a ogni voce priva di consistenza e voi lo sapete meglio di me avete forse deciso di scatenare un tumulto ricordatevi che è il nostro dovere condurre un'inchiesta per raccogliere prove sicure le prove le abbiamo già magister non ricordate? poco fa ho visto Miriam la figlia di Alevi con le labbra insanguinate me la immagino tenere tra le labbra la cannuccia con cui dissanguava questo bambino tutta la figura di quella ragazza denuncia la sete di volutà e di perversione tipica delle donne giudee nei suoi occhi brillava l'inclinazione al peccato hai udito Maria avete udito buoni cristiani di Montiel l'assassina è stata scoperta è Miriam la figlia del labbino Ale certo il suo padre è complice del delitto fermi cristiani di Montiel non sta a voi farvi giustizia non cercate di usurpare i compiti della santa inquisizione prego che non vi obbediscono più magister stanno accendendo delle torce penso che si preparino ad assalire il torrione e a soffocare Alevi nella sua tara ma sì ora vedremo signora Alcalde la vostra gente vuole assalire la torre di un castello sotto a sedia è evidente che siete complice di Enrico di Trastamara ho allontanato i soldati ma non credo che si staranno passivi a questo tradimento quanto a voi se non fermate la canaglia subirete la collera di Repietro di Castiglia preparatevi ad essere scuoiato vivo oppure squartato da quattro cavalli come si conviene a chi attenta al proprio sovrano profiterò di persona a studiare i supplizi preliminari gente gente di Montiel non lasciamoci accecare dall'ira abbiamo con noi due inquisitori difensori della fede penseranno loro a mandare al rogo gli assassini voglio vendetta per mio figlio che ha ucciso il mio bambino deve essere bruciato buona donna avrete la giustizia che cercate signora inquisitore finora ho tollerato ma dovrà un attimo ordinerò ai miei uomini di disperdere la canaglia con le armi non è ammissibile un occhiassato sotto le finestre del re attendete signora alcalde che cosa fate ancora qui se ne andiamo se ne andiamo tacete voi e spegnete quelle torce prima però padre Eimerick voglio dirvi una cosa con tutta la solennità che la mia carica mi conferisce parlate ma siate breve i soldati sono impazienti padre voi non conoscete la storia di questo castello e non sapete che è opera dei giudei è stato riconquistato dai cristiani a caro prezzo finora siamo riusciti a tenere a bada le creature orrende che si nascondono nei suoi sotterranei poi è arrivato re pietro col suo seguito di infedeli il rischio è che riapra le porte della prigione che da secoli custodisce i mostri saremo in pericolo non solo noi all'intera cristianità amico mio con poche parole avete commesso crimini passibili di pene gravissime avete osato minacciare velatamente due inquisitori avete criticato il re di castiglia cercherò di dimenticarne ma sparite immediatamente dalla mia vista e portate con voi questa masnada di plebei obbedirò ma ho credito il mio dovere avvertito venite venite amici dormiamo alle nostre case sarà l'inquisizione che ci offrirà il rogo della figlia del rabbino signor ufficiale scortateli assicuratevi che rientrino davvero al villaggio mi disco padre Eimerick non vi riconosco più da quando in qua avete abbracciato la dottrina infame della tolleranza non so se ve ne rendete conto ma avete protetto dei giudei dalla giusta collera dei cristiani o farei meglio dire che avete protetto una specifica ragazza giudea padre Gallus bisogna che vi dica alcune cose venite cerchiamo un luogo riparato quella porta laggiù ai piedi del mastio sembra l'ingresso di una cappella seguitemi una cappella sconsacrata ovviamente questo castello è il regno stesso del sacrilegio sedete e ascoltatemi bene sedetevi ho detto padre Gallus non vi ho mai considerato un idiota ma vi state comportando come tale vi rendete conto che c'è una guerra in corso e che questo castello è circondato da mesi dall'esercito di Enrico dove c'è il peccato c'è anche la debolezza se Pietro il crudele si liberasse dei giudei e dei saraceni che lo attorniano potrebbe maggiormente contare sull'aiuto di Dio invece ha ridotto questo castello a un ricettacolo del demonio in cui tutti i culti sono ammessi eccetto quello lecito non siete d'accordo non preoccupatevi di me continuate il nostro compito è schiacciare la testa dell'antico serpente libera nos a mano dovunque si insinui e aiutare chi è determinato a farlo la missione della chiesa che serviamo non è solo di natura spirituale è anche quella di riportare ordine nel mondo l'impero d'occidente è caduto i regni secolari si combattono senza posa se vogliamo creare in terra la città di Dio dobbiamo costruire silenziosamente un nuovo impero forse è un compito del papa ma non riguardi in nessun modo la santa inquisizione sì invece non ci sarà in Europa unità politica se non ci sarà unità spirituale è anche per questo che diamo la caccia agli eretici e li mandiamo a morte il cristianesimo è rimasto il solo elemento unificante in un continente in decomposizione credenze settarie convinzioni particolari sono altrettanti fattori di anarchia e dove c'è anarchia la c'è satana che impera invisibile non capisco cosa vogliate arrivare a dire noi non siamo qui per annullare gerarchie ma per imporne una nuova ciò significa che non possiamo essere sobillatori discalmanati anche se a fin di bene noi instauriamo processi ecclesiastici non processi sommari siamo anzi il solo tribunale che in ogni angolo d'Europa funzioni secondo criteri certi a legge uniformi ma non è certo difendendo i giudei chiudete dunque una buona volta quella vostra bocca sdentata sarei io a difendere i giudei secondo voi ora vi dico che cosa stavate per fare un attimo fa voi stavate per suscitare una rivolta entro un castello assediato quasi foste connivente con Enrico di Trastamara voi stavate per fare abortire un'inchiesta prima ancora del suo inizio designando il colpevole non in base alle indagini ma in base alle urla della canagna voi stavate per sovvertire in un colpo solo storia gerarchia e funzioni dell'inquisizione oltre ad esporci alla collera legittima di re Pietro ma ho visto io stesso il sangue sulle labbra di quella ragazza giudea e allora ammettiamo che sia una prova che la ragazza uccida i bambini di Montiel durante presunti rituali ebraici saremmo lo stesso al punto di partenza continuerebbe a sfuggirci la chiave dei misteri da cui siamo circondati il castello che geme e urla come un animale le facce di pietra che si dipingono sui muri la donna alata che si aggira nei cortili le bambole grottesche di cui si circonda il rabbino a allevi la presenza di caverne di abissi nel sottosuolo devo continuare? no no magister avete ragione certo che ho ragione ma non importa che me lo diciate vedete piuttosto di rispettare la dignità del nostro ruolo e comunque di lasciare a me ogni iniziativa d'accordo? d'accordo bene ora andiamocene di qui madre Engric siete proprio convinto? si padre Gallus non mi dispiace incontrare di nuovo quel negromante di Ramon de Tarrega lo informerò della fine che lo attende e che attende tutti coloro che si rendono suoi complici alludete forse a me frate onore Enrico non oserei mai Bertrand porta quest'individuo disgustoso lontano da qui e non tardare ieri ho catturato tre cinghialetti che ora saranno già sullo spiedo a rosolare ecco una prospettiva allettante per la serata dal canto mio mi sono fatto portare dei barilotti di vino da Jerez seguitemi reverendi padri la tenda di Ramon non è distante dovete scusare Enrico signori inquisitori è ancora giovane e non ha avuto il tempo di abituarsi ad agire da re noterete che non sa usare il plurale maestatis per fortuna lo avete incontrato al momento giusto dopo aver cavalcato una puledra non ha le forze per arrabbiarsi troppo quando è in collera non è troppo diverso dal suo fratellastro Pietro Diugeclen qui attorno vedo pochi soldati castigliani e moltissimi soldati francesi immagino che li abbiate portati voi per milonghi Giubbe colorati hanno un aspetto che metti i brilli il più pivello dei miei uomini ha combattuto per dieci anni consecutivi senza di loro Enrico non avrebbe speranze non è un caso se trascina questo assedio senza decidersi a un assalto risolutivo Pietro il crudele ha le strette ma i suoi settemila fanti maomettani mettono paura come mai avete deciso di stare con Enrico credevo che un mercenario come voi fosse sempre dalla parte del più forte sono io che decido chi è il più forte Enrico è un rammollito lo avete visto anche voi però ha dalla sua quasi tutti i nobili della Castiglia ciò significa terre ricchezze e onori Pietro il crudele ha dalla sua il denaro degli ebrei che Dio ce ne liberi ma di terre non ne ha più sono quelle le ricchezze vere e durature se Pietro mi offrisse oro a sufficienza tanto da comperarmi tenute in Inghilterra o in Aquitania passerei dalla sua parte ma sanno tutti che è un gran taccagno è una proposta da riferire a Pietro diavolo dun frate siete davvero una volpe come vi descrivono avete capito subito che la proposta di portarvi da Ramon era solo un pretesto per parlarvi in privato padre Eimerick non correte aspettatemi riporterò a Pietro il crudele ciò che proponete per passare dalla sua parte quanto oro chiedete? faccia lui io valuterò molto bene comunque vorrei davvero visitare il negromato finalmente vi siete fermati ecco la sua tenda io però mi ritiro quel pretaccio porta sfortuna avremo occasione di rivederci di Ugeclen non vedo l'ora padre Gallus abbiamo molte cose da dirci mi avete tolto le parole di bocca ora però ci aspetta un compito importante sotto quella tenda c'è il nostro vero avversario quello che i giudei chiamano Belzebù il signore delle mosche va per nostra qui esigenza credo che noi due ci conosciamo Ramon Eimerick da Gerona inquisitore generale del regno d'Aragona cosa fate qui a Montiel siete fuori della vostra giurisdizione cosa faccio qui non deve interessarvi e la giurisdizione di un inquisitore si estende a qualsiasi luogo in cui il demonio trovi complici e servitori allora avete davvero sbagliato questo credo di conoscere anche l'uomo che è con voi siete padre Gallus di Neuhaus l'esorcista a piacere vedere tre confratelli riuniti sotto la stessa tenda non chiamateci confratelli voi non indossate più l'abito domenicano il nostro ordine vi ha espulso sospeso non espulso tutte le mene di padre Eimerick ai miei danni finora non hanno avuto successo nella chiesa sono imparecchie a sapere che ciò che faccio è perfettamente lecito altrimenti Cristo stesso sarebbe colpevole di negromanzia non bestemmiate demonolatra mia colpa mia colpa mia massima colpa Cristo non ha mai invocato il diavolo voi invece lo adorate insistete con questa menzogna evocare i demoni e costringerli ad agire per il bene non significa affatto adorarli padre Gallus fa la stessa cosa quando cura gli invasati che cos'è l'esorcismo se non una costrizione esercitata verso i diavoli miserabile non osate tentare simili paragoni guardate che noi possiamo non potete niente né qui né in Aragona qui mi protegge il principe Enrico l'ha il re Pietro il cerimonioso ma ciò che mi protegge è soprattutto la coscienza di servire Dio in obbedienza alle scritture già le scritture vedo che la vostra tenda è piena di libri sacri Ramon il vero dragone rosso il vero dragone rosso ottima lettura eccellente in effetti vediamo e questo? la gallina nera la gallina nera ottimo testo raccomandabile ad ogni buon cristiano dovete averlo consultato spesso perché noto che è tutto consunto tenete giù le mani dai miei libri nessuno vi autorizza calma 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 la mia è semplice curiosità vediamo che cosa stavate leggendo quando sono entrato questo non lo conosco le megeton o piccola chiave di salomone le megeton che cosa vuol dire le megeton nulla che vi possa interessare ridatemi questo libro ridatemelo chiamo i soldati padre Elmerich vi ho lasciato entrare nella mia tenda ma non vi permetto di frugare fra le mie carte ho libri che in mani profane indurrebbero al peccato ma io sono un religioso vogliate ricordarlo non ne dubito ma mi chiedo quale religione professiate voi ex giudeo vedo qui intorno turriboli paramenti ignoti polveri per fumigazioni oggetti inconsueti per chi è qui in veste di consigliere spirituale mi domando quali siano i servigi che Enrico di Trastamara si aspetta da voi se scagliare i demoni contro Pietro il crudele oppure invocarli a propria protezione non vi riguarda e comunque sappiate che i demoni che cercate non sono non ne sono così certo venite dal castello scommetto non vi avete visto nulla di strano abbiamo visto di tutto fantasmi alati padre facce che spuntano dai muri avessi spaventosi pareti che si scuotano facete una buona volta Ramon de Tarrega ho motivo di ritenere che il castello di Montiel sia sottoposto ai vostri incantesimi altrimenti non si spiegherebbe la vostra presenza in questo accampamento non mi importa che aiutiate Enrico contro Pietro non parteggio per nessuno dei due entrambi empi e immersi nel peccato fino al collo ma combatto per Dio contro Satana che voi qui rappresentate vi sbagliate vi sbagliate finora il re d'Aragona vi ha evitato la scomunica ma questa volta non sfuggirete ricordate che qui a Montiel io rappresento sua santità in persona e ho tutti i suoi poteri compreso quello di scomunicare tuttavia ma sarebbe un abuso che Papa Urbano non avallerebbe mai tuttavia dicevo non credo che dovrò arrivare a tanto vi prometto solennemente che entro tre giorni da oggi voi sarete bruciato vivo e con voi bruceranno tutti i vostri libri maledetti i vostri parametri da demonolatra parola di Nicholas Eimerick cercate di spaventarmi in realtà non avete nessun potere non sapete nemmeno se uscirete vivo da questo campo voi dite beh io scommetto che il signor Duke Klan non ha alcun interesse a mettermi i bastoni tra le ruote in questo momento quanto a Enrico di Trastamara forse non ha ancora capito che io posso scomunicare anche lui quando lo saprà vedrete che vi appoggerà assai meno non sarà mai un vero re senza l'investitura del papa lasciate che vi spieghi non posso dirvi tutto ma posso darvi un'idea della partita vera che si sta giocando così capirete meglio il mio ruolo ascoltiamolo magister ha diritto a difendersi che cosa state dicendo padre Gallus questo stregone non ha nessun diritto eppure vi siete dimenticato che noi siamo la santa inquisizione eppure Ramon de Tarrega non fate caso a costumi magister sono io che comando accetto di ascoltarvi se avete davvero qualcosa da dirmi e lo faccio non in nome di un diritto qualsiasi ma per il rispetto che si deve a un condannato a morte venite usciamo dalla tenda voglio farvi vedere il castello da qui forse riuscirete a capire d'accordo andiamo ma facciamo in fretta mai giudicare in fretta è quasi buio padre Inezio aspettate aspettate voglio sentire anch'io la fortezza si vede bene ecco osservato noi scorgiamo cinque torioni ma sappiamo che sono dieci in tutto disposti in maniera molto regolare otto ai lati uno al centro e un altro un po' isolato verso sud e che torioni padre Gallus continuate Ramon de Tarrega tutti esattamente circolari e identici fra loro salvo il mastio che è un po' più grande non è strano? no per niente ogni castello ha una sua propria geometria si vede che il signore che ha costruito la rocca riteneva questa forma adatta alla sommità della collina oppure ai suoi scopi difensivi si ma chi era il signore in questione? appunto chi era? credo che ignoriate le origini di questo castello illuminatevi voi illuminateci è l'unico castello in Spagna e forse al mondo che sia stato progettato e costruito da giudei c'è chi me ne ha già accennato ma è impossibile è fin dai tempi della romanità cristiana che ai giudei è proibito assumere cariche che conferiscano loro potere e gli ha interdetto l'uso delle armi anche l'agricoltura gli ha vietata figuriamoci edificare un castello ma quello lassù non è nato come castello Montiel era un qualsiasi villaggio quando nel 1348 durante la peste nera i buoni cristiani cominciarono a giustiziare gli ebrei ma bene fecero moltissimi giudei di Ciudad Real fuggirono sulla collina di Montiel crearono mura e sistemi di difesa poi venne l'anticristo nella persona di Pietro il crudele dall'ex iudeorum fu in franta gli ebrei poterono ricoprire le più alte cariche dello stato Dio non perdonerà mai a Pietro di Castiglia questo crimine infame lo credo anch'io padre Gallus sotto Pietro la comunità giudaica di Montiel però le mure esistevano già furono costruite le torri molti cristiani andarono ingenuamente a stabilirsi nel villaggio fra i più protetti della regione ma non sapevano che così andavano a mettersi sotto la tutela dell'anima dannata di Pietro il crudele il bambino Pedro Salomon Alevi il costruttore della sinagoga di Toledo il persecutore dell'aristocrazia cristiana dunque non fu lui a far costruire i torrioni lui li fece completare e guardate voi stesso in che modo osservate il torrione a settentrione non vi sembra di scorgere tra le ombre un profilo di viso umano l'avevo detto l'avevo detto ma c'è di più certe notti il castello si muove ma di che state farmi di caldo si muove vi dico padre Dallus ha parlato di rumori misteriosi è vero tutti coloro che hanno dimorato in una delle torri ne parlano e tutti asseriscono che le mura e i torrioni si torcono gemono e oscigliano con furia ma erano anni che tutto ciò non accadeva e poi dietro il crudele si è rifugiato lassù portandosi dietro a Leli i prodigi sono ricominciati terrificanti come un tempo ammesso che ciò sia vero voi come fate ad esserne al corrente io ho parlato stamattina stessa con gli abitanti di Montiel il loro alcalde a parte paga e allusione non mi ha detto nulla di tutto questo padre Eimerick nel 1359 esattamente dieci anni fa io risiedevo nel regno di Castiglia non vi avevo ancora incontrato e nessuno pensava perseguitarmi quando si sparse la falsa notizia della morte di Alevi per mano del suo re io veni scelto per una spedizione segreta eravamo in cibo dire un vento terribile sapete qual era il nostro compito? dire a Montiel cacciarne gli ebrei e seppellire per sempre i malefici che avevano celato nel castello quali malefici? io non ne sono al corrente solo l'inquisitore di allora Nicolas Rossell conosceva quale fosse il pericolo ma è morto strana storia che cosa faceste esattamente? non posso dirvelo tutti noi giurammo di mantenere il segreto e io intendo rispettare il giuramento e basti sapere che la nostra azione obbediva proprio al concetto che vi è odioso non vi è peccato nel costringere i demoni con formule e strumenti adeguati a compiere la volontà di Dio vi è peccato invece Dio si lascia servire solo da chi lo ama ma ora questo non mi interessa se ciò che mi avete raccontato è la verità può darsi che le forze che operano lassù siano quelle stesse forze che voi avete scatenato no no la sitra Ahara all'altra parte come la chiamano i giudei era un soggello potente per tenere incatenate le forze malvagie fra le loro pietre il ritorno di Alevi ha infranto quelle cateve io sono qui per forgiarle di nuovo ma davvero non posso dirvi di più se potessi farlo direste forse indagherò e cercherò di comprendere quanto c'è di vero nella vostra storia non dimentico che siete voi stessi di origine ebraica anche se avete rinnegato la vostra stile bene se mi avete mentito sarete voi a finire in catena e bruciare lentamente io vi ho avvertito indagare vi servirà a poco guardate guardate lassù sulla collina adesso che scende la notte la natura vera di quel castello appare ancora più evidente a lui la forza malvagia è in lui che si nasconde lo spirito del male solo un potere altrettanto perfido e sottile poterlo soggiogato vi assicuro che quando il mio dovere lo richiede io riesco ad essere sia perfido che sottile so bene magister magister ormai è buio freddo noi dobbiamo tornare al castello non ci sarà facile risalire da questa parte della collina le sentinelle di re Pietro vegliano più che sull'altro lato e nell'oscurità rischiamo una freccia o un colpo di spada se vi fidate di me se vi fidate di me vi accompagno io da dove è sboccata questa femmina è strella lancella di Leonor di Cordova che cosa fate ancora qui credevo che foste già tornata nel letto del vostro altro amante Pietro sarà inquieto non so bene chi sia questa sgualdrinella ma forse vi può aiutare sul serio so che fa di continuo la spola fra Montiel e questo campo o ha amici fra le guardie o conosce passaggi ignoti a tutti gli altri sono vere entrambe le cose ma la seconda lo è di più allora volete venire con me signori frati io non ho tempo da perdere se re Pietro non mi trova nel suo appartamento può farmi frustare a sangue e forse lo meritereste si veniamo quanto a voi Ramon di Tarraga vi ho avvertito io saprò tutta la verità e se avete cercato di ingannarmi la vostra punizione sarà terribile non vi ho ingannato è quel che vedremo venite padre Gallus vediamo dove ci conduce questa ragazza oh eroe è curioso l'accampamento non è sorvegliato da nessun soldato si che lo è ma le sentinelle sono abituate a vedermi e non hanno ordine di fermare voi ma dove ci stai portando dove non stiamo salendo davanti a noi ci sono solo cespune tutta la collina è forata da gallerie alcune sbucano qui sotto io però ne cerco una precisa tengo nascoste delle torce vicino all'imboccatura senza le torce si morirebbe dopo pochi passi dunque le gallerie che Hallevi fa scavare di continuo conducono qui al campo di Mio oh mica tutte solo alcune secondarie portano fin qua giù le 22 principali uniscono tra loro le torri del castello chissà poi perché 22 perché le lettere dell'alfabeto ebraico sono 22 così almeno mi ha detto Miriam che ne sa più di me ah ecco l'imboccatura che cercavo qui ci dovrebbero essere le torce e la pietra focale si 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 ecco tenetene una signor inquisitore prendetene un'altra ti riserva la prendo io spero che la resina non si sia inumidita troppo no no si ci si subito per fortuna questa la tengo io che sono più pratica voi venitemi dietro è una galleria naturale ma è abbastanza liscia non c'è pericolo di inciampare tenetevi però sempre rasenti alla parete di sinistra sulla destra bello vedrete da soli voi vi avventurate qui sotto da sola si signor inquisitore ma ho dovuto fare di necessità virtù io di virtù non ne vedo com'è che vi chiamate Eimerick non è vero esatto io sono padre Callus di Noiaus inquisitore da Praga il tratto peggiore sta per venire non smettete di tenervi a ridosso della parete di sinistra il tratto peggiore ma qui sembrano già di essere all'inferno ah l'inferno lo vedrete tra poco ecco siamo a pochi passi è una cascata la vedete? finisce in un abisso gigantesco camminate piano le rocce sono umide è una voragine spaventosa non se ne vede in fondo siamo quasi al sicuro ecco la galleria torna a immergersi nella roccia e tu? davvero percorri questo sentiero ogni giorno hai coraggio è la via più breve padre Eimerick adesso dobbiamo salire un poco ma saremo al castello in pochi minuti immagino che il re Pietro non sospetti nemmeno la tua relazione con il suo fratellastro però hai detto di essere amica di Miriam a Levi ne sa qualcosa? sa tutto ma chi fa casa a un ancello? sia per Pietro che per Enrico io sono una specie di giocattolo quanto ad Alevi ai suoi occhi valgomeno delle bambole di pietra che colleziona a proposito sai che cosa se ne faccia di quelle bambole? no no io non lo voglio sapere vorrei essere lontano dal castello si nascondono orrori che una mente umana fatica a concepire e questa guerra non finisce presto credo che fuggirò ecco siamo vicini all'uscita spesso il vento spegne la torcia tenete pronta quella di riserva non si sa mai usciremo nella torre della tua padrona donna Leonor di Cordoba no l'uscita sfoce in una piccola grotta di fianco a dove abita Miriam la mia padrona non sa nulla delle mie fughe vive in una parte della torre completamente murata eccetto un piccolo pertugio io le passo il cibo attraverso la fessura ma non la vedo mai mi parla molto raramente è vero che che donna Leonor è sfigurata? credo di sì ma io l'ho sempre vista coperta da un velo dicono che sia stata bellissima senti ragazza ti è mai capitato di nuotare nei cortili una donna alata tutt'avvolta dalla luce Lilith avete visto Lilith? non evocatela vi prego non evocatela se pronunciate il suo nome potreste oh mio dio la torcia si sta spegnendo Estrella Estrella dai la torcia a me vedrò di tenerla riparata ecco padre il vento si sta calmando siamo arrivati? quasi padre Emerick vedete che nella roccia è intagliata una specie di scala? basta salirla aspettatemi 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 muovete quelle vostre vecchie membra padre Gallus Estrella hai citato un nome che conosco bene Lili no padre perché il re Pietro è convinto che sia il fantasma della sua prima volta è a Levi che glielo fa credere non so perché penso che voglia in qualche modo proteggerlo sembra strano ma gli vuole molto bene Pietro a sua volta è affezionato al vecchio lo maltratta spesso ma è il suo modo di manifestare affetto vale anche per te? si re Pietro è di quelli che amano fare del male alle donne non è cattivo in fondo si comporta con me come fanno i bambini con gli animaletti anche a Levi mi ha detto circa la stessa cosa Enrico? è molto diverso? no per niente semmai è più consapevole della propria ferocia perché è più intelligente agli occhi di entrambi io sono un corpo privo di testa per Dio li perdoni eccoci arrivati le stanze di Miriam sono al di là di quella porticina scavata nella pietra Miriam Miriam sono qua Estrella sei parecchio in ritardo che cosa? oh ma guarda buonasera Miriam Nicolas ma volete concedermi un po' del vostro tempo? voi padre Gallus seguite Estrella ma veramente? ci vedremo più tardi nelle nostre stanze oppure alla mensa di re Pietro se sta ancora cenando padre Emmerich vorrei parlarvi con urgenza prima che voi vi intratteniate con la vostra amica padre Gallus credo che il re sia ancora a cena visto che mio padre non è tornato potete parlare qua se vi va bene questa grotta lascerò l'uscio accostato io e Estrella vi aspetteremo nelle mie stanze padre Emmerich voi non fate che scandalizzarmi dimostrate verso i giudei una compiacenza indegna di voi soprattutto indegna della vostra carica giustificatevi giustificatevi sarei io a dovermi giustificare padre Gallus ma voi vi rendete conto delle mille idiozie che avete commesso all'arco di poche ore avete preso le parti di Enrico di Trastamara contro di me avete svelato ad una servetta ciò che abbiamo visto nel cortile del castello voi sembrate fare di tutto per sabotare la mia inchiesta io non posso permettere che voi agiate con debolezze verso gli ebrei e gli altri nemici della chiesa credete che non abbia colto stamattina il vostro turbamento di fronte alla figlia di Alevi voi stesso avete detto di conoscerla già adesso mi viene il sospetto che vogliate trattenervi con lei per motivi che non c'entrano nulla con i nostri doveri quali motivi? motivi diciamo diciamo così molto maschili padre Gallus se non mi faceste pena vi schiaffeggerei fino a farvi svanire e Dio mi perdonerebbe voi siete indegno della veste che portate siete indegno dell'inquisizione siete indegno della chiesa stessa ogni vostra azione denota una malevolenza morbosa un fiele nero quanto il peccato ma capisco anche che se siete idiota la colpa è dell'età quando eravate inquisitore a Praga eravate astuto e saggio ora siete un povero straccio d'ora in poi statemi alla larga padre Eric mi pentirete di ciò che mi avete detto non siete capaci di controllare le parole se tra noi qualcuno è impeccato siete voi non certo io la superbia è il vostro pane quotidiano la tracotanza vi inebria tutto ciò vi porterà male toglietevi dai piedi un aiutante del vostro stampo non mi serve a nulla ve l'ho detto statemi alla larga altrimenti sarò costretto a farvi del male d'accordo anche voi statemi lontano ora vado dal re voi spassatevola pure con la vostra giudea tornerete a chiedermi scusa in ginocchio difficile molto difficile praticamente impossibile estrellas accompagna padre Gallus nella sala da pranzo credo che tu conosca la strada domani voglio interrogarti mi hai detto la metà di quello che sai e forse meno pretendo il resto ma padre stai zitta e vattene andatevene tutti e due fammi strada scuoltrina seguitemi quanti anni sono passati padre Emmerich una decina non è vero per risalire quei due devono attraversare l'appartamento di Alevi il vostro padre non necessariamente c'è una scaletta una delle tante nascoste nelle viscere del castello sappiate comunque che Pedro Salomo Naleri non è mio padre la nostra è una finzione l'avevo immaginato se il capo dei giudei di Castiglia avesse avuto una figlia l'avrei saputo quando ci siamo conosciuti eravate una spia al servizio del re d'Aragone Pietro il cerimonioso siete ancora? si ma non sono qui in quella veste sono a corsa quando ho saputo della minaccia gravissima che incombe sul mio popolo Enrico di Trastamara e i suoi nobili vogliono lo sterminio di noi giudei credo che lo sappiate benissimo e che magari siate d'accordo con lui no la chiesa non si propone l'uccisione dei giudei li lascia vivere in quanto reliquia dell'antico testamento io comunque non sono qui per intervenire nella contesa tra i due fratellastri mi ha mandato impedire che sia Satana a decidere un esito il vero padrone di questo castello è Samai quello che voi cristiani chiamate il demone si mi è molto evidente pensate che non abbia capito perché questa fortezza ha una forma così strana poco fa quella sedicente ancella estrella perché la chiamate sedicente perché è tutto fuorché un'ancella basta sentirla parlare estrella dicevo mi ha fornito la chiave finale le gallerie che uniscono le torri sono ventidue perché ventidue sono le lettere dell'alfabeto ebraico a questo punto potrei disegnare la mappa del castello e dei suoi punicoli anche alla cieca siete rimasto l'uomo intelligente di sempre l'uomo che tanti anni fa ho amato con passione tacete non dite queste cose voi state parlando a un religioso a un inquisitore passione per di più corrisposta almeno in parte fu per questo che mi risparmiaste non è vero Nicolás ero vostra prigioniera e sottoposta alle vostre torture però ogni volta che qualcuno degli altri giudici esagerava voi intervenivate a risparmiarmi le sofferenze peggiori ed era chiaro che la mia nudità non vi lasciava indifferente disgraziata tacete o sarò costretto meno io vi lasciavo indifferente tanto che alla fine mi risparmiaste la vita non fu per questo scoprì che eravate al servizio di Pietro d'Aragona non potevo colpire un agente del mio stesso sovrano Nicolás non è da voi avere paura della verità siete rimasto bello come allora i vostri occhi sembrano cupi ma brillano di intelligenza e di sensibilità nascosta e il vostro corpo elegante slanciato qualsiasi donna che vi conosca da vicino si innamorerebbe di voi come vi dissi allora è facile amarvi non riuscirete ad indurmi in tentazione non ci riuscirete mai mai più dunque finalmente ammettete ma forse è troppo tardi vi siete chiuso al prossimo uomo donna che sia vi compiacete del vostro odio senza accorgervi che è paura sapete di essere fragile dentro troppo fragile basta vi lascio alle vostre fantasie peccaminose di giudea dov'è la scaletta che conduce fuori qui non si respira aspettate come volete non toccherò più questi argomenti che vi turbano tanto ve lo prometto però voglio aiutarvi in un luogo come questo anche voi avete bisogno di aiuto c'erano delle domande che volevate farmi badate forse non potrò rispondere a tutte ci sono molte cose che vorrei sapere la gente del villaggio vi accusa di essere l'assassina dei loro bambini siete al corrente certo come vi difendete non mi difendo i cristiani hanno sempre accusato noi giudei di sacrificare i loro bambini durante i nostri riti è una menzogna pura e semplice accusano me perché sono una donna il volgo cristiano vede le donne come fonte di ogni peccato se sono ebree poi sciocchezze tra chi vi accusa vi sono anche molte donne ma non deviate il discorso stamattina stamattina padre Gallus ha visto del sangue sulla vostra bocca come lo spiegate o ha mentito o le tagli fa avere le travecole che cos'è che voi giudei chiamate l'altra parte non ricordo l'espressione esatta ma suonava circa sitra 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 ahara non è un'espressione accettata da tutti i giudei fa parte della cabala ma di una cabala molto speciale creata dal maestro Isaac A. Cohen suppone l'esistenza di due mondi coesistenti uno superiore e uno inferiore opposti l'uno all'altro se nel mondo superiore opera una forza benefica nel mondo inferiore agisce una forza malefica il mondo inferiore forma così il colifot l'albero del male contrapposto all'albero della vita ora ditemi e cercate di essere sincera c'è una creatura alata luminosa come un fantasma che si aggira per il castello re Pietro è convinto che si tratti della sua prima moglie Bianca di Borbone e a Levi che glielo fa credere invece ho saputo che si tratta di una creatura molto diversa devo dirne il nome? no no vi prego non pronunciatelo dunque sapete di che cosa parlo ditemi è quel mostro che dissangua i bambini si ed è a Levi che lo evoca? no no lui ne è vittima come noi tutti vittima? permettetemi di dubitarne si tratta di un demone ebraico ed è chiaramente un giudeo che gli dà forma non è per caso una delle armi che a Levi intende impiegare contro Enrico di Trastamara? no no credetemi la cavala di Alevi è una cavala volta al bene ispirata da Dio non prendetemi in giro Dio non ha bisogno di statuette grottesche ripugnanti per essere adorato che cosa sono quegli orrendi fantocci di pietra che a Levi conserva di sopra? voi lo sapete ditemelo non ve lo posso dire chiedetelo a lui direttamente esistono segreti che non mi appartengono certo che non vi appartengono appartengono a Satana come lo chiamate voi giudei? Samael ecco è Samael che voi adorate il fatto stesso che viviate del sottosuolo che collezioniate idoli di roccia non è vero non è vero sì è vero voi adorate il diavolo e le sue emanazioni pensate pensate che non sappia che nella vostra mitologia Lilith è figlia di Samael non nominatela non nominatela di notte li avete svegliati non dovevate farlo chi è che ha svegliato? che cosa state dicendo? non è vero vengo vengo padre Gallus di Neuhaus non vi avevo ordinato di tenerti alla larga da me padre Heinrich voi dimenticate che questa stanza è anche la mia qui ho tutta la mia roba durante la notte ho bussato non so quante volte e non vi siete degnato di aprire purtroppo ho il sonno pesale così siete rimasto in piedi tutta la notte quanto mi dispiace vedo che non avete dormito sul vostro letto ancora una volta avete dormito sul pavimento odio le pulci che infestano i pagliericci le cimici e gli altri parassiti inclusi quelli umani per questo vi ho ordinato di starmi lontano non potete trattarmi così ho dovuto dormire come servi tu dove sono dove sono i miei indumenti naturalmente li ho gettati dalla finestra li potete recuperare in fondo il precipizio qui sotto ma come vi siete permesso su 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 non starnazzate tanto se avete sonno potete riprendervi il vostro letto io vado a continuare la mia inchiesta padre Eimerick state esagerando voi oltraggiate non solo me ma la mia dignità di inquisitore e la veste che indossiamo io posso anche dimenticare il vostro comportamento a patto a patto che mi chiediate scusa in caso contrario dovrò avvertire i nostri superiori teo che razza si andate ad avvertirli così vi toglierete finalmente ritorno dov'è il servo ebreo che ci avevano assegnato andavi andavi ah ecco di qui ho bisogno di che ai vostri ordini signore padre Eimerick ho saputo che avete trascorso la notte con la figlia di Alevi fin quasi al mattutino tutto il castello caggiava di strani bisbigli e di rumori misteriosi ma voi voi eravate troppo intento a sollazzarvi e non ve ne siete nemmeno accorto così avete spiato ciò che facevo bene vedo che anche voi conducete la vostra inchiesta ma non ho ancora capito quale giudeo hai un nome forse l'hai detto ma l'ho dimenticato si signore mi chiamo Isaac Abraham nativo di Ronda e figlio di... lascia perdere l'albero genealogico accompagnami in basso questo castello è un tale lagerini ah buon sonno madre Gallus l'aria è trasparente e il cielo è sereno sarebbe il momento adatto per un assalto al castello ma come ieri non c'è traccia di attività guerresca è come se non ci fosse alcun assedio l'ultimo attacco di Enrico di Trastamara risale a un mese fa e come finì? per gli assalitori fu un disastro forse questo ha reso Enrico prudente Isaac stanotte hai udito rumori particolari? ogni notte ci sono rumori signor inquisitore certo stanotte sembrava che tutti i demoni si fossero scatenati qualcuno ha anche creduto di vedere il fantasma della moglie del re a girarsi presso la torre in fondo quella occupata dall'Eonor di Cordova io però ho preferito chiudermi negli alloggi di noi domestici state attento alle scale signore sono ripide e consunte Isaac voi servi ebrei abitate nello stesso torrione del ministro Alevi non è vero? si ai piani superiori da dove venivano le voci che hai udito? sembravano provenire dal sottosuolo ripetevano sempre la stessa frase se noi san se noi se manghe love più altre cose che è meglio non ripetere il fantasma con le ali si so che aveva le ali è stato visto prima o dopo quelle voci? non lo so signore come vi ho detto non l'ho visto di persona eccoci in cortile volete che vi conduca alla cappella del castello? so che i preti cristiani devono dire messa ogni mattina è vero ma un inquisitore in missione è esentato da questi obblighi sai dove potrebbe trovarsi il ministro Alevi a quest'ora? probabilmente a colloquio col re padre Eimerick ma no eccolo laggiù presso il mastio vi ha visto viene nella nostra direzione tu allontanati un poco ma rimani dove possa vederti potrei avere ancora bisogno di te padre Eimerick buongiorno signor ministro vi stavo cercando anch'io vi cercavo padre Eimerick sapete cosa ha combinato il vostro confratello ieri sera? intendo padre Gallus nulla di buono suppongo ero al banchetto serale di re Pietro Pietro era molto nervoso perché estrella la sua ancella preferita era in ritardo padre Gallus ha fatto irruzione tutto è citato ha detto che voi siete l'amante di mia figlia il re naturalmente è rimasto incredulo lo voglio sperare continuate padre Gallus ha accusato me e gli altri giudei di essere colpevoli delle uccisioni dei bambini di Montiel ha detto di averne le prove mi ha anche accusato di connivenza con Enrico di Trastamara il re come ha reagito? per fortuna l'ultima accusa era incredibile Pietro che era completamente ubriaco si è messo a ridere i suoi nobili però mi hanno coperto di insulti mi odiano mi odiano e non vedono l'ora di sbarazzarsi di me andate avanti mi immagino che padre Gallus abbia insistito si si accusava soprattutto la mia povera Miriam e anche voi il re non gli badava però intanto è arrivata estrella padre Gallus ha detto di averla vista nel pomeriggio tra le braccia di Enrico questa volta non so perché il re Pietro gli ha creduto l'ha fatta incarcerare no peggio la fatta denodare e prostare dai servi la povera ragazza è tutta una piaga Pietro era fuori di sé la scambiava per la padrone la chiamava Leonor io sono riuscito a calmarlo e a riportare l'ancella nella sua torre poco dopo in cortile è apparso il vantasma con le ali sì sì me l'hanno detto si udivano voci tremende uscire dai sotterranei tutto il castello sembrava vibrare il re corso nei suoi appartamenti quasi impazzito dove corrono quei soldati e le truppe di Enrico si siano messe in movimento ascoltate padre Elmerich ascoltate io ho un bisogno disperato del vostro aiuto faccio fatica a dirvi questo ma solo voi potete aiutare me e la mia gente io aiutare la vostra gente ma vi rendete conto di ciò che dite signor Haledi voi state parlando a un membro della santa inquisizione e mi chiedete di aiutare la stirpe giudea se non volete aiutare i giudei aiutate me e soprattutto Miriam vi supplico voi siete un uomo duro ma anche una persona intelligente agite secondo quella che ritenete giustizia bene io non vi chiedo altro ma in che cosa dovrei aiutarvi di grazia tutti ci accusano di ciò che sta avvenendo qui fino a ieri godevo della protezione di re Pietro ma ora non ne sono più sicuro basta che accada un altro crimine che avvenga un altro prodigio e avremo tutti addosso voi avete impedito che gli abitanti di Guntiel dessero fuoco alla nostra torre per convenienza mia non per pietà verso gli ebrei comunque lo avete fatto aiutatevi vi prego io cercherò di condurvi alla verità che cercate fatelo per Miriam tra tutti gli attori di questa tragedia lei è la più innocente ufficiale fermatevi un istante che cosa accade mi sembra che nel villaggio sia scoppiata una somossa noi siamo incaricati di sedarla ma voi non siete padre Eimerich Eimerich l'inquisitore si perché il re vi sta cercando vuole vedervi con urgenza dove si trova nei suoi appartamenti perdonatemi ma devo correre andate pure Isaac Isaac vieni qui agli ordini signore vai al villaggio e scopri che cosa vi sta succedendo poi torna a riferirmi se non sarò più in cortile mi troverai nel mastio hai capito? si signore vado subito alla via alla via però dovrete andare a dare Pietro tutta questa agitazione mi fa prevedere il peggio il re aspetterà un altro poco prima voglio da voi alcune delle verità che mi avete promesso venite andiamo in un luogo più riparato che cos'è quel portico? da accesso alle stalle reali interrogatemi pure padre Emmerich vi dirò tutto quello che mi è consentito dirvi ci sono cose che vi dovrò tacere non è un buon inizio ma tant'è non pretendo che un giudeo ami la verità quanto un cristiano ditemi subito una cosa la pianta di questo castello è identica a quello che voi cabalisti chiamate l'albero della vita non è così? si lez hachaim siete davvero perspicace le dieci torri compreso il mastio simboleggiano le sefirot le dieci emanazioni di Dio voi forse non sapete com'è solto questo castello a Montiel trovarono rifugio i giudei che cercavano di sfuggire alle persecuzioni del 1348 piano piano trasformarono il luogo in un villaggio fortificato e quindi in un fortilizio vero e proprio si le costruzioni vennero eseguite sul modello dell'albero della vita perché si pensava che ciò portasse bene che potesse convogliare in questo luogo energie positive nessuno immaginava che sarebbe accaduto il contrario in altre parole questo castello è opera di magia la cabala non è magia chiamatela come volete io so bene come definirla non parlo di magia bianca o naturale parlo di maleficio signora Levi quando re Pietro si è venuto a rifugiare in questa fortezza o ha fatto per fruire delle energie positive di cui vi parlate quelle che sarebbero simboleggiate dall'albero della vita si si padre Eimerick Pietro il crudele è sempre stato un seguace della filosofia occulta sia ebraica che musulmana sulle prime la sua scelta di rifugiarsi a Montiel sembrava portargli bene il primo assalto di Enrico si tradusse in una disfatta Pietro era sicuro della vittoria sembra che l'intero castello si sia messo a combattere blocchi di pietra si staccano da soli si aprono voragini sui fianchi della tollina le macchine da guerra furono abbandonate perché del tutto inutili le armate di Enrico ripiegarono in disordine sconfitte più dal terrore che dalle perdite poi tutto mutò non è vero si si e ancora adesso ne ignoro il perché le energie da positive che erano si mutarono in negative fu come se il castello intero si ammalasse sulle pareti si disegnano facce contorte fantasmi luminosi cominciano ad apparire sugli spalti e ogni notte il castello geme come se qualcuno gli infligcesse se ne serve anche voi avete udito il pianto e le urla del castello ho udito qualcosa ma mi astengo dall'interpretazione voi come reagiste a questa situazione scavando gallerie è vero avete capito anche questo non era poi così difficile 22 gallerie 22 sono le lettere dell'alfabeto ebraico ma 22 sono anche i bracci che uniscono le sefirot del vostro albero della vita si io credetti che l'energia che ci proteggeva venisse meno a causa del disegno imperfetto del castello riproduceva è vero l'etz hachaim ma in maniera molto grossolana c'erano già le gallerie però in gran parte erano ricavate da cunicoli naturali ho cercato di renderne regolare il disegno con i limiti dovuti alla fretta ai pochi mezzi a disposizione e alla guerra in corso tutto comincia ad essermi più chiaro ditemi conoscete un certo Ramon de Tarragas solo di nome credo che sia un necromante aragonese che Enrico di Trastamara ha preso al suo servizio un ebreo rinnegato e certo voi lo conoscete meglio di me infatti pensate che sia stato il suo arrivo a cambiare la vostra sorta voglio dire a scatenare i malefici a cui assistiamo ogni giorno ne dubito dovrebbe conoscere a fondo la cabala e questo è dato a pochi quel Ramon de Tarragas è stato ebreo ma ora è cristiano anzi è domenicano come voi non lo è più in ogni caso è ben difficile che conosca a fondo una materia in cui anche la mente di un rabbino rischia di perdersi Ramon possiede un libro intitolato Le Meggeton lo conoscete? mio dio allora si spiega tutto il Le Meggeton era questo il dettaglio il dettaglio che mi mancava padre Emmerich Re Pietro desidera vedervi con urgenza ed è tempo che vi cerca attendi qualche istante devo prima finire una conversazione vi prego padre è un ordine di Re Pietro ha assolutamente bisogno di vedervi va bene vengo vengo signora Levi riprenderemo il nostro colloquio più tardi ma guarda sta arrivando anche Isaac tutta la servitù del castello è alla mia ricerca padre Emmerich padre Emmerich nel villaggio è stato scoperto il corpo di un altro bambino no no la gente è in tumulto accusa i giudei e per miracolo se sono sfuggito alle loro gring i soldati che fanno? non possono più trattenere la folla tutti chiedono la testa di Miriam e del rapino a Levi a questo punto è davvero urgente che io vi le rie a Levi rifugiatevi nelle vostre sotterra si si padre Emmerich in caso di pericolo fuggite con Miriam nelle groppe e voi sire è qui l'inquisitore Nicolás Emmerich de Girona fallo entrare fallo entrare chi cercavate? re Pietro padre Emmerich sire mentiremmo se dicessimo che siamo felici di rivedervi volete dividere con noi questo vinello? no sire vi ringrazio vi ho scontentato in qualche maniera scontentato e vi accontentate di dire poco vi avevamo chiamato a Montiel per indagare sulle stregonerie che vi accadono e voi cosa avete fatto? non solo non avete scoperto nulla ma ve la siete spassata con la figlia del mio ministro delle finanze sì questa è una menzogna e ne conosco la fonte quella vipera di padre Gallus e se è una vipera dovreste spiegarci perché ve lo siete portato dietro ma a noi non importa godetevi pure qualche femmina sire tutti i preti a modo lo fanno ciò che vi rimproveriamo è di non avere cavato un ragno dal buco maestà sono qui da due giorni soltanto a Montiel i giorni contano mesi se non anni durante la vostra permanenza sono apparsi spettri orribili il castello ha continuato a tremare come scosso da una mano gigantesca i giudei hanno sacrificato un paio di bambini e i villani sono scesi in rivolta e intanto voi incontravate il nostro caro fratellastro che si gode lo spettacolo in attesa di darmi il colpo di grazia sire il mio incontro con vostro fratello Enrico serviva proprio all'inchiesta che voi sollecitate del resto non sono solito dare spiegazioni sul mio operato nemmeno a un re l'inquisizione non ha altro sovrano che il pontefice siete un impudente forse ma io faccio il mio lavoro a questo proposito vi permetto di farvi una domanda siete davvero sicuro che siano i giudei ad uccidere i bambini ma lo sanno tutti che gli ebrei succhiano il sangue dei pargoli cristiani come noi succhiamo questo vino il nostro torto è stato tollerare e proteggere quella razza dannata quel mezzo rimbambito del vostro compare Gallus di non so dove in questo ha ragione se non avessimo nominato Alevi ministro delle finanze adesso non avremmo contro tutta la novità di Castiglia ma siamo ancora in tempo per cambiare roba che cosa avete in mente se posso chiederlo un'ora fa ho ordinato l'arresto di un po' di giudei non ancora Alevi ma certo quella squaldrina di Miriam e la gente di Montiel reclama sangue sangue in cambio di quello dei suoi figli voi ci farete il piacere di processare in fretta i giudei e di bruciarne qualcuno e noi procureremo la legna necessaria Sire io combatto gli ebrei quanto e più di voi ma non potete permettervi di dettare all'inquisizione le procedure da seguire tanto più che non dimenticatelo siete colpito da scomunica è già molto che io abbia accettato di venire qui padre Eimerick in passato ci piacevate parecchio avevate dei coglioni da fare invidia al primo dei nostri cavalieri adesso però siamo costretti a darvi un avvertimento proprio perché siamo scomunicati possiamo fare di voi quello che vogliamo torturarvi tagliarvi la testa scuogliarvi vivo vedete dunque di obbedirci la mia risposta è no io non obbedisco a voi ma a Dio e al mio pontefice tutto quello che posso fare è per compiacervi è interrogare la gente che avete fatto arrestare nient'altro è inutile avete i coglioni più grossi della storia non ci stupisce se piacete tanto alla figlia di Alevi d'accordo interrogate pure gli ebrei per il rogo mi rivolgerò al vostro padre Gallus però che uomo che siete credo che non abbiamo altro da dirci maestro andate pure peccato che non siate soldato perché io vi nominerei vi nomineremmo capo delle nostre truppe isa hai fatto bene a rimanere qui ti avrei cercato sai nulla degli arresti si mentre eravate a colloquio con re Pietro le guardie hanno circondato la torre dove vive la mia gente hanno ammassato tutti i giudei ai pieni superiori credo che lo abbiano fatto per calmare i popolani del villaggio sai se anche Miriam è prigioniera non credo a quel che ho sentito lei e a lei vi si sono rifugiati nei sotterrani laggiù non li catturerà nessuno andiamo alla torre presto la situazione va riportata sotto il mio controllo e in fretta l'agente di Montiel vuole bruciare la torre è la stessa storia di ieri ma oggi i soldati sembrano più decisi questa volta hanno avuto i loro ordini è chiaro signore permettete che non vi accompagni in mezzo a quella polla mi sa non pensavo che sei anche tu in pericolo di vita d'accordo non è necessario che mi accompagni ma resta nei pressi si si fatemi passare la santa inquisizione si è recuperata i prigionieri non tenete signori ufficiali sono qui per ordine del re comandate che questa gente mi faccia l'aria indietro indietro fate passare l'inquisitore padre Emery noi confidiamo in voi ma questa volta non ci lasceremo disperdere vogliamo che i colpevoli siano puniti alcalde state tranquilli i colpevoli avranno una punizione esemplare gente di mantieri gente di mantieri abbiate fiducia nella santa inquisizione la sua spada ne capiterà chi si è venduto a Lucifero i vostri figli saranno vendicati intanto intanto pregate mentre io conduco gli interrogatori il vero Dio deve riprendere possesso di questo castello pregate vi dico padre noster i es in celis santificetur noventum adveniat regnum tum comandante scortatevi dentro e fate chiudere le porte e seguitevi padre mandante si è fatto vivo l'altro inquisitore padre Gallus si padre Emery poco fa e ha voluto che ridessi un paio di uomini e un carpentiere ed è sceso nei sotterranei credo che voglia allestirvi una camera di tortura volete scendere anche voi no voglio salire i prigionieri sono di sopra no? accompagnatemi da loro rimarò con voi padre Emery ma sono inocui sono una trentina in tutto per metà donne lavoravano quasi tutte nelle cuscine o nelle stalle non so cosa mangerà il re oggi visto che i suoi cuochi sono chiusi qua il re si faceva preparare il cibo da cuochi giudei si e musulmani grave imprudenza giudei giudei non abbiate paura io non sono un vostro amico anzi sono un vostro nemico mortale ma non ho intenzione di punervi per colpe che non avete commesso mi chiedo quindi di aiutarmi e di aiutare voi stessi dicendomi la verità come pretendete che ci fidiamo di voi da quando esiste l'inquisizione non fa che perseguitare il nostro popolo l'inquisizione non perseguita nessuno si limita a difendere la vera religione che non è la vostra né quella di questo ufficiale musulmane non sono qui per convertirvi in basso c'è una masnada che vorrebbe bruciarvi vivi senza processo io vi garantisco almeno un istruttore non pretendo che mi amiata io stesso non vi amo per nulla vi propongo solo di aiutarmi ad individuare i veri colpevoli a loro sarà riservata la punizione agli altri non sarà affatto alcun male alcun male dite il vostro collega inquisitore ci ha già annunciato che ci torturerà tutti a uno a uno e come guardava le ragazze più giovani la vostra veste sarà immacolata ma quella del vostro amico era lurina donna non ti permetto illazioni contro un religioso comunque sappi sappiate tutti che l'inquisitore generale sono io e che solo a me spettano i compiti istruttori non vi sarà tortura se da parte vostra vi sarà sincerità questo ve lo prometto che cosa volete sapere se è vero che noi giudei sacrifichiamo i bambini cristiani se è vero che i nostri rabbini succhiano loro il sangue perché è di questo che siete convinti o sbaglio no no ci sono stati dei delitti e qualcuno deve averli commessi ma non è tutto in questo castello succedono prodigi spaventosi appaiono mostri infernali io sono convinto che le due cose i delitti e i prodigi siano collegate qualcuno di voi può indicarmi un nesso qualunque che mi metta sulla strada della verità signori inquisitori vi abbiamo visto in questi giorni a girarvi per il castello avete visitato una sola torre questa e gli appartamenti del re ma non vi siete nemmeno accostato alla torre che è al centro di ogni maleficio e sarebbe? quella in cui era inchiusa donna Leonor Lopez di Cordoba in due giorni non ho potuto vedere tutto che cosa avrebbe di speciale quella torre? visitarla e lo scoprirete subito io ci sono stata prima che l'appartamento di donna all'orga non si è murato ho visto le incisioni sulle pareti gli amuleti in filo di rama i disegni che raffigurano il male in tutte le sue espressioni in ogni stanza di quella torre si avverte il respiro del diavolo Sara ha ragione quella fu la torre a cui i cristiani affidarono la loro protezione quando si ripresero Montiel io abitavo già qua e vidi cosa fecero i cinque frati vestiti di bianco dicevano che volevano salvare il villaggio dai sortileggi di noi giudei ma dove c'era il bene gli sostituirono il male dove c'erano le emanazioni di Dio misero le emanazioni di Samael mi hanno detto delle origini del villaggio e anche della missione dei cinque frati purtroppo non so altro qualcuno che vi è vicino però sa tutto signore inquisitore non è vero Sabrina si lui era uno dei cinque lo ricordo bene non era il capo ma c'era anche lui dove sorgeva la torre consacrata a Malcuti il regno edificarono il tempio non fare quel nome Sabrina non farlo il tempio di Lilith è questo che intendete dire no tacete se noi se noi se mancherò ciazzurino se noi se noi se mancherò ciazzurino se noi se noi se mancherò ciazzurino ecco uno spettacolo insodico, padre Enelk. Sbaglio! O state dirigendo un qualche rituale giudaico? Spero che non sia così, ma è certo che vi siete fatto prendere la mano. Padre Gallus, non immischiatemi. Ciò che accade qui non vi riguarda. Io conduco l'inchiesta a modo loro. Inchiesta? La vostra non mi parla. Inchiesta? Fuori c'è una calca di buoni cristiani che reclama vendette per i bambini uccisi. E voi che fate? Beh, state qui a biascicare preghiere con una compricola di giudei. La bella Miriam deve avervi davvero sedotto. Guardate, padre Gallus, voi state mettendo dura prova la mia pazienza. Sto interrogando dei testimoni. Andate a me o proverete la mia collena sulla vostra pelle. Minacciate un vostro col fratello e blondite dei giudei. Se la gente qui sotto lo sapesse darebbe subito fuoco alla torre. E se il padre lo sapesse, sareste cacciato dalla santa inquisizione. Spero che ne siate consapevoli. Che cosa volete? Condurre l'interrogatorio a modo mio. Come facevo a Prada. Mi sono fatto prestare dare Pietro il suo carnefice. In basso ho fatto installare la carrucola per i tratti di corda. E anche un bel brocere. Credo che comincerò con quella giovane giudea che sembra tanto esagirata. Terrazza di inquisitori sierpa. Non ricordate che per applicare la tortura occorre il consenso del vescovo. E voi? Non sapete che un interrogatorio l'ha condotto in presenza di altri tre giudici e di un notaio? La verità è che siamo in condizione di emergenza e questo ci autorizza a ignorare le procedure. Sabrina, è il momento. Via, padre Emerick, la verità. Tutta la verità. Non ho ancora figlione. Non ho ancora. Nessuno ne crederà. Ecco! Ecco la prova! Ammettono loro stesse che stanno mentendo. Padre Emerick, faccio un ultimo appello alla vostra ragione. Ci sono tutte le condizioni per sottoporre a tortura i prigionieri. Chiedo il vostro consenso per procedere ma vi avverto che procederò anche senza. Comandante, avvicinatevi. Sì, signore. Vi ordino l'arresto immediato del qui presente padre Gallus di Noiaus. Ma, ma, spero che stiate scherzando. Io non scherzo mai. Scherzare è peccato. Comandante, procedete. Ma, ma, è assurdo! Comandante, non lo soate farlo. Non potete toccare un servitore di Dio. Signore, io sono musulmano. Oh, libera la nostra mano! Vi accompagno io alla vostra cella, padre Gallus. Continuerò l'interrogatorio più tardi. Ma voi siete pazzo? Lasciatemi! Lasciatemi! Non sono io il pazzo. Pazzo che sfida la volontà di Nicola Seideric. Che? L'ancella non vi aprirà, signore inquisitore. È stata frustata. E sta male. Inoltre è stata condannata all'isolamento. Vedremo, Isaac, vedremo. Deve essere in piedi, perché Donna Leonor non ha altri servitori. Credo che sia per questo che il re Pietro non ha fatto rinchiudere Estrella in una cella. Chi è? Sono padre Nicola Seideric. Apri Estrella. Non posso farvi entrare. Non posso far entrare nessuno. Ho il permesso del re. Ti devo parlare, credimi. Potrei esserti d'aiuto. C'è ancora tutta quella gente in cortile? No. Il tumulto è cessato. Ho con me solo un servo. È giudeo, ma è innocuo. C'è ancora tutta la mia padrona. Però dovremo parlare nell'agile. La mia padrona non vuole visite. E sia. Aspettate. Mio Dio. Come ti hanno ridotta. Sto tremando di febbre, padre Emery. Non dormo da non so quante ore. Le ferite mi impediscono di colicarmi sul letto. Come vedete, sanguinano ancora. Isaac, ti intendi un po' di medicina? In fondo è l'arte tipica dei giuderi. Sì, qualcosa ne so, padre Emery. Qui ci vorrebbe un balsamo. Questa donna va medicata. Sì, signora. Ora veniamo a noi, estrella. Sembri serena, in fondo. Lo sono. Essere ridotta così mi mette al riparo dalle violenze di re Pietro. Almeno per qualche notte. Quasi quasi vorrei che mi facesse frustare più spesso. Dunque è davvero così crudezza? Sì. Sì, soprattutto con le donne. Sa essere perverso a un punto che non riuscite nemmeno a immaginare. E la mia padrona ne sa qualcosa. Già, la tua padrona. Più tardi ne riparleremo. Ora dimmi di te. Suppongo che questo pomeriggio non andrai a trovare Enrico. Sì. Eviterò anche le sue brutalità. Per resto da Enrico non vado tutti i giorni. Guai se Pietro se ne accorgesse. Ma cosa state guardando? Quei ghirigori sulla parete. Si direbbero fili, fili di metallo dalla forma strana. Tu sai che cosa siano? No. Continuano ai piani superiori dove sono ancora più fitti. Una decorazione davvero curiosa. Bene. Abbiamo perso anche troppo tempo, estrella. Ora dimmi la verità. Chi sei realmente? Non capisco. Cosa intendete dire? È inutile che io ripeta la domanda. Mi hai compreso benissimo. Ti credevi di ingannare. Tu non parli né ti comporti come un'ancella. Io voglio sapere il tuo vero nome. Non davanti a un servo. Ecco un'altra frase che un'ancella non direbbe mai. Isaac, ti avevo chiesto di andare a prendere un balsamo. Come desiderate, signore. Attendo la tua risposta. Sì, è vero. Non sono sempre stata un'ancella. La mia famiglia era aristocratica. Poi è andata in rovina. Non ti ho chiesto di inventare su due piedi una storia qualsiasi. Voglio tutta la verità. Ma ve la sto dicendo. No, non me la stai dicendo. Un'ancella anche di origine nobile. Non può essere l'amante di due re. Giocarsi quasi quotidianamente la vita per soddisfare le voglie di entrambi. Ci sono cose. Ci sono cose che non posso dire. La mia vita è terribile. Non crediate di commuovermi. Lo so bene che la vostra vita è terribile, donna Leonor Lopez di Cordola. Padre Nicolas, come fate a sapere? Era un sospetto che voi ora mi confermate. Il mio sospetto nasceva da indizi precisi. Anzitutto il fatto che vi divideste tra due letti regali, come la vostra presunta padrona. Un re e un aspirante re non avrebbero ammesso in camera, con tanta regolarità, una servetta qualsiasi. Ma soprattutto non erano credibili le storie che circolavano sulla misteriosa Leonor di Cordoba. una persona a cui venga asportata per intero la pelle della faccia non sopravvive che poche ore. L'emorragia non sarebbe arrestabile. Io sono vittima di due bruti. Non sapete quello che mi fanno. Ho visto come vi trattano, donna Leonor, per cui lo posso immaginare. E tuttavia la crudeltà di Pietro e di Enrico nei vostri confronti non si spiega soltanto con le loro perversioni peccaminose. È evidente che vogliono punirvi. Sì, tutti e due mi hanno amato. E tutti e due sono gelosi di me. Soprattutto Pietro, non è vero? Fu lui a rapirvi a vostro marito e a trascinarvi con sé nella sua avventura senza speranza. Pietro aveva un'altra amante, Maria Pariglia, che morì poco dopo la moglie. Lui fu un giocattolo finché Enrico non mise gli occhi su di me. Improvvisamente Pietro vide in me il mezzo per colpire il fratellastro e viceversa. Suppongo che Pietro abbia fatto spargere apposta la voce di avervi sfigurato. Voleva ferire Enrico. Del resto è il tipo che si compiace della sua fama di uomo terribile. Non immaginava che questo castello avesse tante vie d'uscita. Ci sono però due dettagli che mi sfuggono. Badate, ora attendo da voi la massima sincerità. Come potrei mentirvi? Sapete tutto? No, no, non tutto. Dopo avervi fatto credere sepolta nella torre, Pietro ha fatto di voi una serva. Nessuno vi aveva mai visto prima. Un inganno del genere non può reggere a lungo. Con me è durato solo poche ore. Sono giunta in questo castello velata. Solo il ministro Alevi mi aveva già vista. È l'unico che conosca i fatti. I nobili fedeli a Pietro sono pochi signorotti di provincia. Mentre quelli di Enrico... Molti di loro mi conoscevano. Ma Enrico ha ordinato che mi si trattasse da sguattera. Voi trovate nell'essere umiliata una specie di piacere. C'è un'altra cosa che voglio conoscere. Perché Pietro vi ha rinchiusa proprio in questa torre? Fa parte della vostra punizione. Non lo so, non lo so. Non capisco cosa volete dire. Non è una torre come le altre. Sorge isolata, alle pareti attraversate da curiosi fili di rame. Per di più ho visto io stesso due notti fa una specie di demonio alato trovare rifugio qui. Voi come lo spiegate? Non lo so, credetemi. È Alevi che ha voluto che fossi imprigionata qui dentro. Ancora Alevi. Decisamente sono stato troppo tollerante nei suoi confronti. Bene, donna Leonor. Ora cercheremo di scoprire assieme la verità che voi dite di ignorare. Guidatemi ai piani superiori e non provate più a ingannarmi. Avete visto che con me non serve. Ma i piani superiori sono murati. Nemmeno io vi ho mai avuto accesso. Proprio quelli voglio visitare. Su, fatemi strada. C'è da salire una scala. Mi seguo. Ecco, vedete quel muro di mattoni? Tutti credono che io viva lì dietro. E la finestrella è quella da cui mi sarebbero passati i pasti. Fatemi vedere. Molto buio. Era noto che i fili di rame coprono anche qui le pareti. Davvero voi non avete idea del loro significato? Formano dei disegni molto strani. Io so solo che Alevi ne era spaventato a morte. Non osava toccarli. Che cosa temeva? Sono molto caldi. Talvolta scottano addirittura. Se mi si sfiora, sembra che mordano la mano. Tacite un istante. Come se là dentro fosse pieno di serpenti. Migliaia e migliaia di serpenti. Da dentro, padre Emerick, avvengono cose che io non voglio nemmeno sapere. A volte si vedono dei lampi e piccole fiamme che corrono lungo i miei. E per i momenti mi sembra di impazzire. Non credo che finirò per togliermi la vita. Non fatelo. Credo che al termine della mia inchiesta alcuni di quelli che vi hanno reso loro schiava avranno la loro punizione. Ditemi piuttosto, donna Leonor, ci sono nella torre picconi o altri strumenti adatti ad abbattere questo muro? No, no, non c'è niente del genere. Del resto non credo che il re o Alevi vi lascerebbero abbattere la parete. Il lasci deve essere qualcosa che non deve essere scoperto a nessun costo. È evidente, ma la volontà di Pietro o del suo ministro non mi potrebbe fermare. Se rimando è soltanto per... per i serpenti che ha udito Sibillare nel buio. Ora vi prego di accompagnarmi nei vostri appartamenti. Non contengono nulla di speciale, un pagliericcio, un paio di sedie, qualche mobile. Quello che mi interessa non sono gli arredi. Le vostre stanze sono nel sottosuolo. Immagino che siano a contatto con le gallerie che uniscono le torri tra loro. Sì. Certo conoscerete quella che conduce alla torre della figlia di Alevi, Miriam. So che siete amiche. Proprio amiche no, ma è una delle poche donne presenti nel castello e ci frequentiamo un poco. Volete andare da lei? Sì, ma lo devo fare di nascosto perché la stanno cercando. Allora, conoscete questa galleria? Sì, il suo accesso è adiacente alla mia camera. Bene, portatemi là e indicatemi la strada. Non occorre che mi accompagnate. Però badate di fornirmi indicazioni esatte o ve la farò pagare. Non occorre che mi minacciate, padre Emerick. Seguitemi. Torniamo al pianterrino. Padre, nella farmacia del re. Isaac, finalmente di ritorno. Benissimo, verrai con me. Stacca una torcia dal muro. Ho preso dalla farmacia del re un balsamo per questa donna. Basta spalmarlo sulle piaghe. All'inizio brucia un fuoco, ma poi ci si sente meglio. Bravo. Accendi la torcia e vieni con noi. Donna Leonora, accompagnateci di sotto. Ma come? Non ti stupire, Isaac. L'ancella e la sua padrona sono la stessa persona. Ma come? E streia e Donna Leonora? Donna Leonora, indicateci la strada. Si passa per questa porticina. Poi si deve scendere una scaletta. Fate attenzione, è molto ripida. Acque sotterranee anche qui. Il sottosuolo del castello è tutta una voragine. Di voragini ce ne sono tante. E' un labirinto di fiumi sotterranei. Abbassate la testa. Davanti a voi ci sono le gallerie che conducono alle torri. Quella di destra porta alla torre dei giudei. Vi ringrazio, Donna Leonora. Dora in poi ce la caveremo da soli. Devo chiedervi di recarvi al campo di Enrico non appena possibile. No, non per rivedere l'altro vostro aguzzino. Dovete svolgere una missione per me. Ve la sentite? Non so perché, ma sono pronta a obbedirvi. Forse perché siete l'unica persona del castello che non appaia sordida e volgare. Che cosa desiderate? Conoscete Ramon de Targa? Lo stregone? Oh, sì. Sì, è un uomo spaventoso. Sospetto che Enrico si consulti con lui ogni volta che deve decidere le umiliazioni da infliggermi. Anzi, è più che un sospetto. Ramon sconterà anche questi peccati. Ma prima devo annientare i suoi malefici. Ho bisogno di un manoscritto che Ramon tiene nella sua tenda. Si intitola Le Megaton. Forse è in diversi volumi, ma quello che ho visto io ha per sottotitolo Goezia. È quello, è quello che mi interessa. Voi dovreste sottrarlo a Ramon e portarmelo. Pensate di potercela fare? Posso provare? Come mai avete tanta fiducia in me, padre Eimony? Io non ho fiducia in nessuno. Siete voi che avete fiducia in me. Sapete che sono la vostra unica speranza di redenzione. Può darsi, ma può anche darsi che voi siete migliore di quanto vogliate far credere. Provate a disobbedirmi. Scoprirete che non è conveniente farsi illusioni sul mio conto. Vieni, Isaac. Andiamo a esplorare un'altra porzione di questo castello infernale. Estrella, no, no, donna Leonore... Arrivo, padre Eimerick! Dovremmo essere già a metà della galleria. Isaac, non credevo che questo passaggio segreto fosse così lungo. Sembra lungo perché non è dritto. Però, signor Eimerick, io non conosco molto bene questi sotterranei. Solo il rabbino Alevi li conosce a fondo. Isaac, non devi chiamarmi signor Eimerick, ma padre Eimerick. Se però la tua religione giudaica te lo impedisce, vuoi chiamarmi signor inquisitore. Se permettete vi chiamerò magister. Ho sentito che il signor Gallus vi dà questo titolo. Padre Gallus. Va bene, chiamami come ti pare. Tu davvero non conosci queste gallerie? Sembri capace di muoverti al loro interno con disinvoltura. Ne conosco il disegno perché so che è uguale a quello che i cabalisti chiamano l'albero della vita. Non guardatemi così, non sono un cabalista e della cabala conosco appena qualche nozione. Non tutti gli ebrei accettano la cabala, molti anzi la condannano. Non contrasta con la nostra religione, ma la complica inutilmente. La cabala è magia nera. Già la vostra religione è riprovevole. La cabala lo è molto di più. Non oserò contraddirvi, magister, ma non è esatto dire che la cabala sia magia nera. Si propone di studiare quel tanto di Dio che è accessibile alla comprensione umana attraverso l'esame accurato delle scritture e delle singole parole che contengono. Non è negromanzia, ma semmai una perdita di tempo. Isaac, non cercare di farmi credere che non esistono cabalisti negromani. Esistono, ma di solito sono cristiani. Isaac! Forse non dovevo dirlo. Proprio così. Ma è la verità. Ci sono dei cristiani che usano la cabala per le loro magie. Sono loro che chiamano questi cunipoli. le gallerie di Seth. Nessun giudeo userebbe un'espressione del genere. Le gallerie di Seth? Ma chi è che usa questo termine? Attenzione! Le acque del fiume attraversano il cammino. Non è largo, ma bisogna saltare. Salto prima io. Voi seguitemi. Allontaniamoci! Non vorrei che il terreno ci trannasse sotto i piedi. Ho paura per la torcia. Sei rimasta accesa per miracolo. Quai se restassimo al buio. Questo luogo è spaventoso. E ha scavato queste gallerie. Non ha obbedito a Dio. Ha obbedito a Satana. Sembra che tutto il sottosuolo stia parlando. È il castello che parla. Quando ci sono venuto non era così. Poi qualcuno deve avergli scagliato contro una maledizione. Magister, siamo nella torre di Ale. Che è un'altra cosa. Che è un'altra cosa. È un'altra cosa. Che è un'altra cosa. Voi, ma che cosa fate qui nella mia stanza? Miriam, vengo dalla torre della vostra amica estrella Vale a dire donna Leonor Lopez di Cordoba Ho la prova che sono la stessa persona Non potete restare qui Come vedete sono in camicia Suppongo che vogliate parlare ad Alevi No, voglio parlare con voi, privatamente Isaac, non ho più bisogno di te Vattene per la stessa galleria che abbiamo percorso La torre sopra di noi deve essere piena di soldati Se non sono già scese nei sotterranei Sì, vado signore Dunque è vero che stanno cercando Alevi e me Credete che vogliano ucciderci? Credo proprio che vi sia questo rischio Alevi è qui No, è da qualche parte, sotto terra Meglio per lui Miriam, vestitevi Non potete restare seminuda Quando fui vostra prigioniera, padre Eimerick Vi vedeste nuda del tutto E la visione non sembrò dispiacervi Copritevi almeno il seno Io vi porto un rispetto persino eccessivo Cercate di fare altrettanto Metterò questo velo Se dovessi rivestirmi del tutto Dovrei prima sfogliarmi della camicia E scommetto che non lo vorreste Ecco, così va bene? Sì Se ho ben capito siete venuto fin qui apposta per parlarmi Esatto Ci sono troppe cose che ancora non conosco E voi potete essermi d'aiuto Ma anche io posso aiutare voi Padre Gallus e l'intero villaggio Vi accusano di essere una strega e un'assassina L'unico ostacolo tra voi e il rogo sono io Ma sono cosciente Noi giudei siamo sempre stati il capro espiatorio Delle paure dei cristiani Non voglio parlare di questo Non mi interessa e se fosse per me Farei cacciare tutti gli ebrei dalla Spagna No, è altro che voglio in cambio del mio aiuto Finora da voi e a Levi Ho saputo soltanto mezze verità Sono state più le cose che avete omesso Di quelle che mi avete detto Non crediate che io sappia tutto Vale anche per Levi Subiamo i sortileggi di questo castello sulla nostra pelle Sono rivolte contro il re di Castiglia Ma soprattutto contro di lui Forse è vero Ma non negate di essere stata reticente Ho dovuto scoprire da solo Che Leonor di Cordova e la sua ancella Sono la stessa persona Eppure voi sua amica lo sapevate benissimo E anche a Levi Doveva esserne al corrente Tutti e due avete cercato di ingannarmi È che volevamo proteggerla Io poi volevo proteggere anche voi Proteggere me? E vi illudete che vi creda? Anche voi siete in pericolo Tutti noi che ci troviamo a Montiello siamo Padre Emerick Nicolas Guardatemi negli occhi Cosa volete dirmi? Statemi lontana Non sopporto le persone che mi si avvicinano troppo Nicolas C'è un motivo per cui la vostra vita mi sta a cuore Ve lo confessai otto anni fa Quando ero vostra prigioniera Nascosto in voi da qualche parte C'è qualcosa di terribilmente bello E di terribilmente umano Lo scoprì anche mentre vi sforzavate di essere il mio assassino Ed allora non vi ho più dimenticato Attenta Miriam Non una parola di più Potrebbe essere la vostra condanna a morte Ma che mi importa? Sono ormai in tanti che mi vogliono uccidere Nicolas Guardate in voi stesso Perché mi proteggete? Io, una giudea Una donna della stirpe che l'inquisizione combatte da sempre Taci femmina Tu stai delirando Non osare vomitarmi addosso la tua indole di peccatrice Incurtuo sai la verità Nicolas I tuoi sentimenti verso di me non erano quelli di un boia C'era qualcos'altro Ed era ricambiato In me esiste ancora Ma anche in te Basta Basta così Ma dovrò schiacciarti come una vipera Io ti amo Nicolas E anche tu mi ami Ti schiaffeggerò ancora Se cercherai di usare le tue arti di femmina contro di me Ma perché hai tanta paura Nicolas? Paura? Di che cosa stai parlando? Sì Hai paura dei tuoi sentimenti Di ciò che sei realmente Non hai timore delle donne Hai timore di te stesso Di mostrarti debole Eppure non sarebbe difficile essere felici Nicolas Rivestiti Subito Guarda il mio corpo Da anni desidera le tue carezze E da anni tu Senza ammetterlo Desideri accarezzarlo Ora puoi farlo È tuo Basta Basta Ti percuoterò di nuovo Non lo farai Lo farò Rivestiti immediatamente I soldati sono qui Devi scappare Oddio Sono già nella stanza di sopra Ci metteranno un po' a scendere alla scaletta Troppo tardi No non è tardi Nelle gallerie non potranno trovarci Vieni Dove siamo adesso? Nella galleria che noi chiamiamo Dinun Porta al Tifaret Il mastio è dove abita il re Dio ci sono già addosso Non è detto Le grotte amplificano i rumori Una volta nel mastio È possibile proseguire nel sottosuolo senza essere scoperti Sì Ci sono varie gallerie Quelle di Iode Via Yin di Lamet Noi indichiamo le gallerie con le lettere del nostro alfabeto Sembra che i nostri inseguitori abbiano preso un'altra direzione Dimmi Miriam Le gallerie in cui ci troviamo Vengono anche chiamate Gallerie di set E tu come fai a saperlo? Non ti deve importare Sì ma è È una denominazione blasfema Non si riferisce all'albero della vita Ma al suo contrario Il colifotte Prima o poi dovrai spiegarmi tutto Ora però il problema È la tua salvezza Miriam Sì Nicolás Miriam tu sai dove si nasconde a Levi Sofia non è il caso che ti mostri reticente Credo che si sia rifugiato in un abisso gigantesco Scavato tra le torri che noi chiamiamo Binah e Chokmah Nella parte settentrionale del castello Scavato da chi? Dalle acque sotterranee È una voragine naturale Una delle tante che esistono nel sottosuolo della collina Ma più profonda delle altre Io conto di conferire con Erwin Riuscirai a raggiungere Alevi da sola? Sì Nicolás Che la torcia non mi sospenda Siamo arrivati Ti lascio Io sento delle voci Non ti preoccupare Nicolás È il castello che parla Come fa sempre Dovresti essere qui di notte Sarebbe come essere all'inferno di notte Solo Satana potrebbe aver costruito questa fortezza da incubo Ecco i gradini che portano al mastio Sono due rampe Io cercherò di proseguire verso nord Non credere di essere libera di andartene così Prima voglio da te almeno un brandello della verità Che cosa sta accadendo qui a Montiel? Qual è la chiave di questi malefici? La chiave? Se potessi conoscerla Io ho solo un sospetto Quale? C'è una parola nella nostra lingua che lo riassume Ippur Ma il nostro popolo usa di preferenza il termine Ghibuk Mentre qualche dotto preferisce dire Gilgul Basta con gli indovinelli Che cosa vuol dire tutto ciò? Ippur significa Impregnazione Impregnazione Ghibuk Attacco di uno spirito maligno Attacco di uno spirito maligno Gilgul Reincarnazione Tutte e tre le parole indicano la presa di possesso di un vivo da parte di qualcosa che è morto Porta alla morte Ma è un discorso complesso Lo continueremo più tardi Vai ora Nicholas Ma guarda Avevamo giusto intenzione di invitarvi a pranzo padre Eimerick Ma non ci aspettavamo però che sbucaste dalla porta della mia dispensa Il buon padre deve essere andato a caccia di ragni Sire Guardate come rigore Il signor Rodriguez di Sanabria in un certo senso ha ragione Sono andato a caccia di ragni Però a due zami Allora dopo una caccia così avventurosa avrete certo appetito Rassicuratevi non ci sono donne Servo! Porta a padre Eimerick una vernice con le bacche in miele E anche un paio di brocche di vino di Calatrava Ecco qua Mangiate pure Non aspettate che arrivi la nostra portata Il ragno inseguito da padre Eimerick era forse un giudeo chiamato Alevi? Lo chiedo perché anch'io gli ho dato la caccia per ore Signor Rodriguez avete idea di dove si nasconda? No Le gallerie sotto il castello sono un vero dedalo Anche i soldati che vi hanno lavorato non ne ricordano il percorso Ma lo prenderemo Lo prenderemo Quel traditore farà la fine della pernice che padre Eimerick sta addentando Parola del re di Castiglia La vostra simpatia per Alevi è dunque finita? Per questo è finita da un pezzo Abbiamo già avuto occasione di dirvelo Ma non immaginavamo che quel giudeo si schierasse col nostro fratellastro E Alevi sapete che scatena i mostri e i fantasmi per indebolirci E sua figlia è quella che lo aiuta nei sacrifici umani E lei E lei che rapisce e che scanna i bambini cristiani del villaggio Sire potrei chiedervi come mai ne siete tanto sicuro La vostra premura ci conferma che vi portavate Miriam a letto Maestà No, 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 per carità non irritatevi, ritiriamo tutto Come mai siamo così sicuri della colpevolezza di Miriam e di Alevi? Abbiamo revocato l'arresto del vostro confratello inquisitore padre Gallus Sì, ci ha fatto sapere delle cose che ci hanno persuaso della sua innocenza E sarebbe? No, 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 non chiedeteci quali E adesso lui sta torturando uno a uno i servi ebrei del castello E tutti ripetono la stessa cosa Ormai non ci sono dubbi Maestà, la tortura è un mezzo indispensabile Certo Ma non è la forma di interrogatorio più sicura Capita spesso che il prigioniero per sottrarsi ai tormenti Dica quello che pensa che i giudici vogliono sentirsi dire Voi sapete meglio di me che padre Gallus è sì un rimbambito Ma è anche un inquisitore esperto D'altra parte le confessioni dei torturati hanno riscontri obiettivi Padre Gallus in persona ha visto la figlia di Alevi Con le labbra macchiate di sangue Insomma, mi fate mangiare o no? Presto, la cacciaggione del re! Avanti con te la sei! Sire, io ero con padre Gallus Quando dice di avere visto il sangue sulle labbra di Miriam Io però non ho visto niente Oh, finalmente da mangiare! Questi porci meditavano di farci morire di fame E padre Eimerick Ci sono altri riscontri sicuri Intanto è più che certo che Alevi È un necromante Spiegategli voi, signor de Sanabria Il signore inquisitore certo è al corrente della mania di Alevi Collezionava bambole di pietra di tutte le dimensioni Una più orrenda dell'altra Le ho viste, le ho viste Allora capite cosa intendo Bene, nel fuggire Alevi si è portato dietro i suoi osceni pupazzi Non tutti, ma molti Dunque non si trattava di una follia innocente Un uomo che si sa abbraccato Non perde tempo a caricare se stesso O i suoi complici di oggetti di quel peso Ne concludo Che le bambole gli servivano per operazioni magie Ed io concordo con voi, signore Fin dal primo istante Ho pensato che quelle immagini Avessero una funzione precisa E un'utilità sinistra Già Una prova del genere Taglia la testa al toro Prendete dell'altro vino, padre Eimerick Volentieri, approfittano Abbiamo tutti bisogno di rinvigorire il nostro sangue Ma c'è di più, eh Alevi ci ha fatto credere per settimane Che il fantasma che appariva nel castello Fosse quello di nostra moglie Quella stupida puttana sciamaledetta Ora sappiamo invece Che era sua figlia Miriam Alevi cercava di coprire i crimini della figlia Può anche darsi Vorrei però che tutto questo Emergesse da un'inchiesta regolare Conforme alle procedure della santa inquisizione Padre Gallus Sta applicando la tortura Senza il consenso del vescovo E ciò è grave Interroga i prigionieri Senza un notaio che verbalizzi Le loro dichiarazioni E questo è ancora più grave Agisce da solo Quando la regola e la prassi Prevedono quattro giudici E ciò è gravissimo Voi sapete quanto ci siete simpatico Padre Emeric Però a volte Siete proprio noioso Siete un noioso leguleio Un vescovo dite Signor De Sabria Qual è il vescovo più vicino qui? Quello di Ciudad Real Credo che se la sia data gambe all'inizio delle ostilità Vedete Padre Emeric E' un notaio? Padre Emeric vuole anche un notaio Dove lo troviamo un notaio? Ce n'era uno a Calatrava Me l'avete fatto inficare Proteggeva i ribelli Signore inquisitore Anche se volessimo Non potremmo seguire le Procedure Che vi stanno tanto a cuore Diavoli e fantasmi non ci fanno paura E ci chiamano Pietro il crudele Perché noi e il demonio siamo vecchi commilitoni Libera nostra mano Subbia padre Lo scandalizzatevi Bevete invece O il vostro vino diventerà aceto Noi temiamo piuttosto i diavoli a due gambe Il fatto che Duke Eclenna si sia alleato con Enrico Non ci riempie di gioia Sire abbiamo ancora una superiorità numerica A 7.000 soldati Enrico esita ad attaccare perché non ha tanti uomini Lì ha Lì ha E poi i nostri 7.000 Sono saraceni Appiedati Che invece delle armature indossano delle camicie da notte Non capisco nemmeno gli ordini dei nostri ufficiali No No Quel Duke Eclenna mi preoccupa sul serio Poi Padre Eimerick Cosa fareste nei nostri panni Non sono uno stratega Sire Però Se potessi Azzardare Un consiglio Sì sì vabbè Azzardate Azzardate Terrei presente che Duke Eclenna è un mercenario E un mercenario si può sempre comparare Sì ma Duke Eclenna è carissimo Oh Oh In passato anche Lui ha combattuto per noi Solo che è esoso come una bella puttana quello là Se fossi in voi Sire non baderei a questo In circostanze disperate Ogni prezzo è comunque un affare Duke Eclen di costerebbe meno Del mantenere qui a Montiel 7.000 soldati inutili Approvo vivamente Sire So che ormai non avete più denaro Avete però delle terre Promettete quelle E come non promettere nulla Beh Sì 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 In effetti si può fare Però non sappiamo come avvicinare Duke Eclenna Padre Emeric Voi Siete già stato nel campo di Enrico Ve lo sentireste di tornarci? Non è il mio mestiere fare il mediatore Sire Su via Non vi costerebbe nulla Non dovreste impegnarvi a nostro favore Ma solo far capire Duke Eclen che siamo pronti ad accordarmi quello che vuole se accetta di cambiare bandiera Noi in cambio vi promettiamo che metteremo fine agli abusi di padre Galdus Visto che li ritenete tali E sarete il solo autorizzato a giudicare i giudei catturati Anche la vostra Miriam Quando la prenderemo? Sire di solito non accetto patti di nessun tipo Però voglio in effetti tornare a visitare vostro fratello Fratellastro Fratellastro E fare ciò che mi chiedete Non mi costa nulla Benissimo Allora Comprindisi Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Arco Marco Adesso Padre Iverick Ma parte Mi ho detto impecino Non è possibile Non credo ai miei occhi Questa Lasciatemi tutti Cosa vedete? Cosa vedete? C'è una creatura gigantesca presso la torre di Meridione Cammino facendo trovare il suo dunque concreto Ha il corpo di un toro e la testa di un uomo Fate qualcosa Fate qualcosa padre Iverick Solo voi potete Tacchete tutti quanti Gridare non serve a nulla Pregate invece La torre Si è tutta illuminata Sembra che bruci È la torre del nord di Cordoba E giugate Vieni da lì Volete tacere? Ve l'ordino Ecco Ora pregate Pregate vi dico Tu sia mostro infernale Demonio superbo e maledetto Sotto la sua potenza sotto la sua potenza Io ti esorcizzo nel nome della beata vergine madre di Dio e di tutti i suoi angeli Io ti esorcizzo per i santi patriarchi e profeti Io ti esorcizzo per i santi apostoli di Cristo Io ti esorcizzo in nome dell'armata invincibile dei martiri Scompari Torna al tuo fuoco eterno maledetto angelo del male Il gigante non amazza più Sembra spaventato Anche la torre ha smesso di frilare Guardate il fuoco che la colgeva si sta spegnendo Fuggi ignobile ribelle contro l'eterna maestà di Dio Rissolviti incubo dannato Groviglio di serpi Maligna abiezione Torna nel luogo in cui Dio ti ha precipitato La notte si chiuderà su di te Mentre fuori reglierà lo stendore dell'ultimo cielo a cui mai tu avrai accesso Vattene 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 Te l'ordino nel nome di Gesù Cristo Salvatore E di sua madre E della Santissima Trinità Corna al tuo fuoco eterno E restaci fino alla fine del tempo Perché questo non è il tuo mondo E non ti apparterrà mai È sparito Il mostro è sparito È incredibile Non è rimasto a testa la voce Bravo Bravo Venite tra le nostre regole in brucia Me ne guardo bene maestà Siete schifosamente sudato Sire voi avete appena visto di quale potenza io sia l'umile veicolo Pensateci prima di ribellarvi nuovamente a Dio La legge vincente è quella dell'amore L'amore A guardarvi un attimo fa sembravate piuttosto un cavaliere con la spada in pugno E gli occhi Quegli occhi pieni di furia omicida Ma se volete chiamarla amore Non saremo certo noi A contraddirvi Quale ricompensa possiamo darvi per il vostro coraggio Ricompense? Nessuna La mia ricompensa sarà la scoperta della verità Poco fa ho vinto un nemico ignoto Voglio il suo nome In questo non possiamo esservi regalmente d'aiuto Forse sì Maestà forse sì Nessun demonio per quanto potente può manifestarsi se non viene invocato da un uomo Satana ha bisogno di un'anima Lui ha servita per manifestarsi Ciò che vi chiedo Sire è di aiutarmi in questa ricerca Dentro questo castello Tra mille malefici si nasconde una creatura perversa Che si è prostituita al diavolo Il demonio veniva dalla torre di Leonor di Cordova Se è lei che volete Noi ve la facciamo trascinare qua in catene Anzi avrete anche una sorpresa Io non ho mai sorprese So già che Donna Leonora e la sua ancella sono la stessa persona Come avete fatto a questo? Sire vi chiedo piuttosto il permesso di entrare da solo negli appartamenti riservati a Donna Leonora Da solo ma dopo che qualche soldato armato di piccone abbia abbattuto le pareti divisorie Alevi ci diceva che quelle pareti servivano a proteggerci da un grande pericolo Vabbè ma di voi mi fido di più Va bene va bene padre Eimerick Avrete gli uomini che vi servono ed entrerete nella prigione da solo Ottimo Potete tornare al vostro pranzo Sire Non credo che altri incidenti turberanno la vostra regale di gestione Ne siamo convinti anche noi E sapete una cosa bizzarra padre Eimerick? Dite A volte ci chiediamo se non siate voi il diavolo in persona Donna Leonora vi sentite meglio? No non tanto meglio padre Eimerick Le ferite delle frustate continuano a farmi male Credo di avere la febbre Però siete andata allo stesso al campo degli assedenti? Certo Ve ne sono grato Avete visto Enrico di Trastamara? No Avrebbe voluto giacere con me Sono andata direttamente nella tenda di Ramon de Tarrega Lui non c'era ma non c'erano nemmeno le guardie Ho preso il libro e sono corsa via Datevelo Sì è proprio quello che volevo Le Megaton Vel Clavicula Salomonis Regis Liber Primus Goezia Qui c'è l'elenco degli altri manoscritti che compongono l'opera Teurgia Ars Paulina Almadel Ars Notaria Non so nulla degli altri libri Io ho trovato solo questo E' quello che mi serve La goezia La tecnica per evocare i demoni Che strani disegni Mi ricordano qualcosa ma non Non so cosa Guardate anche voi Questi Questi assiemi di linee e di croci racchiusi in cerchietti Ma io so benissimo di che cosa si tratta I fili metallici incastonati nella parete E ora guardate questo disegno entro il cerchio E' incredibile E' lo stesso E' l'identico schema Soltanto che sul muro è molto ingrandito Che cosa c'è scritto nell'anello Là L'anello che circonda il cerchio La calligrafia è quasi indecifrabile Mi sembra di leggere Va Vassago Vassago Sì non c'è dubbio Vassago Hanno riprodotto il simbolo in filo d'acciaio Non tutti i fili che corrono sulle pareti della torre sono in acciaio Ai piani superiori ce ne sono in piombo, in argento In altri metalli ancora Alcuni sono persino d'oro Ecco Ecco Il terzo spirito è un principe potente Della stessa natura di Agare Si è chiamato Vassago Questo spirito Ha natura divina E il suo compito è mostrare le cose passate e le cose future Nonché le cose nascoste o perdute E gli governa 26 legioni di spiriti E questo è il suo sigillo Bestemmie pure bestemmie Natura divina E' chiaro che si tratta di un demonio Di sopra hanno smesso di battere Si vede che hanno finito il lavoro Questo libro è un lungo elenco di demoni E ognuno guardate Guardate Ognuno ha la descrizione del suo sigillo Bal Agares Samigin Marbas Valefor Amon Pochi di questi però mi sembrano nomi ebraici No, la cabala non c'entra Come sospettavo non tutti i malefici che avvengono in questo castello Sono opera di giudei Anzi Padre Aimer Non sento più alcun rumore Che i soldati si siano imbattiti nei serpenti Ecco quello che cercavo donna Leonora Ascoltate Ascoltate La descrizione di un demonio chiamato Marrax Il ventunesimo spirito è Marrax È gran conte e presidente Appare come un toro gigantesco Con la testa d'uomo Capite? E' lo stesso mostro infernale Che si aggirava presso questa torre mezz'ora fa Abbiamo finito il nostro lavoro signor inquisitore Rassicuratevi non abbiamo trovato nessun serpente Bene Voi e i vostri compagni potete andarvele Salite con me donna Leonora Oh si? Sono curiosa anch'io di sapere in quale ambiente ho vissuto finora Non immaginavo di trovarmi tra le figge di diavoli e di mostri A parte quelli umani Non ci occorre nemmeno una torcia C'è abbastanza luce Guardate La luminosità viene in realtà dai muri Dal groviglio dei fili incandescenti Ma è uno spettacolo terrificante Qui i simboli sono molto più numerosi che il piano inferiore E si invilano come se fossero vivi Imanano un fumo leggero È chiaro che scottano Qualcuno deve essersi preoccupato di forgiare questi sigilli E incastonarli nel muro Seguendo il contorno delle pietre Ma non può essere avvenuto il momento della costruzione della torre Devono essere stati cinque monaci incaricati di imprigionare la bestia sepolta nel castello C'hai cinque monaci Ne ho sentito parlare Ma è lecita dei religiosi forgiare dei simboli diabolici? Non lo è Eppure i negromanti sono quasi sempre dei preti o dei frati Si vede che Satana tenta loro per prima È il caso di Ramon de Tarrega Uno dei famosi cinque Siete mai stati al piano superiore? No ma Immagino che siano simili a questo piano Stanze rotonde con le finestre semisbarrate Io salgo Voglio vedere anch'io Ciò che ci attende di sopra Potrebbe essere orribile La scala di legno sembra fradice Non so se può reggere il peso di due persone Le ferite non vi causano più dolore donna Leonora In realtà soffro ancora Ma non dimenticate padre Eimerick Che sono una gentildonna Anche se costretta a un ruolo da serva Nel mio casato il dolore è cosa che si supera Prima o poi minarerete in dettaglio la vostra storia Donna Leonor salite Preparatevi a uno spettacolo strano È un grande calore È come se l'intera parete friccesse I simboli dei demoni qui sono fittissimi Ho una sensazione strana Come se qualcuno ci stesse guardando Non badate le sensazioni Arma preferita dal diavolo è l'inganno dei sensi Datemi le Megaton Eccolo bene Sì Sì Ecco Quelli che bruciano sui muri Sono sigilli uguali a quelli riprodotti nel libro Berit Vepar Stolas Robas Citri Ogni dignitario infernale è impresso qui La propria firma di fuoco Ti amo davvero la sensazione di essere osservata No, è scomparsa Padre Henry Udite anche voi un ticchettio Un ticchettio? No, sento solo lo strigolio dei figli Aspettate Avete ragione Ogni tanto si arresta Poi ricomincia Pare venire dal piano di sopra L'unica è andare a vedere Il piano che ci sovrasta è l'ultimo, non è vero? Credo di sì Sopra ci dovrebbe essere solo la merlatura Donna Leonora, aspettatemi qui La scala è ancora più malmessa della precedente Allora è meglio che sia io a salire Sono molto più leggera di voi Vi riferirò a ciò che vedo I primi gradini tengono Però tutta la struttura traballa Siate prudente E tenete gli occhi bene aperti Sono arrivata È molto buio Non ho mai curato il silvo sul cannescento Sembra tutto tranquillo No No C'è qualcosa che si muove nell'ombra Mi sembra di vedere Una cosa terribile Tornate giù Tornate giù Tornate giù Non perdete la testa Scendete subito Scendetevi ho detto Vi aiuto io State bene donna Leonora Fuggiamo Mi siete fatta male Fuggiamo Rialzatevi Fuggiamo di qua Mio Dio Rialzatevi donna Leonora Vi aiuto Padre padre Non possiamo restare di qua Voi non avete idea Dell'orrore Che fate padre? Sto cercando il libro Il legato Eccolo L'ho trovato Ora ditemi che cosa avete visto lassù Un mostro Un abominio Prego da un momento all'altro Eccolo Mio Dio Eccolo È una zampa Sembra una zampa di un ragno enorme Esce dalla botola per cercare noi È un ragno Sì ma con tre teste Andiamocene Scendiamo di sotto Scendiamo di sotto Che ti succede? Non riesco a muovermi Mi strazieni Ma che voglio di me? Venite Venite Credete che qui Che qui siamo in sicuro? È comunque meglio scendere al piano terra Credo che vi reggete meglio Non ci resta che attraversare il barco tra i mattoni Ma prima Che intendete fare? Prima voglio far crollare la scala È una solida Pianca di sopra Ma sembra Che sa pericolante Sì Si muove Forse ce la faccio Andiamo Torniamo di sotto Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto per meritare questo incubo? Cosa avete fatto lo sa solo la vostra coscienza Ma devo congratularmi con voi, donna Leonore Tante altre donne sarebbero svenute o avrebbero perso la testa Ora ditemi Quella creatura che avete visto Non voglio pensarci, io non voglio pensarci mai più Dovete, dovete invece Ditemi Quella creatura era simile a un ragno enorme Sì E aveva tre teste Una di uomo, l'altra di gatto e la terza di rospo Sì È così Potevi ricordarmi, prego Mi supplico Vi siete imbattuta in Baal Re degli spiriti orientali e capo di sessantasei legioni di De Moro Ed è per ospitarlo che i cinque monaci attrezzarono questa torre Speravano di usarlo contro un nemico ancora più terribile Non può esistere un orrore più grande Invece esiste Credetemi, donna Leonore, esiste Finora questo castello maledetto Ci ha rivelato solo una piccola parte delle mostruosità che racchiude Mio Dio, che orrore Non credo che potrò dimenticare mai più quel ragno gigantesco Come lo avete chiamato, padre Emmerich? Baal Per gli antichi fenici era un dio Per noi cristiani è un demonio Donna Leonore, suppongo che anche qui vi sia un accesso alle gallerie sotterranee Ogni torre di questo castello ha le fondamenta in un dedalo di grotte Sì, quell'uscio conduce a un cunicolo che si perde nella profondità della collina Ne uscivano più sbigli che mettevano i prividi Avete idea di che ore siano? Ho perso la nozione del tempo Immagino che sia quasi il vespero Anch'io fatico da capezzarmi Conducetemi alla galleria Voglio raggiungere l'accampamento di Enrico prima che faccia notte Non occorre che mi accompagnate Mi basta che mi indichiate la strada Non vorrete lasciarmi qua con quel mostro nella torre? Donna Leonore, avete convissuto con lui e chissà con quanti altri mostri Comunque se volete seguirmi non ho nulla in contrario Mi sarete d'aiuto Dove state andando? Voglio nascondere il libro nella vostra stanza Sotto il letto Non voglio portarmelo dietro È la chiave di tutti i misteri e gli orrori del castello O almeno di una buona parte Conoscete già la soluzione di tutti questi inipmi? No, non di tutti Ma di parecchi Chi ha ordito questa trama diabolica mi ha sottovalutato Ma se ne accorgerà a sue spese Ve lo chiedo un'ultima volta, Donna Leonore Davvero volete seguirmi? Dovete essere esausta Scommetto che le ferite dei colpi di frusta continuano a tormentarmi Ripeto ciò che vi dissi poco fa, padre Eimerick Sono una gentildonna e non temo il dolore Come vedete non piango quasi più Tutto comunque pur di non rimanere qui Venite, vi accompagno alla galleria Prendete una torcia Qui comincia la galleria È piuttosto lunga e si congiunge ai sotterranei della torre di Alevi Da lì il cammino fino all'accampamento di Enrico È lo stesso che avete già percorso Vi muovete in questo labirinto come se ne foste Interamente padrona Ciò è molto strano Ma... No, non negate Non lo nego Il fatto è che da quando sono qui Spesso mi sento come un'altra persona Conosco cose che non dovrei conoscere Faccio ciò che non avrei mai pensato di poter fare So che non potete capirmi, padre Eimerick La mia sensazione prevalente è che qualcuno mi suggerisca dei pensieri in sogno E che poi una parte di quei pensieri mi rimanga Quando sono sveglio Non vi capisco Vi capirò non appena avrò penetrato La rete di menzogno che avvolge questa cortezza È la voragine di ieri? No Le voragini qui sotto sono tantissime C'è un grande lago dalle acque nere E' diventato da rivoli che scendono dalla roccia Presto avrete anche un battito lontano Un battito? Sì, sì, un'aspetto di pulsazione regolare Non so da dove vengono, non da qui In effetti Mi pare di udire ciò che dite Allora stiamo per costeggiare il lago Tenetevi rasanti a sinistra Il sentiero è largo ma sulla destra c'è il vuoto Tutto ciò è un incubo Eppure voi non avete paura Donna Leonor Mi avete detto che le acque del lago sono nere Però i riflessi della torcia sono rossi Rossi come... Sangue Intendete dire... Il sangue In realtà è la fiamma della torcia Che rossa il lago la rispecchia Se questo fosse davvero un lago Le sue acque sarebbero immobili O quasi Invece schiumano e gorgogliano Come me lo spiegate? Non lo so Non so che siete il via dei fiumi che lo alimentano Che fate? State attento, la torcia può spegnersi Tenetela voi Voglio sapere la verità su quest'acqua Per fortuna il suo livello tocca quasi quello del sentiero Così cadrete Non raggiungerete l'acqua con la mano Non voglio che sia la mia mano a toccarla Voglio che sia il lembo della manica Bene, ce l'ho fatta State attento a rialzarvi Il terreno è strusciolevole Tenta paura Ridatemi la torcia donna Leonor Fedevi Non mi sospettavo Guardate la stoffa si affinca di rosso Non mi deve dire che... Non posso crederci Intendo dire che questo lago è pieno di sangue O di un liquido simile al sangue Che Dio ci aiuti Davvero donna Leonor Non l'avete mai sospettato? No, no Tante volte ho costeggiato questa sponda senza sapere Senza immaginare Non mi meraviglia troppo Per mesi avete sfiorato mostruosità senza nome E non me ne siete nemmeno accorta Venite Riprendiamo il cammino Voglio essere da Enrico prima che si sia codicato Ora siamo sotto la torre di Aledi ma non corriamo nessun rischio I rischi ce ne sono sempre A quanto ne so il signor Rodriguez de Sanabria ha intenzione di esplorare queste grotte alla ricerca del rabbino Forse è già cominciato ma non è lui il pericolo Qui tutto è pericolo Padre Eimer Mi avete detto di aver scoperto la chiave di tanti orrori almeno di una parte Potreste dirmi qual è la verità Saperlo mi aiuterebbe a non impazzire Signora io posso essere sincero solo con chi lo è con me E sono troppe cose su cui mi avete mentito Non vi ho mai mentito salvo che sulla mia identità O che avete omesso di spiegarmi a fondo Siete disposta a uscire dalla vostra vitrosiglia Sì Sì interrogatemi pure Ieri mentre percorrevamo queste stesse caverne Io stavo per pronunciare un nome E' il nome di un essere diabolico molto temuto dai giudei Ora ve lo dico No Sì ve lo dico Lilith Perché vi spaventa tanto Più di Baal in fondo Pronunciare quel nome qui valevo Carlo Non bisogna non bisogna farlo Vedete di Baal avete temuto l'aspetto orrendo Ma le paure che vi suscita Lilith sono più intime più profonde Io esigo di sapere il perché Non lo so nemmeno io Miriam e Levy dicono che si tratta di un demonio col corpo di donna Rapisce i neonati per succhiare loro il sangue I giudei ne hanno un vero terrore Che cosa strana Gli ebrei vedono in Lilith ciò che i cristiani vedono negli ebrei Il rapimento dei bambini I sacrifici rituali Il dissanguamento E' come se Lilith fosse un loro specchio di storia Non citatela ve ne sopplico Il vostro timore è irragionevole Voi l'avete mai vista? Si Cioè no Ho avvertito la sua presenza Dove? Nella vostra torre? In qualche ala di questo maledetto castello? No no Come faccio a spiegarvi? È come se Come se l'avessi sognata Sognata Si Avete udito un rumore strano? Ne ho avvertiti fin troppi Con questa anticavera dell'inferno i rumori strani non mancano di certo Dove ci troviamo ora? Abbiamo superato la base della torre di Alevi Stiamo avvicinandoci all'abisso che già conoscete Dunque il rumore che avete udito può essere quello della cascata Io però non lo sento Non è la cascata Sembra una voce Ancora quel grido Miriam mi aveva detto che era un segno del risveglio di qualcuno O di qualcosa Paura Paura Mi sembra di impazzire Non c'è da aver paura Nessun demonio è più forte di Dio Chiunque stia urlando le sue bestemmie Esca allo scoperto Uomo o demonio che sia Io lo sfido Sono io Padre Isaac Col fante di un servo Eri tu che gridavi Da dove sbuchi? Dagli appartamenti di Alevi Cercavo proprio voi Tu menti Non potevi sapere dove mi trovavo Beh vi avevo cercato nella torre di Donna Leonor E non c'eravate Allora ho guardato nella torre in cui sono tenuti prigionieri serbi ebrei C'era Rodriguez de Sanabria con i suoi soldati Hanno cercato di acciuffarmi Ma sono riuscito a correre nelle stanze di Alevi E poi nelle grotte Non credo neanche a una parola di ciò che hai detto Perché ti sei messo a urlare quella frase insensata? Insensata? Mica tanto Mi sono giunte le vostre voci Parlavate di Ecco lei che non può essere nominata Allora ho gridato la formula Che scaccia Dunque sai che cosa significa? Dimmelo subito Ti getto nel burrone Se noi Sanse noi Semangelov sono tre angeli Shotscon Con quel che segue Mi invito a scacciare il mostro Ho il sospetto che quelli che sono angeli Per voi ebrei Per noi siano ben altro Chi ti ha insegnato la formula? Tra la mia gente è ben nota Specie tra le madri che hanno un neonato Comunque signor inquisitore Credo che sia prudente allontanarci in fretta Rodriguez de Sanabria Sta per scendere in questo condotto Voi forse non avete nulla da temere Ma io sì E probabilmente anche donna Leonora D'accordo Visto che hai anche tu una torcia Cammina avanti Ma sta attento Al minimo segno di slealtà Finisci in precipizio Ho capito Ho capito Fidatevi di me Non ci penso nemmeno E allora fidatevi del mio terrore Facci strada E nel frattempo Pensa a risposte sensate Da dare alle mie domande Quali domande? Le parleremo al campo di Enrico di Trastamara Semmai riusciremo ad arrivarvi Vi arriveremo sani e salvi Signor inquisitore A meno che non evocchiate ancora quel nome Stai alludendo a Lilith Basta padre Emmerich Facetemi prego Non avete idea del devonio infernale Che si cela dietro quel nome Se lo sapeste La vostra ragione potrebbe vacillare La mia ragione non vacilla mai Perché è illuminata dalla fede Cammina in fretta Fuori deve essere quasi notte E la notte a Montiel Non porta che incubi Desiderate un furadino signor de Greclay? Si Riempimi il bicchiere Non pensavo di rivedervi così presto Padre Emmerich Ogni tanto le guardie vi catturano E vi portano da me Bighellonare da queste parti Per voi è diventato un vizio Non sono tipo da bighellonare Altezza Perdonatemi Intendevo dire sire Sire Enrico di Trastamara Sono venuto a chiedervi un breve colloquio Strano modo per avvicinarmi Sbucate da una grotta In compagnia di un giovane giudeo E di una donna di malaffari A proposito di Greclay Cosa hai fatto di quei due? Non sono qui fuori Ma affidati ai miei soldati La donna te la tengo per dopo No, 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 no Stasera non ne ho voglia Domani la punirò per non essersi presentati in orario E poi è piena di ferite Un vero orrore Torniamo a noi, padre Emmerich Voi volete un colloquio Ma io sto cenando Tornate in un altro momento Sire, mi permetto di insistere Devo parlarvi con urgenza di cose importanti E allora sia Ma fatelo qui Gli amici che sono con me sono fidatissimi Conoscete di De Klenna Gli altri sono tutti i miei feudatari Come volete, Sire Non so se vi conviene Che certe faccende siano discusse in pubblico Ma per me è indifferente Bene, sono venuto a dirvi Che ormai ho capito Il ruolo di Ramon de Tarrega In questo assedio Un ruolo che rischia di macchiare Per sempre la vostra causa Ancora Ramon Siete proprio fissato, padre Emmerich Non è fissato È un impudente È uno spione Servi, portate via questi piatti Non ho più fame Prete maledetto Adesso hai esagerato Tra meno di un'ora Pensolerai da un ramo Mi rivolgo a voi, signor De Klenna Voi siete una persona lucida Credete di combattere una guerra convenzionale Ma vi sono dettagli che non sapete Quali dettagli? La cosa mi incuriosisce Non ti ci mettere anche tu, Bertrand Vada che anche la tua testa potrebbe essere in pericolo Ecco una battuta divertente, Enrico Hai già dimenticato che il grosso del tuo esercito È costituito dai miei mercenari? Vi prego, padre Emmerich Continuate il vostro discorso Ditemi di cosa sarei tenuto all'oscuro Non in pubblico Prete Padre Emmerich Accordo Il colloquio privato che mi avete chiesto No Ora sono io che voglio che si parli pubblicamente Signor inquisitore Esprimetevi in tutta libertà In cambio voglio che i due che mi hanno accompagnato Non vengano importunati Accordato Bene Il castello di Montiel non è una normale fortezza Fu edificato dagli ebrei seguendo le formule della loro magia La cabala Ne fecero una rocca forte protetta da forze misteriose Che si nascondono nelle gallerie e negli abissi del sottosuolo Di tutto ciò ero in parte al corrente Ma forse non sapete che quando il castello fu conquistato dai cristiani Furono creati meccanismi capaci di tenere sotto controllo le forze evocate dai giudei Gli ebrei si affidano a 72 angeli Un gruppo di domenicani indegni arredò una torre con i simboli di 72 demoni L'intento era quello di evocarli in caso che la potenza della magia ebraica fosse riemersa Questo non lo sapevo davvero E Ramon de Targa? Che pure è ebreo d'origine Era uno dei domenicani che misero a punto questo perverso sistema di difesa Dopo che il re Enrico ha visto fallire il primo assalto alla fortezza Ha chiamato quel negromante perché rianimasse i demoni raffigurati nel castello Non è vero, Sire? Stai delirando, prete Ma puoi dire ciò che vuoi Tanto sono le tue ultime parole Può darsi Spero che le riferiate al pontefice Attende una relazione da me E non sarà tanto contento della mia scomparsa Quando anche sconfiggeste il vostro fratellastro, Urbano Ci penserebbe due volte Prima di avallare la vostra incoronazione Non mi importa nulla del Papa Che cos'è, un imperatore? Quanti soldati ha? Dove sono le sue armate? Oh, le sue armate sono molto più numerose delle vostre Altezza Maesta Per metà operano in terra Per metà agiscono nel cielo Io sono un ufficiale dell'armata di terra Calma, calma Voi, padre Eimerick Ricordate che il re Enrico Si propone di cancellare dalla Castiglia ogni influenza ebraica E, se possibile, di scacciare giudei e arabi dal paese Credo che un obiettivo del genere non lasci Papa Urbano indifferente Magari potrebbe indurlo a sorvolare sui metodi impiegati a quel fine Non ne sarei tanto sicuro No, su via Non siete uno stupido E sapete che la mia ipotesi non è campata in aria Quanto a te, Enrico Tieni presente che la simpatia del Papa ti è comunque necessaria E che la scomparsa di un suo uomo potrebbe metterla a rischio La bilancia è in equilibrio Ma su un piatto c'è un'ipotesi Sull'altro una certezza Sire, valutate voi quale pesa di più Insomma, padre Eimerick Parliamoci chiaro Voi che cosa volete? Voglio che Ramon de Tarrega mi sia consegnato E che paghi la colpa di essersi votato al diavolo E in cambio che cosa offrite? L'immediato riconoscimento da parte del pontefice del nuovo re di Castiglia Il che significa un analogo riconoscimento da parte di tutti i sovrani d'Europa Tutto ciò ovviamente nel caso che voi, sire, sconfiggiate sul campo Pietro il Crudele Ne dubiti forse, prete bastardo Enrico, padre Eimerick ha fatto la sua offerta che va valutata Ti dispiace se mi apparto un attimo con lui? Così potrei finire la tua cena in pace Ci sono dei fagiani ripieni di mandorle che sarebbe un peccato buttare Ah, fagiani Sì, in effetti mi sta tornando fame Appartati pure Bertrand Cominciano ad averne abbastanza di discorsi difficili Servi che cosa aspettate a servirmi dell'altro vino? Padre Eimerick, finalmente siamo tra persone intelligenti Avete riferito al re Pietro la mia proposta? Sì, la accetta Vi offre tutte le terre che volete Vale a dire che non mi offre nulla Beh, me lo aspettavo Non vi ha parlato di oro? No Ma potreste convincerlo a voce Vi faccio io una proposta Uno scambio di persone Che cosa intendete dire? Voi mi consegnate Ramon de Tarraga Io mi impegno a condurre il re Pietro nella vostra tenda Ne siete in grado? Certo Deciderete voi stesso Quando sarete faccia a faccia col crudele Se vi conviene schierarvi con lui O rimanere con Enrico Ebbene, che ne dite? Beh, è una proposta allettante Se avessi Pietro nelle mie mani E se lui non mi convincesse Mi basterebbe ucciderlo per vincere la guerra Se invece decidessi che mi conviene seguirlo Mi basterebbe ordinare ai miei uomini di catturare Enrico Anche in questo caso La partita sarebbe decisa all'istante Noto con piacere che avete afferrato i termini della questione Allora mi darete Ramon? Consideratelo vostro Permettetemi però una domanda Voi da che parte state? Da nessuna parte Enrico vincitore Annullerebbe lo strapotere dei giudei E questo mi sta bene Ma Enrico è anche alleato al re d'Aragone Il nemico da tempo Una vittoria di Enrico Condurrebbe a un avvicinamento Tra le corone di Castiglia e di Aragone E questo non mi sta bene affatto Comprendo benissimo Noto anche che l'inquisizione Ha a cuore interessi più materiali che spirituali La credevo meno umana Qui vi sbagliate, signor Duke-Clan L'inquisizione combatte anzitutto l'eresia Purtroppo si trova ad avere a che fare con sovrani volubili o imbecilli Quali quelli che si confrontano qui a Montieli Allora deve valutare quale delle parti in campo Serva meglio agli interessi della chiesa Qui non ve n'è nessuna Eccovi spiegata la mia neutralità Padre Eimerick Avete il pregio di parlare con franchezza Almeno di tanto in tanto E comunque con intelligenza Come rimaniamo d'accordo? Datemi un giorno o due E troverò il modo di condurre Pietro nella vostra tenda Come farete? Ciò non vi deve riguardare Devo però farvi una domanda delicata È in programma un attacco al castello? Domanda delicata Accidenti se lo è Comunque siete un tipo talmente infido che ho fiducia in voi No Enrico continua a procrastinare Mi chiedevo il perché Ma ora mi è chiaro Attende che Ramon de Tarrega abbia portato a termine le sue stregonerie I suoi nobili però Insistono per lo scontro immediato E minacciano in caso contrario di togliere le tende Se accennassero a farlo sul serio Enrico sarebbe costretto ad attaccare anche contro voi È evidente Bene Rimarremo in contatto Mi servirò per comunicare con voi Di Isaac E quel servo giudeo che avete catturato Anzi Vi prego di farlo liberare Non temete Curiosa questa alleanza tra giudei e inquisitori domenicani Non c'è nessuna alleanza e lo sapete bene Vi comunicherò tramite Isaac quando vorrò Ramon E in che modo mandarmelo Subito dopo Re Pietro sarà nella vostra tenda Ah un'altra cosa Dite pure Non vorrei tornare al castello prima di domattina Potete ospitarmi senza che Enrico lo sappia Certo Immagino che valga anche per il vostro Isaac E per donna Leonor Lopez di Cordova Farete liberare anche lei Sarà un po' più difficile Enrico ha detto di non volerla vedere Ma penso che alla fine della cena vorrà Maltrattarla un po' Ama sfogare su di lei il suo rancore verso il fratellastro Esigo che quella donna sia lasciata libera Agli ordini signor inquisitore È davvero buffo Manovrando i reciproci interessi Siete riuscito in due giorni a diventare l'uomo più potente di Montiel Mi complimento con voi Non mi servono complimenti Farete ciò che vi ho chiesto Da bravo mercenario Sono sempre al servizio del più forte Non c'è dubbio che il più forte siete voi Sarete obbedito padre Eimerick Il più forte è sempre il diavolo Ma la sua forza è effimera Qualcosa mi dice che i suoi giorni sono contati Padre Eimerick Proprio voi stavo cercando Dove vi eravate ficcato? Torno solo ora, signor de Sanabria Ho trascorso la notte fuori dal castello Noto con piacere che per una volta entrate dall'ingresso principale E non sbucate da qualche galleria Ma con voi c'è anche Estrella Ecco perché era scomparsa Credo che Pietro ti frusterà di nuovo Ragazza mia Non è bello disobbedirgli Lasciatemi in pace La donna Leonor di Cordova non sarà fatto alcun male Smettete di chiamarla Estrella La parsa è finita Vi vedo un po' arrogante padre Beh, non è il giorno più adatto Estrella, presentati subito a re Pietro Sarà felice di vederti Donna Leonor, non fate caso a costui Ritiratevi in qualche stanza del castello Naturalmente non nel vostro alloggio Isaac! Sì, padre? Vedi tu di trovare un riparo sicuro per la signora Poi torna a riferirmi Vi obbedisco subito Venite, donna Leonor Padre Eing, adesso state esagerando Ve lo ripeto, non è la giornata adatta Evidentemente ignorate cosa è successo nel corso della notte Spiegatemelo voi Immagino nulla di buono Sì, invece, nelle gallerie ho scovato Miriam, la strega che uccide i bambini Adesso è in catene davanti all'inquisitore Gallus La sta processando, ma la sentenza si sacca Volete dire che Gallus si è arrogato il diritto di istruire un processo in mia assenza? È stato il re a pregarlo Ma il processo è una formalità Vedete quel palco che i nostri carpentieri stanno costruendo? Lì sopra verrà bruciata l'assassina con tutti i suoi complici L'intero villaggio di Montiel si prepara alla festa Posso me lo dici? Padre Gallus di Neuhaus che si presta ad un simile oproprio Processo senza istruttoria Con la sentenza decisa in anticipo è assurdo Ridicolo Non ditelo a me Io avrei bruciato la ragazza senza tante cerimonie Ma il re Pietro ci tiene a mostrarsi buon cattolico Gallus gli ha promesso di intervenire presso il papa Perché lo confermi unico sovrano legittimo La causa di Enrico mi infierebbe molto in debolità Ora capisco come Gallus si sia sottratto all'arresto Non perdiamo tempo Conducetemi subito dove si svolge questa specie di processo Eccovi già meno arrogante Venite L'udienza ha luogo nel torrione dei giudei Se non è già terminata Le prove ci sono I testimoni anche Questa donna Miriam Figlia di Pedro Salomon a Levi È l'autrice dei rapimenti È l'assassina dei bambini cristiani Il momento è chiaro Si limita a praticare il sacrificio rituale tipico della setta dei giudei Come facevano i suoi padri E i padri dei suoi padri Ha ucciso i poveri piccoli E ha bevuto il loro sangue Tacete Voi serbi giudei Eravate i suoi complici Tutti Non è vero È una menzogna Sì È una menzogna Ma non ci possiamo fare nulla Tranne sperare che uccidano solo me Ma Ma Sentite la povera vittima Avete notato Sir Quale l'epocrisia Vuol far passare noi Per assassini Ascoltami Miriam Io non posso credere Che il tuo cuore sia così indurito Sei ancora in tempo Per salvare la tua anima Se non il tuo corpo Basta che tu renda Una confessione piena E sincero Non ho nulla da confessare Non interrompermi Il pentimento Può risparmiarti Sofferenze ulteriori E garantirti La vita eterna Io so che puoi pentirti Sei ancora abbastanza sensibile Per farlo Pensa a quei poveri corpicini Quando li svuotavi Del loro sangue Quei bimbi innocenti Avrebbero potuto essere i tuoi No No, no, no Brava, brava, brava Stai bene a piangere Vuole dire che il tuo cuore Non è ancora di pietra Ora fai un sforzo in più E ti sentirai sollevata Rispondimi Con un semplice Cegno del tuo capo Anzi con due Il primo Per dirmi che Ti riconosci colpevole E pentita Il secondo per ammettere Che gli altri giudei arrestati Erano tuoi complici Madre Gallus Guarda ragazza Non fa nessun cielo State perdendo tempo E peggio ancora Ne fate perdere a noi Sire Sire Io credo che si renda necessario Una questione Una sessione Di tortura Sottoposta ai tormenti Miriam Ci dirà ciò che ancora ci nasconde Ve lo garantisco E che la cosa andrebbe per le lunghe Pronunciate la vostra sentenza Poi bruciamo quella ragazza E la facciamo finita Anche gli altri giudei Se resta legna Sire Le procedure della santa inquisizione Prevedono Taccette padre Gallus Non osate parlare In nome dell'inquisizione Ma guarda Padre Eimerick Non c'eravamo accorti Del vostro ingresso Signor de Sanabria Da dove viene Il nostro annullo? Dal campo di Enrico Sire Ancora una volta Era andato a passeggiare Da quelle parti Male Bui Padre Eimerick Intuisco già Le vostre obiezioni Ma Le circostanze Sono tali Lasciate perdere Le circostanze Padre Gallus Avete violato La procedura inquisitoriale Volontariamente E ripetutamente In questo preteso tribunale Non vedono dai Nei giudici all'aria Vedo solo voi Non vi è nemmeno uno scrivato C'è però Sua maestà Il re Re o pezzente Non può essere altro Che uno spettatore Invece interloquisce Si fa giudico Che coglioni Che ha quella Eimerick Ci piace sempre di più Vedo inoltre spettatori vari Servi Cortigiani Sembrano spettacolo teatrale Padre Gallus Voi state trascinando Il nome dell'inquisizione Nel fan Vabbè Anche il manuale Di Bernardo Voi prevede Che l'inquisitore Possa In casi speciali Non lasciate perdere qui Il suo manuale Scritto Mezzo secolo fa Siete arrogato diritti Che non vi appartenevano Voi Inquisitore semplice Avete avviato Un processo Non autorizzato da me Inquisitore generale Sapete Padre Eimerick C'è un caso Che nessun manuale Che nessun manuale Contempla Quello di Un inquisitore generale Che ha Un debole Per l'accusato Ecco che la faccenda In casa propria Mi dicevo Acqua Malmente Che non riconosco La vostra E non riconosco Che non riconosco Mi vedo un po' confuso Padre Gallus Peccato che non ci sia Ci sono stati crimini E qui davanti Abbiano la colpevo Vorrete dire L'imputato Si reautorizzatemi A istruire Il processo regolare E forse avrete Delle sorpresse Non c'è tempo La gente di Montia Vuole giustizia E dal resto Un nuovo processo Sarebbe superfluo Quella ragazza Stava per confessare E' per questo Che padre Gallus Intendeva sottoporla A tortura Non è vero? Si Si Bene E dunque Si procede Oh No C'è davvero confesso La questione E' chiudica La tortura La tortura Deve essere autorizzata Da un pesco Ma se il pesco Non c'è Potete autorizzarla Voi stessa O ci sbagliamo? No No Non vi sbagliate E allora procedete Assisterete Voi stessi Alla sessione E condurrete L'interrogatorio Deciderete anche I tormenti Da applicare Che c'è Padre Gallus? Non lo farà mai Quella donna E' la sua amante E' bene Verificheremo di persona Se le vostre accuse Sono vere Padre Emmerich Vogliamo una risposta Accettate che Miriam Sia sottoposta A tortura Sotto la vostra guida Accetto Accetto Parlate più forte Come avete detto Accetto Sire Beh Siamo pronti Padre Emmerich L'accusata come vedete Nuda E' ben legata Si può cominciare? Oh si cominciamo Cominciamo Non vedo l'ora di udire Gli strigli Di questa giudera Assassina Guardate a voi Padre Gallus Vi ho permesso di assistere Alle questiones Solo come spettatore Per assecondare il re Per assecondare il re Ma voi non siete più Un inquisitore Nel processo caricaturale Che avete imbastito Non avete più Alcun ruolo Dunque Tacete Obbedirò Magister Ma non perché io riconosca La vostra autorità Sono qui per controllare Che la vostra Evidente simpatia Verso l'accusata Non vi renda Troppo indulgente Non riuscirete più A spazientirmi Padre Gallus Ai miei occhi Siete carne Già morta E bruciata Oh mea culpa Mea culpa Vi trovate qui Per vedere Una piccola parte Dei tormenti Che vi attendono Soldato Siete anche carnefici Se non sbaglio Padre Ho svolto questa funzione Di tanto in tanto I miei compagni Invece Sono inesperti A parte quello Che sa leggere e scrivere E che sta redigendo Il verbale Vi devo dare Qualche istruzione sommaria Il diritto inquisitorio Vieta che sia sparso Il sangue Dell'interrogato La forma ordinaria Di tortura Sono i tratti di corda In caso di ostinazione A tacere Possono seguire Acqua E fuoco Ma solo In successive sessioni Mi avete capito bene? Certamente magister Niente sangue D'accordo La tortura va sospesa Su mio ordine Non appena l'accusato Accenni a confessare Ah Dimenticavo una cosa importante La regola vorrebbe Che io assolvessi Preventivamente i carnefici E che fossi a mia volta Assolto da un confratello Ma non ho confratelli In questa stanza Soldato Voi siete cristiano? Sì padre Sono battezzato Purtroppo non posso darvi La soluzione preventiva Il processo è stato irregolare E può darsi che stiamo Per commettere Un'azione ingiusta Inoltre i vostri compagni Sono musulmani Ricordatevi Quindi Che mentre sottoporrete Quella donna Ai tormenti Sarete in peccato mortale Dovrete confessarvi Subito dopo Sono stato chiaro? Sì padre Emric Come cominciamo? Non siate impaziente Prima devo esortare di nuovo L'accusata A una confessione piena No! Eh! Ecco! Ecco che prende tempo! Lo immaginavo! Sconterete anche queste parole Padre Gallus Non temete Miriam Hallevi Sembri distratta Mi senti bene? Sì mi sento bene No molto più Vi ho chiesto Se riuscite a rudirmi Oh sì Riesco a capirti Nicolòs Donna Chiamami padre Emric E dammi del voi Sei disposta A confessare i tuoi delitti E a pentirti Al cospetto di Dio? Sia chiaro che intendo l'unico Dio Comune a cristiani E a giudei Che cosa dovrei confessare esattamente? Di aver ucciso bambini cristiani A fini sacrificari Lo confermi o lo nego? Lo nego Ma quando comincerai Quando comincerete a farmi del male Può darsi che ammetta tutto Non resisto al dolore Che vipera Astuta come tutte le femmine Mette le mani avanti Per invalidare le confessioni successive Nessuno vi ha interpellato padre Gallus State zi Miriam Tu sai comunque qualcosa Dell'assassinio dei bambini di Montreal Ma io No Non provare a negarlo Se sei davvero innocente Dimmi ciò che conosci Conosco cose che tu Che voi Padre Emerick Non potreste comprendere Io appartengo a un popolo più antico del vostro A volte sembra che pronunciamo le stesse parole Ma noi diamo loro un significato diverso Non voglio frasi generiche Voglio risposte semplici E dirette Se non sei stata tu ad uccidere i bambini Chi è stato? Non è stata una persona in carne e ossa Un demonio allora? Vada di non prendermi in giro I demoni non sono entità fisiche Non si nutrono di sangue Vi sono creature intermedie Tra uomini e demoni Sono quelle che hanno in sé l'uno e l'altro Risposte confuse Volutamente oscure Però questa donna Ha già messo emplicitamente di conoscere la verità Magari Non me ne siete nemmeno accorto padre Emerick Sono io che conduco l'interrogatore Te lo chiedo un'ultima volta Miriam Chi ha ucciso i bambini cristiani Se non sei stata tu? Dimmelo in modo chiaro Altrimenti dovrò davvero passare alla tortura Sono stata io O forse estreia O forse una serva qualsiasi Ma in realtà è stato qualcosa di morto Che è capace di impadronirsi di qualcosa di vivo Mi dispiace Te lo sei voluto tu Soldato Un tratto di corda Le faccio appendere i pesi alle caviglie? No, non ancora Avanti Alzala per i polsi Ora il dolore ti impedisce di parlare Ma mi puoi ascoltare Miriam Se come dici conosci la verità La sofferenza che patisci è inutile Bastano poche parole Forse una sola E tutto ciò finirà Io Io la farei oscillare un poco Ma le braccia forti non si sono ancora spezzate Solo i polsi sono violaci Soldato Tirala giù Ma come otto anni fa La stessa violenza Non è violenza È giustizia Se tu fossi nelle mani di un tribunale ordinario Saresti sottoposto a torture ben più crudele Ma un tribunale ordinario Tortura il corpo Non cerca di violentare la coscienza Basta Non divagare Chi uccide i bambini Rispondi con un nome Soldato In altro tratto di corda No Oh questa volta Le si sono slogate tutte le braccia Oh che peccato Erano tanto graziose Sembra una venere grottesca Oh no È bello vederla scalciare in aria Non è vero padre Iberic Risparmiatemi le vostre uscenità Vecchio Dubrico Vi ho già preannunciato che soffrirete molto più di voi Miriam Miriam Sei ancora cosciente non è vero? Voglio da te una parola Una parola sola Chi è l'assassino dei bimbi cristiani Non so se può davvero sentirvi padre Fate la scelta Miriam Hai ancora gli occhi aperti Piangi pure se vuoi Grida ma rispondimi Dimmi il nome dell'assassino Ti prometto che il supplizio cesserà all'istante Il suo nome è Gilgul Però ci ha detto È Gilgul Gilgul Mi hai già parlato di questa cosa Sì È una specie di È una specie di possessione Non è vero? Sì È quando Due anime vivono Nello stesso corpo La una è viva E l'altra è morta Credo di capire Tu vuoi dirmi che chi ha ucciso i bambini Lo ha fatto perché Guidato da un'altra volontà Da una creatura morta Che si è impadronita di lui Non è così? Oh che sciocchezze Ci mancherebbe solo che noi cristiani Prestassimo fede Alle superstizioni dei giudei Miriam Ascoltami Miriam Ho inteso bene Bada è importante L'assassino avrebbe agito Perché è posseduto Da un altro spirito Sì E chi è stato posseduto Se ho ben capito Sarebbero state più persone Tu Donna Leonora Altri giudei Sì È il Gilgul Qualcuno ci fa fare Delle cose orrende Qualcuno chi? Non mi basta Che tu mi dica qualcuno Non lo so Non lo so C'è qualcosa di tremendo In questo castello Ecco una confessione davvero utile Se fosse per me adesso Solleverei la squaltrina E le farei appendere dei pesi ai piedi Dopo le braccia Le gambe Allora si che confesserebbe Devo procedere in questo modo padre Henry Tu prendi ordini da me Non da questo laido vecchio Miriam Gli altri giudei Non vogliono dirmi una verità Che sembravano Conoscere tutti È questa Siete soggetti A volontà estranee Sì Per caso La cosa morta Che si impadronisce di voi Si chiama Lilith Ho indovinato? Rispondimi dunque Perché mi guardi così? Padre Henry L'imputata Deve essere entrata In uno stato febbrile Guardate Non piange più Sembra persino che sorrida Sorrido perché Te l'ho già detto una volta Perché ti amo Nicholas Ma tu sei pazza donna Tu sei pazza A me che ti sta torturando Tu ti esprimi così Nicholas Non conosci altro modo Che la violenza Dovresti vedere Quanto sei bello In questo momento Non era la confessione Che vi aspettavate Padre Henry Era però quella Che aspettavo io Spero che la dichiarazione Dell'accusata Sia stata verbalizzata Questo è delirio L'imputata vaneggia Dichiaro sospesa Alla seduta Adesso non sei bello Sei bellissimo Sire l'inquisitore Nicola Emrick Chiede di essere ricevuto Nei vostri appartamenti Fanno entrare Padre Emrick Ci hanno riferito Che l'interrogatorio Dell'assassina Non ha dato Grandi risultati Miriam Miriam ha mostrato segni evidenti Di squilibrio mentale Ho dovuto interrompere La seduta La riprenderò quanto prima Non siete molto generoso Verso la nostra prigioniera La definite pazza Solo perché Ha dichiarato Di amarmi Comunque Comunque Non ci saranno Nuovi interrogatori Miriam Sarà bruciata Non appena i carpentieri Avranno finito Di allestire il palco Abbiamo già incaricato I nostri servi Di raccogliere la legna Sire vi prego Di non avere fretta Siamo ancora molto lontani Dalla verità E la ragazza Mi serve viva Noi Re Pietro Possiamo anche capire perché Frate A noi però serve morta L'alcalde di Montiel Reclama una punizione esemplare E del resto Ha confessato lei stessa Di essere colpevole Non è vero Ha accennato A questa possibilità Ma ha anche detto Di avere agito In stato di possessione Demoniaca I giudei La chiamano Gilgul Eh? È la convivenza Di due anime Di cui una appartenente A un vivo E l'altra a un morto L'anima del morto Domina quella del vivo E la costringe a gesti Contrari alla sua volontà Ma ci stupite Padre Imerich Vedete davvero A queste sciocchezze Credo al potere Di Satana Credo al fatto Che si serva Di uomini e donne Per fare ciò Che a lui Ha interdetto Le credenze giudee Non mi interessano Io guardo ai fatti Il fatto certo È che un'intera legione Di demoni È padrona Di questo castello Questo lo sappiamo Anche noi Vorremmo bruciare Tutte E andarcene Di qui Ma finché dura L'assedio Ci è impossibile Ci è impossibile A proposito Avete parlato Con Bertrand Duqueclin Sì maestra È disposto A scendere a patti E a schierarsi con voi Vi prega Di andarlo a visitare Nella sua tenda Per discutere I dettagli Dell'accordo Nella sua tenda Ma che cos'è Uno scherzo Ma venga lui Da noi piuttosto Non lo farà mai Vi basterebbe Catturarlo O ucciderlo Per avere partita vinta Ma ciò vale Anche per noi No Al massimo Possiamo mandargli Un pleni potenziario Vi sentireste Di trattare Invece mia Vi ringrazio Dell'onore Sire Ma devo declinare L'offerta Primo Desidero Mantenermi neutrale Secondo Non potrei discutere Un accordo dettagliato Terzo E più importante Voi non volete Realmente trattare Con Dugaclan Volete ingannarmi Non avete nulla Di concreto Da offrirgli L'inganno può funzionare Se esce dalla bocca Di un re Ed è accompagnato Dalla sua parola Potrei scrivere qualcosa Non vi conviene Dovreste mantenere Ciò che scrivete Meglio una promessa verbale Ma autorevole Che cosa dovrei fare Allora Per essere certo Del risultato A questo posso pensare io Datemi un po' di tempo Troverò il modo Per consentirvi Di andare nella tenda Di Dugaclan Senza correre rischi Basta cercare Nostaggio Che sia importante Ai suoi occhi Eh sì Fatelo Supponiamo però Che vorrete Qualcosa in cambio No? È ovvio Voglio che l'esecuzione Di Miriam Sia posposta Allestite pure il rogo Ma con lentezza Ho bisogno di almeno due giorni Uno Ve ne concediamo Due sono troppi D'accordo E se poi Volete intrattenervi con lei Per le vostre faccende private Capite cosa intendiamo Noi chiuderemo Gli occhi Non ne vogliamo Sire D'accordo No Fermo Fermo Scherzavano Anche se non c'è nulla di male Nel sollazzare Un po' Una condannata Maestro Va bene Va bene Basta Ora però Vogliamo farvi una domanda seria Parlate Che cosa avete scoperto esattamente? Che cos'era Quel mostro Mezzo uomo E mezzo toro Che è apparso in cortile? Il mostro era un demonio Come avete visto Io l'ho sconfitto con un esorcismo Le insidie che si nascondono In questo castello Sono molto più numerose Voi però Ne conoscete la natura Solo in parte Sire Solo in parte Quello che so con una certa sicurezza È che qui a Montiel Si danno battaglia I demoni di due religioni 72 da una parte E suppongo 72 dall'altra Spiegatevi meglio Due religioni Ma credevamo che l'unico pericolo Venisse dai giudei Chi li contrasta Ha scelto imprudentemente Di usare le stesse armi Ditemi una cosa Sire Si È per un caso Che avete fatto rinchiudere Donna Leonor di Cordova Nella torre che occupa? Preferiremmo non parlare Di Donna Leonor L'abbiamo amata Molto Certo più di quella puttana Di nostra moglie bianca E anche della nostra concubina ufficiale Ma Leonor Si è rivelata un Una traditrice Proprio come bianca di Borbone Allora noi l'abbiamo trascinata qui Per punirla E farla soffrire E quando sgozzeremo Enrico Immergeremo il visino di Leonor Nel sangue del nostro fratellastro Come facemmo con bianca e quadriche L'abbiamo giurato E manterremo il giuramento Maesta Perché proprio quella torre? Beh I motivi sono più di uno Anzitutto Ce lo consigliò a Levi Per ragioni sue Che E poi c'era il fatto che Quella torre era evitata da tutti Per via dei prodigi che vi avvenivano? Sì, sì, sì Ma non i prodigi che pensate voi Da quando vi trovate qua C'è stato solo vento Ma non ci sono state mai Piogge O temporali Beh, durante i temporali I fulmini Colpiscono tutti quella torre Ah Solo quella Non ci chiedete perché Ma guarda Ha qualcosa di diverso dalle altre torri Intendo dire Esternamente Nulla Nulla A parte, sì Quella Quella lunga asta di ferro Che la sovrasta Un tempo reggeva il gonfalone del villaggio Fu fatta essare quando Montiel Fu riconquistata dai cristiani Poi i fulmini Lo bruciarono Ed è rimasta solo l'asta Per il resto Quella torre Identica alle altre È chiaro Che se vi cadono i fulmini La causa va cercata in qualcosa Di maledetto Che è racchiuso nella costruzione Sì Sì, è evidente Però continuo a non capire Leonore è stata chiusa là Perché fosse spaventata dai fulmini O perché soffrisse anche lei Della maledizione della torre No, no, no Nessuna delle due cose La ragione è più banale E ve l'abbiamo detta Quella torre è evitata da tutti Noi volevamo che Leonore Non potesse comunicare con nessuno E abbiamo scelto per lei Un alloggio evitato come la peste Le abbiamo permesso di uscire Qualche volta Ma solo nei panni di un'ancella E ciò fa parte della punizione Donna Leonore di Cordova È autorizzata a mostrarsi in pubblico Solo nei panni di una serfa È costretta a piegarsi alle nostre voglie Più basse Le abbiamo fatto certe cose Non voglio sapere Ve la vedrete con la vostra coscienza E con Dio che vi giudicherà È per costringere Donna Leonore all'isolamento Che avete sparso la voce di averla sfigurata Non l'hanno sparsa gli altri Noi però abbiamo assolutamente assecondato la diceria Ci piace essere temuti Comprendo Comprendo ma ci sono cose che mi sfuggono ancora Come ha potuto Donna Leonore tollerare tutto questo? Accettare di apparire come una serva Sottostare alle vostre violenze Rimanersene nella prigione scelta da voi Vi stupirebbe se vi dicessimo che a Leonore Tutto questo piace? No Ma in ogni caso Ciò non spiega tutto Avete ragione C'è qualcosa di molto più semplice Leonore aveva un marito e due bambini Del marito a lei non è mai importato nulla Ma dei bambini sì Bene, quando l'abbiamo fatta rapire Ci siamo presi anche i suoi piccoli Ecco perché fa tutto ciò che noi le ordiniamo Dove sono i bambini? Li tenete in questo castello? Oh no! Sono sepolti da un pezzo Dal giorno stesso del suo rapimento se non sbaglio Ma questo lei naturalmente non lo sa Ti avete fatti uccidere È mostruoso Sofia Padre Eimerick Da una pellaccia come voi non mi aspettavo queste tenerezze Noi siamo re E facciamo ciò che vogliamo Quanti uomini avete mandato a morte voi? Mille? Duemila? Beh noi molti di meno E allora? Voi e noi Facciamo lo stesso mestiere Decidiamo La vita della gente I vostri moventi Non sono i miei Voi agite per motivi utilitari Tutti lo fanno Soprattutto i regnanti Si trova sempre una buona causa per giustificare un omicidio E quante più sono le vittime Tanto più è facile trovare una buona causa da invocare Il delitto singolo Pesa La strage invece È leggera come una piuma Perdonatevi Sire C'è qui il nobile Mendro Rodriguez de Sanabria Chiede di parlarvi con urgenza E va bene Introducilo E signor de Sanabria Accomodatevi Non state a inchinarvi Vi disturba la presenza di Padre Eimerick Penso che possa restare Sire Vengo ad avvisarvi che ho localizzato il rifugio di Allevi Benissimo Lo avete arrestato? Non ancora Sire Il fatto è che il nascondiglio è difficile da raggiungere Si tratta di una voragine spaventosa Situata tra le torri al nord Sotto il villaggio di Montiel Allevi e i suoi hanno trovato riparo Su uno spuntone di roccia che si eleva proprio al centro della missa Dove sta la difficoltà? Vi si accede solo tramite un sistema di passerelle sospese nel vuoto Facilmente difendibili Come capirete Si potrebbero tagliare le corde delle passerelle Noi vogliamo Allevi vivo Padre Eimerick Cosa dovrei fare? Esattamente Raggiungete Allevi E cercate di capire che intenzioni ha E poi tentate di convincerlo a uscire dal rifugio Quel giudeo è chiaramente l'architetto di molte delle stregonerie che avvengono qui Non siete d'accordo? Si Anche se Allevi è soltanto una parte del problema E beh intanto risolviamo quella parte Andate col signor de Sanabria E tornate con il nostro uomo Solo voi siete capace di tanto Maesta Ecco padre Eimerick Siamo sull'orlo dell'abisso Vedete la luce di quelle torce? Quella è la guglia di roccia su cui Allevi ha trovato rifugio Anche lui starà vedendo le nostre torce signor de Sanabria Sì, sa bene di essere stato scoperto Ma si ritiene al sicuro E ha ragione Il suo riparo è inaccessibile Non vedo la passerella che porta fin laggiù Il buio la copre Non è lontana da voi, sulla sinistra Attento Non avvicinatevi troppo all'orlo della voragine È un pozzo senza fondo Ci sono altre passerelle ma questa sembra la più corta Avete provato a percorrerla? Sì E ho constatato che è robusta Arretto il peso di quattro dei miei soldati Però dopo un breve tratto Allevi ti ha intimato di tornare indietro Dunque è possibile comunicare con Allevi? Sì, basta gridare E la volta smisurata di questa caverna Porta le parole in ogni angolo Allevi! Pedro Salomon Allevi! Mi sentite? Sento Perché siete qui? Che cosa volete? Voglio un colloquio con voi Me lo accordate? Stiamo già parlando Un colloquio faccia a faccia Devo dirvi cose riservate Va bene Però dovete venire solo E mi accorgo che con voi ci sono dei soldati Farò tagliare i cavi della passerella Sarò solo Arrivo Signor de Sanabria Provo a passare Voi rimanete qui per ogni evenienza Le asticelle sono robuste Ma tenetevi bene attaccato alla corda che fa da Corrimano Un solo passo falso e sareste perduto Vi sentite di rinunciare la torcia? Sì Così potrò aiutarmi con le due mani Buona fortuna, padre Eimerick Sotto di voi avrete l'apertura stessa dell'inferno Ma so che non siete tipo da averne paura Infatti Tanto più che al buio Eccomi finalmente Moshe Dai una mano all'inquisitore Così Con cautela Benvenuto Padre Eimerick Una vera piattaforma di roccia Vedo che vi siete attrezzato bene Signora Levy Due tende Un bel po' di servi Ah Vedo anche diverse bambole della vostra collezione Ho attrezzato questo rifugio Quando non ero ancora certo di doverlo usare Intuivo però che prima o poi Io e il mio popolo saremmo stati minacciati di nuovo Ogni volta che c'è una crisi Voi cristiani fate di noi giudei Il vostro capro espiatorio Pietro il crudele non è più cristiano di quanto lo siate voi Dove ci troviamo esattamente? Tra Kezzer, Binah e Ciocma Sono i nomi che noi diamo alle tre torri di Settentrione Quelle che racchiudono il villaggio di Montiel Ecco Questo abisso lo chiamiamo Daz In un corpo immaginario sarebbe vicino al cuore Kezzer, Binah e Ciocma sono le emanazioni superiori dell'albero della vita Non è vero? Sì Quanto al cuore Beh ho visto un lago di sangue Insidiva il palpito di un cuore gigantesco Lo udreste anche ora Se io volessi Ogni tanto faccio delle prove per risferiare Qualcosa che non immaginate nemmeno Le urla che sembrano provenire da non uscire del castello Sono il frutto dei miei esperimenti Dunque lo ammettete Siete voi l'origine delle magie che terrorizzano Montiel Io sono all'origine di quelle buone Altri governano quelle cattive Ramon de Tarragan Già vi dissi che lui solo non basterebbe Solo una cerchia di negromanti può scatenare forze malvagie tanto potenti Anche la vostra è negromanzia A parte le bambole Vedo che i vostri complici si affaccendano intorno a delle ruote enormi Su braccia disposte a croce Ricordo di aver visto qualcosa del genere a Gerona in gioventù Chi manovrava la macchina venne bruciato come servo del diavolo Non ne dubito I cristiani spesso bruciano ciò che non comprendono Ma volete sapere a che cosa servono quelle ruote? Sì Vi vedo incise delle lettere del vostro alfabeto Servono a comporre dei nomi I bracci girano sui perni in senso opposto E anche le ruote si muovono in senso contrario A due a due Un paio di ruote compone nomi angelici L'altro paio compone nomi demoniaci E quale sarebbe il senso di tutto ciò? Ah, voi cristiani non potreste mai comprenderlo E' attraverso le parole che avviene la creazione La prima manifestazione di volontà di Dio E' stato un suono Che si è ordinato in parola Il mezzo per conoscere Dio è lo stesso Conoscere le parole, i nomi degli enti Fino a quello nascosto della divinità Ma organizzare i suoni E anche creare E dunque avvicinarsi al creatore Imitandone le espressioni Non capisco se delirate O se state bestemmiando Ma non è questo che mi interessa Da voi voglio spiegazioni precise Giorni fa avevate cominciato a darmene Ma fumo interrotto Chiedete E cercherò di aiutarvi So bene che anche voi siete un nemico Tuttavia se non altro siete un nemico intelligente La vostra presunta figlia A proposito Perché si spaccia per vostra figlia Se non è vero? Dovevo proteggere Miriam E giustificare in qualche modo La sua presenza nel castello Avrete già capito che è qua Per svolgere una missione delicata Ciò che avevo intuito È che non era venuta Quale semplice agente del re d'Aragona Lei mi ha detto che il suo movente vero È la difesa del popolo giudeo Minacciato da Enrico Ma anche questa spiegazione è insufficiente Ditemi voi Quella reale Purtroppo Purtroppo su questo punto devo tacere Mi basti sapere che sono stato io A farla venire qui Per certi miei scopi Che Ah povera ragazza Il destino l'ha caricata Di un fardello terribilmente pesante Voi la proteggete Non è vero? Signor ministro Io Non proteggo nessuno Non ho amici Ne intendo averne Men che meno giudei Miriam mi ha fatto capire Di essere posseduta da Lilith È possibile? Padre Eimerick Me l'avevo detto Le parole possiedono un loro potere Ci sono nomi che non vanno mai pronunciati Soprattutto qua Ma chi grida dunque? Chi se non il demonio? A volte anche le rocce hanno una bocca Così come hanno un cuore Inquisitore Eimerick Vi prego di non nominare più quel mostro Lo nominerò invece Se volete che non lo faccia Rispondete alle mie domande È vera la storia della possessione Del Gilgul? Sì Sì è vera Non riguarda solo Miriam Ma anche Leonor Sapete già Immagino che lei ed Estrella Sono una persona sola? Sì Lo so Ecco Bene Chi sta evocando demoni caldei e cristiani Per combattere gli angeli Che difendono gli ebrei Si serve del Gilgul Per farci prigionieri Di entità maligne Angelo Ma di cosa state parlando? Padre Eimerick L'albero della vita non è solo una figura geometrica È un assieme Di parole A ogni galleria corrisponde una lettera dell'alfabeto A ogni lettera corrisponde un attributo di Dio A ogni attributo Corrisponde un gruppo di angeli Questa è la sostanza della cabala Parole rese vive E che danno la vita Non voglio capire nulla di quello che dite Solo una cosa Voi giudei avete disegnato questa fortezza In modo che evocasse i demoni a voi favorevoli Angeli Non demoni Nelle nostre intenzioni era così Ma non si trattava di evocarli Nell'albero della vita sono già presenti Quando ognuno dei suoi sentieri ha un nome Non tentate di comprendere Non ci riuscireste mai Quale che fosse il vostro progetto intuisco che è fallito Avevamo trascurato La sitra Ahara L'altra parte Ogni cosa ha il suo risvolto negativo L'albero della vita ha il suo riflesso oscuro Il colifot L'albero della morte A ogni sentiero protetto da un angelo Corrisponde un sentiero che va in direzione opposta In cui abita un demonio Ciò doveva essere vero Fin dal momento in cui è stato costruito il castello Sì Ma perché le entità ultraterrene prendano vita reale Occorre conoscerne i nomi I cinque domenicani che riportarono la nostra fortezza in mani cristiane Purtroppo Li conoscevano Non a caso li guidava un eperreo rinnegato Ramon de Tarrega Lui sapeva i nomi non solo Dei nostri settantadue angeli Anche dei settantadue demoni del colifot Li aveva presi dal libro maledetto Il Lemegeton Ha affisso i loro sigilli E quando è venuto il momento Li ha evocati Poi continuate a ripetermi questa storia del potere delle parole È una menzogna Fuori della preghiera Le parole non possono niente Credete? Ora vi mostro il contrario Amici Fate girare le ruote Ma che cosa stanno facendo? Perché? Ascoltate ora Udite nulla Udite adesso È il suo cuore È viva È viva È viva È stato di svegliarsi Padre Elimerick Sentite Come pulsa Il suo cuore Ma che cos'è? Alevi Che cos'è questa follia? Ora Ora ve lo dico Ve lo dico Amici miei Basta Basta così Interrompete la rotazione dei bracci Vita mia Ho visto tante manifestazioni diaboliche Ma questa le supera tutte Mentre le ruote Giravano Si vedevano scoccare dal perno Le fiamme stesse dell'inferno Quelle fiamme Erano pure energia Generata dai nomi divini Vedete? Quei fili metallici Che si diravano dalla base del perno Sono i 72 sigilli degli angeli di Dio Ora sono incandescenti Perché l'energia angelica li ha percorsi Ma si stanno raffreddando Somigliano ai 72 sigilli dei demoni delle Megaton Anche quelli sono attraversati da un'energia ignota Ma non vedo dove finiscono quei fili Finiscono nel lavoragile Il sigillo dell'ultimo angelo Momia Tocca il cuore di pietra che avete udito Quando l'energia della parola lo raggiunge Lui Lui si ridesta Ma lui chi? Vi grazia Questo Momia? Di chi? Di cosa state parlando? Parlo di lui Del golem Noi lo chiamiamo così Uomo di pietra La statua che vive L'estrema difesa del mio popolo E dove sarebbe Questo golem? Signora Levi Parlate chiaro Una volta per tutte Non lo avete ancora capito Vi facevo più perspicace Pensa Alla struttura dell'albero della vita Che è la stessa di questo castello Immaginate il corpo di un uomo Con le mani giunte e le braccia tese La torre più a nord Ketzer Corrisponde alla testa Le due torri successive Binah e Chokomah Sono le spalle Noi ci troviamo subito sotto Nell'abisso di Daaz A ridosso del cuore Seguono Geburà e Chesed Che rappresentano le costole Più in basso c'è Tifaret Il mastio Che è l'ombelico Di cosa state fermetecando? Voi siete pazzi Od e Nezac sono le anche Poi viene Iesot Che è la giuntura delle ginocchia Malkuth L'ultima torre a sud È il punto in cui i piedi si congiungono Dove sarebbe nascosto il vostro golem? Ma tutta Montiel È il golem Tutto il castello È tanto difficile capirlo I rumori nella notte Provengono dai suoi momenti di risveglio È stato lui E non l'esercito di Pietro A respingere il primo assalto di Enrico Dovevate vedere le torri che si torcevano E la terra che si apriva sotto gli aggressori Sembrava un duello combattuto Da un guerriero coperto di sabbia Se anche vi credessi Ci sono solo due forze capaci di prodigi simili Dio e Satana Dio con tutto ciò non ha nulla a che vedere E dunque Non avevate torto Dio è stato sostituito da Satana Qualcuno per aiutare Enrico Ha attivato il colifot L'albero della morte L'uomo invertito Malkuth La torre a sud è divenuta la testa Il suo nome si è trasformato In ciò che non può essere detto Ma io solo conosco Il segreto Per rianimare il golem Chi si attiene alle Megaton Ci ha provato M'è riuscito solo a disegnare facce grottesche sulle pareti del castello Il suo potere Il suo potere si ferma lì Ciò che dite signora Levi È inaccettabile per la mia fede E per la mia ragione Ma tant'è Potrete ripetere tutto ciò davanti a un tribunale dell'inquisizione Un tribunale regolare Con la farsa inscenata da padre Gallus E vi prometto Che avrete piena libertà di esprimervi Sapete meglio di me Che non verrò con voi Padre Aymeric Mi è già difficile convincere voi Figurarsi gli altri Però consegnandovi a me salvereste Miriam Vengo molto a Miriam Anche se non è mia figlia Però qui si gioca la sorte del mio popolo in Castiglia E forse nell'intera Spagna Se Enrico muoverà di nuovo l'assalto Gli scaglierò contro il mio golem Come farete? Capisco bene che le vostre bambole di pietra Devono avere un ruolo in tutto questo Non so ancora quale Non posso dirvelo Occupatevi invece del Colifot E da lì Dall'applicazione delle Megaton Che viene la minaccia davvero satanica Qui non potrete resistere a lungo Lo sapete bene O viveri a sufficienza Del resto la battaglia finale non tarderà troppo Vedrete Ora andatevene I miei compagni non vi torceranno un capello Davvero volete rimanere qui sotto? È la vostra ultima parola Sì Il mio popolo sfortunato non ha altra difesa Ah voglio dirvi una cosa prima che ci congediamo Sapete che due dei cinque domenicani che cristianizzarono a modo loro Montiel furono uccisi? No No Lo ignoravo Caddero in agguati tesi dalla mia gente Per i provevoli lo so Ma viste le circostanze Voi volete dire che? Tre domenicani su cinque sono ancora in vita Uno è Ramon de Tarrega Ma gli altri Smascherateli E scoprirete L'origine dei poteri diabolici che tormentano il castello Vi ringrazio Signora Alevi Vedo che certi miei sospetti cominciano a trovare riscontro Arrivederci Addio No Ho detto arrivederci Vedo che tornate solo padre Eideri Mi avevate assicurato che avreste messo le mani su Alevi Mi deludete Aiutatemi Signor de Sanabria Invece di blatterare a vambera Ecco Tenetemi la torcia La passarella è più instabile qui che sull'abisso Visto che non si riesce a catturare Alevi La cosa migliore sarebbe recidere le funi di tutte le passarelle Remarrebbe a morire di fame sul suo picco Non è così semplice Avete udito nulla Mentre ero laggiù Ah ne sono accadute di tutti i colori Una pulsazione che faceva vibrare tutta la caverna Rumori terribili A Montiel non mi stupisco più di nulla Ma per resistere a quell'inferno Ci è voluto tutto il mio coraggio Non ho catturato Alevi Ma adesso ho le chiavi dell'inferno di cui parlate Fatemi strada e accompagnatemi in superficie Sembrate avere molta fretta Infatti Devo regolare i conti con qualcuno di mia conoscenza Alla via Alla via Il geloso Lassas nos Lassas nos Bailare Entre nos Entre nos Isaac Felice di vedervi signor inquisitore Siete tutto sporco Non badare alla sporcizia Come sapevi Da dove sarei sbucato Sapendo da dove siete entrato Immaginavo anche da dove sareste uscito Qui sono successe cose che non immaginate nemmeno Tutto il castello ha cominciato a vibrare Tanto che sembrava che crollasse da un momento all'altro Alcune torri si sono addirittura piegate È durato per poco Ma poi tutto è tornato normale Signor de Sanabria I prodigi che abbiamo visto nelle grotte Hanno avuto le loro conseguenze all'esterno Era logico aspettarcelo Niente paura Isaac Ormai so di cosa si tratta Magister La gente di Montiel È terrorizzata Per placarla Re Pietro Ha deciso di bruciare immediatamente Miriam Non è possibile Re Pietro mi aveva promesso di Padre Eimerick Non tenete mai conto delle promesse di un re Laggiù si sta radunando una vera folla Se permettete vado a vedere cosa succede Andate pure Ci vediamo dopo Isaac Voglio vedere anch'io Hanno finito di montare il palco Sì E portato la legna Vieni con me Isaac Cercherò di ricordare al re Le sue promesse Vi pregherei Di non portarmi con voi Mi vedete all'aperto Perché quest'ala del castello adesso È quasi deserta Ma attorno al palco Tira brutta aria per noi giudei Il re ha ordinato di bruciare Non solo Miriam Ma anche tutti i miei compagni Pietro me la pagherà Ascoltami Isaac Ricordi il percorso Che conduce al campo di Enrico È un po' complicato Ma posso ritrovarlo È questione di vita o di morte Cerca di raggiungere Duke Eclen Digli che ti mando io Non mi crederà Sì invece Perché gli riferirai cose Che solo io posso conoscere Digli che Pietro il crudele Sarà tra poche ore nella sua terra Digli anche che non ha nulla da offrirgli Tutte le promesse che gli farà Sono inconsistenti Riferirò Bene C'è altro? Sì Spiegagli anche che le difese del castello Sono ormai quasi sguernite È in corso un'esecuzione capitale Buona parte dei soldati dovrà assistervi Se non altro per sorvegliare la folla Mi hai capito bene? Sì, certo Ma un'informazione del genere Può provocare un assalto di Enrico Se ciò che ho in mente non riesce Isaac I tuoi amici giudei saliranno sul ruolo E anche Miriam E anche Miriam Ovviamente Vai Vai Non c'è tempo da perdere Vado Magister Servo Vieni qui Se non sbaglio ci conosciamo Sì signor inquisitore Sono Amid Ho avuto piacere di rendermi utile Dopo vostro arrivo Amid Puoi essermi ancora utile Chi c'è là? Sul palco che fronteggia il ruolo Intendo dire accanto al re Pietro e a padre Gallus Gli ufficiali saraceni Venuti dalla Granata E i nobili cristiani Rimasti fedeli al re legittimo Poi c'è l'alcada di Bottiel So con i compaesani più influenti La piattaforma per il ruolo è gigantesca La piattaforma per il ruolo è gigantesca Sì signor inquisitore Sì signor inquisitore Fate largo Fate largo Fate largo Sì lo andiamo a terra Nonicolos e Imerich da Gerona Padre Imerich della Santa Inquisizione Sì lo andiamo a terra Sì signor inquisitore Padre Imerich Benvenuto Salite qua su Donatevi il ruolo al nostro fianco Sì signor Mi avevate promesso Padre ci stupite Sapete meglio di noi Che una promessa ha sempre un valore contingente Penso che Padre Imerich stia soffrendo con la sua bella Ha davvero perso la testa Disperderà la testa sarete voi Padre Gallus Sire Vi devo parlare con urgenza Ci parlerete dopo il ruolo Adesso calmatevi E ricordate che siamo in pubblico Mi state rendendo ridicolo Buffo quel frate che sbraita laggiù Non è vero cari Sire Sarà meglio che mi concediate il colloquio privato Che vi chiedo Ho conferito con Bertrand Tu che crede Vorrete che vi gridi davanti a tutti Ciò che mi ha detto Mascazzone Comandante Pugnala immediatamente quel frate È un ordine Fermo pregio Fermalo Giù le mani Fedele Sire Se muoio io L'accordo salta E voi siete perduto Lo scozzo maestà No 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 Basta Andreimerich Vi concediamo il colloquio Per il momento L'esecuzione È sospesa Sospesa Ma mi è seguito Il corteo dei condannati sta per uscire Abbiamo detto che l'esecuzione è temporaneamente sospesa Non vi ci mettete anche voi Padre Gallus Per le corna del temore Libero Sommalo Cominciamo ad avere l'abbastanza Questa domenica Venite A Dreimerich Discuteremo sotto quel portico Laggiù Ma badate bene Di non farci perdere altro tempo Sire Ormai mi conoscete Ogni parola che pronuncio Ha un peso Soldati Avete sentito il vostro re Fatemi passare A Dreimerich A Dreimerich State attento Padre Nessuno ha mai contrastato impunemente la nostra volontà Sono onorato di essere il re Veniamo le cose serie Ma è sta Bertrand Dughe Klen Accetta di discutere le vostre proposte Vi aspetta nella sua tempo Non siamo così pazzi da andarci senza nessuna garanzia La garanzia è l'interesse reciproco Ve l'ho già detto maestà È l'unico modo che avete per assicurarvi la vittoria La posta in gioco Giustifica il rischio Forse avete ragione Una scorta La possiamo condurre con noi? No No di certo Verrebbe subito individuata Al massimo potete portarvi dietro Un ufficiale fidato Che so Men Rodriguez de Sanabria E no ma Il signor Rodriguez de Sanabria In pratica è il nostro luogotenente Il castello Rimarrebbe senza comandante Niente fa pensare che Enrico Intenda attaccare proprio oggi Mi confida sulle sue magie Più che sulle armi Che finora gli sono servite a ben poco E voi verrete con noi? Certamente Aspetto solo il ritorno del servo Isaac Che ci farà da guida Preparatevi Sire Ci conviene muoverci in fretta Il percorso è lungo E il colloquio temo lo sarà ancora di più Padre Eimeric Sappiamo che siete una specie di demonio Ma che siete assolutamente leali alla chiesa Noi vogliamo da voi Un giuramento solenne Giurateci Che non ci state preparando una trappola E che farete impossibile per salvarci la vita Se fosse in pericolo Sire Ve lo giuro Sulla salvezza della mia anima Bene E' questo quello che volevamo sentire Venite Torniamo dai nostri nobili Avvertiamo il signor De Sanabria E entro un'ora saremo pronti La folla è impaziente Sire Possiamo introdurre i condannati No padre Gallus Ma come? L'esecuzione è rimandata Che questa gente Se le torni alle proprie case Se non vuole assaggiare la lava Nelle nostre spada Sire Non vi sarete fatto incantare Da quella serpa di Eimeric Per informazione vostra Frate Voi state parlando con noi E noi Siamo il re Noi non ci lasciamo incantare proprio da nessuno Allora sparite Oppure quante peridiotarete voi a salire sul ruolo Lei per la nostra malo Signor De Sanabria Agli ordini Sire Vi dobbiamo parlare Seguiteci nei nostri appartamenti Vi seguo Disperdetevi Non ci pensieranno i miei uomini Eccovi qua Magister Vi stavo aspettando Hai parlato con Duke Eclan? Sì Mi ringrazia E vi assicura Che quello spiantato di Vespietro Avrà il fatto suo Non appena sarà nella sua tenda Scatterà l'attacco di Enrico E i temercelari francesi Alcuni saliranno la collina Altri passeranno per le gallerie Prendere il castello Secondo il signor Duke Eclan Sarà uno scherzo Lo penso anch'io Riposati un poco ma tieniti pronto Dovrai guidare me Pietro il crudele E uno dei suoi nobili Fino alla tenda di Duke Eclan Posso farvi una domanda? Parla Si trionfa Enrico di Trastamara Per noi giudei di Castiglia Saranno tempi duri Lui e i suoi compagni Ci odiano tutti Hai visto anche tu Che cosa stava per accadere qui Re Pietro si preparava A far uccidere i tuoi confratelli Per semplici ragioni di convenienza Nessuno dei due rei È migliore dell'altro Nei vostri confronti La sconfitta di re Pietro Però eviterà il ruga Una dozzina di giudei Accontentati di questo Ho già capito Che dovremmo cavarcela da soli Come sempre Già come sempre Ma non chiedere a me Di compatirli Isaac Vai a riposarti invece vai Ti farò avvertire Quando il re sarà di ritorno Ah Dimenticavo Dì a donna Leonore Che può uscire dal suo nascondiglio E tornare nei propri alloggi Ormai qui il pericolo è identico ovunque Ai vostri ordini magister Siete stanco sire? Abbastanza Non avremmo mai immaginato Che le gallerie sul castello Fossero così vaste Voi signor di Sanabria? Io le ho esplorati un poco Perdendome più di una volta È vero È tutta colpa di Aleni Adesso se ne sta su un picco inaccessibile Entro una caverna Che non proverò a descrivervi Ma lo farò morire di fame Che bastarda Se gli metto le mani sopra io Adrei Quanto manca? Ho ancora poco sire Non è vero Isaac? Sì magister Stiamo per arrivare Vedete quel bagliore soffuso? Dove? Là Là è l'uscita Allegratevi sire Per breve La vittoria sarà vostra È mirallegro Sì che mirallegro Sire quella che vedete È la tenda di Dughecle Non ci sono soldate di guardia È la prova che attendeva nel vostro armi Abbiamo un orribile presentimento Padre Eilrich Non ci sentiamo troppo bene Sire Venire qui è stata un'imprudenza Ma siamo ancora in tempo A tornare indietro Signor de Sanabria Ho giurato al re Pietro Di pegliare sulla sua vita I vostri timori Non hanno fondamento Isaac Ordinati magister Entra nella tenda E annuncia al signor Dugheclem Che Pietro di Castiglia è arrivato Guardati intorno E accertati Che non ci siano uomini armati Poi torna a riferire Sarà fatto magister Siamo distanti dal centro del campo Però mi pare di notare Un movimento di truppa inconsueto Che si prepari un attacco È improbabile Però è una ragione di più Per affrettare l'incontro Sire Pensate che da un momento all'altro L'esercito di Enrico Può diventare vostro Mi sto offrendo la testa Del vostro fratellastro Su un piatto d'argento Che la taglieremo Con le nostre mani Ne faremo dono a Leonor E la costringeremo A baciarla Ci ha traditi con Enrico vivo E beh può continuare Con Enrico morto Il comandante Dugheclem Aspetta lo signore È solo e disarmato Dunque Andiamo Quale onore Il re di Castiglia Nella mia tenda Grazie padre Imerich È un momento Che passerà alla storia Non abbiamo tempo da perdere Volevate vederci Ed eccoci qua Sapete già cosa vogliamo da voi Il vostro esercito In cambio vi promettiamo Terre Tutte le terre che ci chiederete Perché ridete? Terre dite Ma le terre saranno Di chi vincerà questa guerra Ciò che mi offrite ora Non ha nessun valore Vi offriamo anche dell'oro Sapete che i giudei Sono dalla nostra parte Il nostro ministro delle finanze Può dare Non può darmi nulla Mi risulta che si sia nascosto Sotto Montiel Quanto ai giudei Beh Vi avete maltrattati un po' troppo Perché vi siano ancora fedeli Insomma signore Diteci voi stesso Che cosa pretendete da noi E faremo in modo Di accontentarti È un po' tardi sire Voi non governate più nulla In questo stesso istante I soldati di Enrico Stanno entrando nelle gallerie Che conducono a Montiel Ma come? I miei uomini Si stanno preparando Ad attaccare la collina Fino a poco fa Eravate uno spiantato Ma un re Adesso non siete più Nemmeno quello Basta! Questo rendicolo colloquio È finito Padre Eimerick Voi risponderete Di questa farsa Noi Torniamo al castello Temiamo sire Che non sia possibile Avete troppi crimini Sulla coscienza Forse è giunto Il momento di pagarli È quel che penso anch'io Re Pietro Vedete quel tendaggio? Dietro c'è un vostro congiunto E con lui ci sono Quattro balestrieri Tradimento! Voi non potete Enrico Che bello Rivederti Pietro Mi sembri un po' agitato Cos'è l'emozione Di incontrarmi? Mio sire Non temete La mia spada Mi proteggerà Balestrieri Uccidetemi Quell'imbecille No! Oh che peccato Pietro Il tuo ultimo difensore È morto Tu pagherai per questo E tu Prete del demonio Tu avevi giurato Di difenderci Avete sottovalutato Troppo il peso Di una scomunica sire Un giuramento Fatto a uno scomunicato Non ha nessun valore Balestrieri Ricaricate No! Un momento Re Enrico Maesta Sarebbe meglio Se tagliaste la testa Al vostro fratellastro Vi verrebbe così chiaro Che non è morto in battaglia Tutti capirebbero Che si è trattato Dell'esecuzione Di un uomo laido Che per tutta la vita Ha sguazzato Nel peccato Demonio Ma tu sei satan In persona Vuoi farmi scontare Quello che ho fatto Alla tua amante giudea Ma noi Ti uccideremo Balestrieri Prendete Pietro Ecco Fatelo in giro chiaro State bene Padre Emeric Benissimo Sire Volete la mia spada? No! Ho la mia Spero di farcela Con un colpo solo No! Ma guarda Non credevo Che fosse così facile Tagliare una testa Vi suggerisco Maestà Di portarla in giro Senza teste tagliate Nessun sovrano È veramente tale Signor Dugueclin Ora tocca a voi Consegnarmi Ramon de Tarrega Lo farei volentieri Padre Emeric Ma al momento Non posso È stato visto Tra i soldati diretti A Montiel Per i condotti Sotterranei Non appena Il castello Sarà nostro Avrete il vostro Stregone E ne potrete fare Ciò che preferite Ramon a Montiel Sarebbe un pericolo Gravissimo Specie se mettesse Piede nella torre Meridionale Potrebbe evocare I demoni Di cui è padrone Cercherò di raggiungerlo E di bloccarlo Se non me lo impedirete No Quello stregone Non ci serve più a nulla Io raggiungo i miei soldati Sulla collina Padre Emeric Ci vediamo al castello Bertrand Bertrand Non vorrei lasciarmi solo Con la testa di Pietro Ai miei piedi Sembra che mi stia guardando Giocaci a palla Enrico Re Enrico Permettetemi Di darvi un consiglio Da questo momento Siete a tutti gli effetti L'unico sovrano Di Castiglie Usate il plurale Maiestatis Come si conviene Ai monarchi Io non Noi 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 Non ci siamo abituati Avete già imparato A decapitare la gente La vostra educazione Di tiranno È quasi completa Vieni Isaac Abbiamo poco tempo Noi Invece Tutto il tempo Che vogliamo Magister Per questa galleria Non si raggiungono I soldati di Enrico Ci stiamo dirigendo Verso l'abisso Che c'è a nord È proprio lì Che voglio andare Isaac Scommetto che a Levi Sta per scatenare Il suo golem Se ne sente il cuore Tu lo sai Cos'è un golem? Sì È un uomo Di terra in pietra Ma credo Che si tratti Di una leggenda E le leggende Dicono come lo si porta in vita Beh Ci sono varie versioni La più diffusa Fra i cabalisti Dice che occorre Combinare tra loro Le 22 lettere Dell'alfabeto Formando i nomi di Dio Sapete Le 22 lettere Corrispondono Alle membra Del corpo umano Risparmiami Queste inutili complicazioni Ma la storia È molto più complicata Esiste un nome segreto Di Dio Fatto di 72 Combinazioni Di tre lettere 72 sono anche Le cinquine In cui sono suddivisibili I gradi dello zodiaco Di conseguenza 72 sono gli angeli E 72 sono i demoni Ognuna delle 22 membra umane Corrisponde sul piano astrale Isaac Falla finita Non mi interessano Queste sciocchezza Dimmi invece Nelle leggende sul Golo Si parla di piccole bambole Capace di far muovere Un organismo più grande No Ma può corrispondere A uno dei principi Della cabala Ciò che è piccolo Coincide con ciò che è immenso Il micro prosopo Col macro prosopo Il piccolo volto di Dio Con quello grande E ruote di legno Che recano incise Le lettere dell'alfabeto ebraico Potrebbero avere a che fare Con questa similitudine Sì Se si combinassero Le lettere a gruppi di tre È un sistema molto antico Certo Non basta Ad animare Per tutto una statua Perché Ciò avvenga Occorre che il rabbino Pronunci i settantadue nomi di Dio Ad altavoce Modulandoli In base A notarico Una forma di recitazione Che rende le parole Cose vive Abbiamo raggiunto L'abisso di Daz Non è vero? Sì magister Guardate Si vede il picco Tutto illuminato State attento Agli odi del precipizio Le ruote Stanno girando Mi sembra che Allevi Gridi qualcosa Non senti Isaac? No Non è Allevi È una donna Venite Avviciniamoci Sì Ora Mi sembra di udire È una voce femminile Ma è Miriam Sta chiamando I settantadue nomi di Dio Sì Sta riportando in vita Il golem Devo cercare di raggiungere Miriam Resta qua A Iser Passarella è insicura Vado da solo Padre Eimer A Levi Non vi lascerà avvicinare Mi vedrà nemmeno Per le prese con le sue ruote I servi le fanno girare Lui annota i nomi che compongono State attento a dove mettete i piedi Il picco sembra scintillare È tutto avvolto da fili roventi I sigilli degli angeli La moto dei bracci sembra alimentarli Qualche specie di energia Io vado Attendimi Mi fiducia Miriam Miriam Sono io Com'è fatta a fuggire Miriam che hai Sembra infasata Miriam Miriam Che ti succede Torna in te È inutile Non può sentirvi A Levi Quale stregoneria le avete fatto Chiaramente fuori di senno Scommetto che la statuetta che avete tra le braccia C'entra qualcosa Non c'è stregoneria Padre Eimerick Miriam Sta vivendo Il Gilgul La possessione Chi la possiede L'angelo Metatron Il signore della prima sefirà Detta che Zer La corona Colui che incarna La Shekinah L'anima femminile Del creato Mi state delirando Fatela tornare in sé È presto fatto Metatron Risveglia Miriam Non serve più Invocare le settantadue parole Il golem ormai è vivo La statuetta Fuggire dalle mani di Gallus Di sopra regna il caos Più totale Si è sparsa la voce Che Enrico sta per attaccare Inoltre il castello sta prendendo vita E tutte le torri oscillano Gallus È corso nel torrione di Leonor Che brilla come se fosse in fiamme Certo Si prepara a evocare i suoi mostri Tu non sei normale Tu sei come Trasfigurata C'è Metatron in me C'è da sempre Per questo sono venuta a Montiel Il rabbino Alevi sa che il mio corpo È abitato da un angelo Il più potente di tutti Come vedete Padre Eimerick Miriam si è sottoposta al Gilgul Di sua volontà Non sono stato io a costringerla Metatron vive in lei Fin da quando era bambina In questo momento Sta radunando le proprie legioni Contro i demoni delle Megaton Ma che cosa avete in mente? In nome di Dio! Breve! Enrico sarà padrone della fortezza Non sa che è un golem E che ogni sua pietra adesso è viva Si troverà contro un nemico Fatto di terra e roccia Animato da 72 angeli È una battaglia perduta Non riuscirete a sconfiggere Enrico Ha ucciso Pietro il crudele Ormai la vittoria gli appartiene Non pretendo di vincerlo Voglio solo che veda cosa può accadere A chi cerca di annientare il popolo ebraico Il prezzo sarà La distruzione del castello E la mia stessa morte Ma il golem farà fuggire i suoi soldati E gli angeli sconfiggeranno i demoni scatenati Da Ramon de Tarrega Voi vaneggiate Io capisco solo una cosa Tra breve qui crollerà tutto È così, non è vero? Sì Sì Udite? Come batte il cuore del golem Sta per alzarsi in piedi Tutto il castello sta per alzarsi Miriam Vieni Dobbiamo allontanarci Non posso Metatron potrebbe avere ancora bisogno di me Proprio per questo È necessario che tu viva Io posso morire Alla mia età Ma tu Hai dentro l'angelo Vai Miriam Padre Eimerick Portatela con voi Se i tre monaci superstiti si radunano I nemici di Metatron Lilith e Samael Potrebbero sconfiggere le forze del bene Vieni Miriam Addio A Levi Non credo a una parola Di ciò che mi avete detto Ma penso che siate in buona fede Vi lascio Alle vostre bambole E che Dio abbia pietà di voi Le bambole Sono tutte figi del golem Che figi dell'uomo Che figi degli astri Che sono i figi di Dio Ma già voi non potete capire Andate padre Eimerick Proteggete Miriam Rabbino Spero tanto che non moriate Ho già vissuto anche troppo Addio Miriam Sei davvero un po' Mia figlia Aiuta Metatron A proteggere il nostro popolo Andate Andate Tra breve il golem Si solleverà Ma Cister Eccovi finalmente Dobbiamo andarcene subito Il suolo si scuote Tra breve qui Crollerà tutto quanto Isaac Guidaci fuori Tieni alta la torcia E cammina più rapido che puoi Ho un inquisitore Amit Cosa succede? I soldati di Enrico Stanno uscendo dalle grotte A nord Altri hanno salito la colina E cercano di sfondare il portale Per di più ci sono continue scosse di terremoto Sai dov'è padre Galus? Sì signore L'ho visto entrare in quella torre laggiù Dove abita dona Leonor Con lui c'era un vecchio barbuto Quel vecchio deve essere Ramon Di sicuro stanno per attivare i sigilli dei demoni Amit Seguici Se permettete signore Io me ne vado E stiamo cercando tutti di lasciare il castello Chi per le gallerie Chi scendendo la colina Oh ecco ancora il terremoto Addio signore inquisitore Buona fortuna Guarda Nicolas Guarda la cima della torre di Leonor Non vedi? Sono zampe pelose Le zampe di un ragno gigante E' Baal Il ragno ha tre testi Devo correre la Devo distruggere quel libro Il Lemegaton Fuggite voi due Io me la caverò No vengo con te Non ricordi Quando Metatron deciderà di colpire Avrò bisogno di me Vengo anche io Magister Sarò più sicuro con voi Che con questi soldati Che scarpano da tutte le parti E' incredibile La torre a nord Sta girando su se stessa Mi sembra un gigantesco volto umano Di che cosa ti meraviglia? E' il vostro golem No? Vostra creatura blasfema Se davvero volete seguirmi Non c'è tempo da perdere E noi ti vedremo cose anche peggiori Vieni Miriam Vieni Isaac Laggiù è apparso Un reone gigantesco Con un artiglio di grifone E dietro c'è un colosso obeso Che cavalca un asino Sono Furcas e Vapula Due dei settantadue demoni Per fortuna la porta della torre è aperta Siate pronti a tutto State per vedere E la torre suprema Io Ramon de Tarraga Invoco e scongiuro te Parmelos E te Asparoth E te Asmodai Armato dal mio copere Datemi dalla maestà suprema Di comando camparta Nel nome dei sopravisciti Venite 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 Io Ramon de Tarraga Invoco e scongiuro te Parmelos E te Asparoth E te Asmodai Armato dal mio copere Datemi dalla maestà suprema Di comando camparta Nel nome dei sopravisciti Venite 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 Mi dispiace interrompere la vostra evocazione Ramon de Tarraga Chiedo scusa anche al vostro amico Padre Gallus di Neuhaus Sto cercando Donna Leonore Immaginavo che sareste venuto Padre Emerit Vedo che vi portate dietro due giudei Una donna condannata come assassina è un servo Credete forse che possano ostacolare la nostra missione? Sarò io a ostacolarla Padre Gallus Voi chiamate missione l'evocazione di demone Io la chiamo Bestevole Aspettate A giudicare Voi ignorate ancora i dettagli di ciò che è accaduto qui nel 1348 I demoni che stiamo richiamando Servono a contrastare le potenze evocate dai giudei L'intero castello è un ricettacolo della negromanzia ebraica Non potete sapere quanto sia pericolosa per noi cristiani Lo so invece E ciò che non so intuisco Per esempio ho capito che voi Padre Gallus Siete uno dei cinque domenicani indegni Che furono incaricati di bonificare questa fortezza Mi avete seguito in questo viaggio solo per ricongiungervi al vostro confratello Tramonde Terrenia Francamente ho compassione di voi I vostri sentimenti sono ininfluenti Padre Gallus Ormai la nostra opera si sta compiendo Vedete i sigilli sui muri? Sono rovetto Attraversati dall'energia dal fulmine Baal le ha già avuta sufficiente E si agita sulla torre Altri suoi soldati hanno ripreso vita Entra un'ora Tutta l'entità delle Megaton Saranno scese in campo Non ce la farete I nostri angeli e il nostro golem Sono più forti No, Giudea Siamo più forti noi Fummo scelti in cinque Perché Dio ci aveva dotati di un'anura magica Due Gli avete uccisi voi, Giudei Non importa Noi tre sopravvissuti Siamo in grado di formare il circolo del potere E il terzo dov'è? Lo vedrete subito Leonor Leonor Puoi venire Smetti di nasconderti dietro quella porta Padre Aiutatemi Sanno come infadromirsi di me Ho dentro un'altra anima Oltre la mia Donna Leonor Che cosa state dicendo? È il Gilgur Ramon sa come usarlo Ricordati che è ebreo Lo è L'ebraismo non è una razza Ma una fede Io l'ho rinnegata da un prezzo Hai usato il Gilgur Per renderci prigioniere di limite Ci hai fatto uccidere dei bambini cristiani Per attirare l'odio sui Giudei Sei un mostro Un demanio Dentro di me adesso non c'è limite C'è un vecchio Un vecchio malevolo e crudele Benvenuto Frate Dalmazio Padre Emeric Forse ricordate Frate Dalmazio Monevi Il vostro antico maestro dominicano Voi veneggiate Gallus Frate Dalmazio Monevi è morto D'Anno Padre Emeric Aiuto Il vecchio mi sta invadendo Salve mio vecchio discepolo Che peccato non essere più dalla stessa parte E salve a voi Ramon e Gallus Come avete fatto a riportarmi in vita È quello che i gioventi hanno in Gilgur Perdona se ti trovi in un corpo di femmina Sono stato confessore dei Lopez de Cordova E ne ho approfittato per rendere nocele questa donna Ho indotto Enrico di Trastavara A farle patire le pene dell'inferno Pietro il Crudele ha fatto il resto Tutto perché potesse ospitarti Senza ribellarsi al suo destino Basta 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 Dobbiamo formare il cerchio di potere Ramon Quel corpo di donna ancora in mano Il Megatum che ti aveva sottratto Forse sperava di trovarmi le formule per annullare il nostro lavoro Povero illuso Padre Emeric State per assistere a un prodigio che non dimenticherete Tutte le identità che ancora mancano all'appello prenderanno colpo Vieni Galos Eccomi Vieni anche tu Dalmazio Sono qua Teniamoci per mano Fa qualcosa Nicolas Non c'è proprio nulla che Emeric possa fare Posa terra qui dentro Dalmazio e tienti stretto a noi Magister Il braccio di donna Leonor sfiora quasi i sigilli sul muro E allora Isaac? Ramon ha parlato dell'energia del fulmine Il fulmine brucia tutti coloro che sono a contatto tra loro Bravo Isaac Raccogli il libro Quando griderò basta Scaglialo con tutta la forza di cui sei capace contro donna Leonor Tu sei contro Dalmazio Bisogna che perde l'equilibrio D'accordo Magister La zampa del ragno sporge dalla scala Io invoco e scongioro te Pagarecchio Per te Passero Basta il nome di Dio Basta Stanno bruciando Bruciano tutti e tre come torce Meritavano comunque il robo Anche la zampa del ragno sta bruciando E anche il libro Corriamo fuori Le fame dilagano La energia dei sigilli è impazzita La torre arterà tutta quarta La torre arterà tutta quarta La torre arterà tutta quarta Di venire i soli di me Magister, quelle colonne di fuoco, guardate Dovevano essere dei mostri Anche i demoni bruciano È pazzesco Le torri sembrano membra vive Tutta l'ala nord si è sollevata È il golem È il golem che sta combattendo Guardate come agita le braccia Miriam, fermalo Tu sai come fare Pronunciare le 72 lettere del nome di Dio in ordine inverso Ma non c'è motivo Sta per crollare tutto quanto Il castello si inabisserà nelle voragini del sottosuono Ma così moriremo tutti No, Isaac Hai dimenticato, Metatron Lo sento in me Sta per uscire Io non vedo che Satana Mi sto assistendo al suo triunfo Ti sbaglio, Nicholas Guarda quelle luci che circondano i mostri in fiamme Sono tutte entità benefiche Sono l'armata di Dio Ne dubito Ma ora non c'è tempo Corriamo al portale Prima che il suolo sprofondi Ci saranno i soldati di Enrico Secondo me se la sono data a gambe da un pezzo Il cortile sta sussultando Presto! Come immaginavo L'uscita non è sorvegliata Ma il portale è crollato Non sarà facile passare Si è aperta una voragine Il castello sta sprofondando Siamo perduti Aggrappatevi a me Avete dimenticato chi sono? Io sono Metatron L'angelo di Kezzer Miriam Il tuo viso brilla Aggrappatevi a me vi dico Non cercate di capire Aggrappatevi bene Che cosa è accaduto? Siamo ai piedi della collina Io ho avuto la sensazione Che qualcosa mi sollevasse Ve l'ho detto Non cercate di capire Metatron si è manifestato E vi ha aiutati Il castello non c'è più Si è inabissato Con tutti i suoi demoni Il golem aveva completato La sua missione Purtroppo Anche Alevi Deve essere morto Non voglio più sentir parlare Di queste sciocchezze Golem, Lilith Gli angeli, la cabala Gli ho visto satana in azione Nient'altro Chiederò a re Enrico Un salvacondotto Per tornarmene a Saragozza Ormai il regno di Castiglia È suo Non farà difficoltà Lo potete trovare laggiù Padre Enric Vedete Sosta con il suo esercito Nella pianura Ora che il castello Di Montiela è distrutto Si metterà in marcia Verso la ciudad real Mi metto in marcia anch'io Vieni Miriam Posso dire una cosa a te sola Così Ti prego Messia Isaac Allontanati un momento Sì, Magistra Eccoci soli Che cosa volevi dirmi, Miriam? Io ti amo Non posso essere amato Dovunque la mia gente si nasconda Addio, Nicolás Spero che un giorno tu sia felice Non è quello il mio scopo Comunque sei felice anche tu Puoi tornare, Isaac? Sì, Magistra Io e te andiamo da soli Dobbiamo cercare dei cavalli Ma, ma Miriam Miriam ma resta qui Vieni, ti dico Magistra, Miriam è ancora laggiù che vi guarda E voi non vi girate nemmeno? No Posso farvi una domanda indiscreta? No, niente affatto E io ve la faccio lo stesso Come ci si sente a essere amato da un angelo? Ho molta più familiarità col diavolo Il castello di Enio Di Valerio Evangelisti Abbiamo trasmesso la trentesima e ultima puntata Personaggi e interpreti Eimerick Gaetano Varcasia Gallus Gigi Angelillo Ramon De Tarrega Luciano Roffi Miriam Manuela Rossi Leonor Gabriella Borri Isaac Alessandro Quarta Musiche originali di Alessandro Molinari Programma a cura di Visia Bacchiega Regia di Paolo Modugno L'indirizzo e-mail è sceneggiato-rai.it Assista di Bonavia Beispiel Beobrimis Ministro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.